bella me so appena alzato sono verde ma immagino immagino che ora avevo appena appena no sei le cinque e invece invece erano le 9 non qua stasera è proprio frizzante vai frizzantino quando arrivi alle tre alle quattro pensi che siano le tre di pomeriggio vabbè mi tiro un apterone per forza ma secondo me ti conviene per forza perché devo recuperare arrivo subito ma devi devi stare praticamente da adesso fino a domani sera sveglio praticamente vi faccio servizio da ora fino a domani alle 4 di notte no 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 se fai fino alle 4 di notte va a finire che muori cazzo non conosci la mia tenacia lo dico per gli orari no non c'è muoro vabbè se non ti vedrò più vuol dire sei morto comandante vuole delle news vuole delle news vuole delle di valet times on day b folk e dov'è la news mi scuola la 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 salve 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 niente a dormire salve salve e soprattutto non si vedono sotto e la come come gg guardi cosa non sto capire no ragazzi prego sto stordino spiegate un attimo delle agente azzurre no c'è il censimento delle altre città quella lì non toccatelo e lo toccherò solo io nel caso mi sento toccato aspetta che ritocco almeno o no comunque oggi d'accordo e silenziosa no non l'ha chiamata coda seriamente mi trovo del culo pure a me e ma non risponde ho capito ma non la chiamata coda nero del culo pure a me sua ma sua capace che mi uccide ora rende scherzando in due giorni mi sono fatto 400 dollari quasi domani mi pago il cavallo guarda il comandante si ha già aperto gli occhietti ma si lasciatevi il pollo se non l'avete già fatto raga me sento stordito me sento come un burrito arrivano i messicani a me magnano io le arresto gli sfragno mamma mia che cantautore raga che cantautore che cantautore cazzo jj smettila ha comandata ma sempre due ore e mezzo per far quella roba e daje a comandata stai a farla qua ma no lorco che cazzo mi ne equivo già a fare pure io le bende sapete se sono arrivate ok signori eccomi allora dove sono tutti tutti qua si manca blade e manca come andava novità novità di cosa no in generale no alcuna novità sono solo che potremmo prevedere una licenza di caccia il problema qual è? ottimo è che la possa valentine potrebbe prevedere una propria licenza di caccia come dicevo io ieri o noi le facciamo pagare di meno rispetto a valentine ma è molto più easy comandante quando valentine palla licenza noi ci arriva una piccola parte siamo statali non siamo cittadini noi ve lo ricordo tra l'altro hanno iniziato a fare i censimenti fortunatamente sanno come si fanno insomma fanno anche le fotografie ehi dei buzzuri che fanno le foto hai capito te pensavo di essere un unico di valentine in grado di usare una fotocamera ma di città infatti a quanto pare si il fotografo è un maiale a parte che porca troia lo sceriffo c'ha un fucilazzo meglio dei nostri parliamo eh vabbè parliamo le stesse c'era oggi anche un buzzurro in quella cittadina viaggiava con indosso un fucile che utilizza contro gli elefanti addirittura ha detto un elephant rifle l'aveva? esatto sì sì ma che stracazzo mi sta dicendo comandante? ma serio? sì 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 ma cosa stracazzo? io oggi l'avrei lasciato in mezzo ai luci e gli rubavamo il fucile ma a proposito abbiamo affrontato una ventina di lupi che hanno diciamo attaccato valent non so cosa facevo io in quel momento eh ah capisco capisco hanno in cerca proprio così eh capisco anche i versi che mettevo erano uguali va bene ellison eh qui fuori pensierosa capisco capisco comunque devo dirti la verità GG eh sì dica lei è andata a dormire troppo tardi eh ma infatti mo mi dirò servizio da oggi fino a domani alle 4 lo lasciamo perdere va eh sì sì è l'unica se no qua mi spaso totalmente eh beh sì va a finire che mi alzo alle 4 domani se no quando finire il vostro servizio insomma è vero eh le cirino è stato io sono serio a comandare eh praticamente e purtroppo sono serio perché mi conosco insomma capito beh io ti ho detto come devi fare sveglio fino a domani tipo l'una alle due e poi a dormire eh no eh perché no l'una alle due di mattina o di pomeriggio dice no di mattina no 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 mi sveglio davvero alle 4 poi è proprio quello il problema ecco eh però vuole andare a dormire verso le 3 barra 4 così mi sveglierò mattinata insomma ecco ti sei tornato alle 4 di pomeriggio intendeva prima no no ma quali quattro di pomeriggio avevo intenzione di fare un patino eh sì diciamo tiro di after on io poi non è che mi vingerson eh lo so lo so e soprattutto se sei qui ti viene da star sveglio fino alle 4 o 5 di mattina eh capire pure per 4 o 5 giorni quando quando vedi 24 ore li sono tirati ma ascolta un modo per avere quei punti non ci sarebbe un modo per per averle prima da sarebbe comandante purtroppo no devi farsi una settimana tanto abitanti non ce ne so andiamo andiamo a fare ma non si prende occhi di siti di e segue il mio consiglio dai andiamo signori no no ma più che altro per non so se non si faccia un po di palenniome giusto per mettere il primo step insomma e poi il resto lo lascia lì insomma capito è niente ho bloccato una scusa e si è qua che cosa non ci voglio bellone mio patatone mio stasera c'è l'evento alla locanda ma che son cool a comandava ma per favore che già un'altra volta c'è volato ci penso che se un cazzo che i geni ed allison presideranno l'evento se conta c quanto c'era le 22 ma che son cool a parte 2 ma non è coltivo a gente genoa come sergente maggiore mamma mia perché stavo per usare quella parola che poi prendo un volo questo quanto una casa in jj se contaci deve arrivare dal comandante lui quello più alto in grado e il comandante non mi lascerà mai di vabbè un passaggio se lo facciamo devono controllare non mi va a quel posto del berda l'odio una posta di merda non è realtà non l'olio e meno e solo quando è pieno di gente che ne sta su cazzo non c'è più nessuno esatto eppure voi avete ragionato quando ci sono gli irlandesi quali dei folletti alla ricerca della pentola d'oro si inseguono arcobaleno a carotini dei folletti ma sono tornati in patria audio ottimo tanto quanto noi 40 persone dove sono ma dove ce ne saranno 36 a valentine scomodo sei ancora tutto bello pompato non ti hanno insomma potrei picchiarmi tutti quanti bonbon siamo tutti nel filo delle forze ottimo ottimo no no dicevo a tiago io il comandante mi chiamo bianco non si chiamava bianco il comandante per questo d'accordo la testa sembramento che succede ecreto ai cavalli un po ma è diventato dottore lei si è emozionata così tanto che mi sembra quasi uno si finito facciamo gli uomini no 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 ci sono ricordi e qui belli vividi spero che stiano felici ovvio che si allora fa piacere come stato tutto bene così tutto bene oddio il fatto che sarò perdere a mero del culo per valentine sta venendo gestita dove i forestieri non erano ben accetti invece in modo da stare fastidio a tutto il corpo anche sta parlando così mi spiega perché ho avuto modo di stare poco a valentine per per sua fortuna diciamo che è diventato un vero e tutti caga fagioli di tutti caga riso erano di sceriffo e sindaco non levavano nessuno al cazzo un bordello mi credo ci saranno stati almeno 60 persone come una cittadina che i forestieri prima che riuscivano ad entrare perdevano e no qualche dente esattamente non è più gestita così anzi anzi ho chiesto ieri proprio al sindaco non è gestita in modo che i forestieri non siano ben accetti assolutamente nuovo noi qui siamo full inclusivi e gli ho detto infatti ma lei è una testa di minchia ma mi scusi valentine non è non ci ha capito un cazzo della vita mi sa lei forse ha vissuto troppo poco valentine non ricorda il nostro non dico sì ma ha avuto anche l'ardire di dirmi oddio com'era le qui non conta un cazzo gli ho detto infatti ma lo sa che io sono stato qui prima di tutti gli altri un medico uno sceriffo sono nato vissuto e cresciuto qui a nole adesso non ci vive più da quando da quando anche l'estari cazzo ti sei spostato insieme agli stagli aerei a tutti gli altri dopo l'attacco dei banditi c'è stato zitto ovviamente gg che mi chiama non saprei sento un gg ma che cazzo particolare situazione trana per ma non capisco che mi chiamo vabbè sì comunque molto particolare facendo così andare a gravare su tutta la con te a sete delle minchie che camminano proverò a parlare anche così di aglio che magari lui stando lì più tempo forse ha visto se la situazione è cambiata o meno dal suo passaggio ad avere così siamo stati chiamati dal signor roi per appunto i mangiare fagioli che erano lì il vice sceriffo di testa di cazzo di sta minchia mi voleva quasi togliere dalla cittadina parliamone a me che sono un nativo di valentine disturbo no prego dottore fatti gli ho detto lui ha avuto anche l'ardire di dirmi a io qua sono lo sceriffo comando io gli ho detto sì io sono un deput e tu comandi a merda il fango di cavallo qua terra se un po questo vice sceriffo ricorda che vi sceriffo e sono storia valentine avrà un caratterino per tutto dire però e nel caso dalle vecchie insomma ci stava mio zio quel cinese di merda che porca troia faccio a rispettare le leggi ma non dava contro a tutti insomma ma assolutamente ma se viene qualcuno di fuori di valentine conoscendo le persone volendo evitare problemi la prima chiero che si fa e cercarlo di allontanarlo anche perché conoscendolo sennò entrerebbe in un saluto no lui era lì che faceva le scazzottate quindi tutto felice tranquillo contento ho detto delle minchie che camminano beh non dovrebbe essere ancora lungo il tempo che manca tra il mio trasferimento a valentine vedrò anch'io questa situazione o meno come farà e mi faccio sapere se segni il mio piccione magari a un'unica informazione media nel frattempo come posso avere anche il suo dito certo 102 ottimogici ma non si chiamano dai non saprei edward mccan bisognerà attendere la conferma del dottor bambino che misa ispitare esattamente il mio è 72 jimmy john mcguerr le permette la chiamerò comunque bene e se mai morirò arriverà mio cugino che jj poi suo figlio che c'è già magari mi prendo un colpo al cuore un soffio mentale che ne so io può succedere di tutto nella vita insomma domani evitiamo di fare certi discorsi magari quattro emigrato mi c'è però ok vitte a posto bene dopo questa io direi che è mai scusi mi vinci così di morì l'amica voglio morire o devo morire no lui intende che c'è sempre la probabilità di lasciarci le vede che cosa ti vuoi aspettare c'è rischia la vita tutti i giorni uno bene o male ci ci rimane abituato a stare in quel limbo tra la vita e l'amore a differenza magari nostra che tendiamo a stare un po più a sicuro e ti sia salvare soprattutto purtroppo noi abbiamo come dire un punto di vista diverso dal suo lei lo vede in prima persona noi lo vediamo in terzo andiamo avere che altro la situazione di fronte agli occhi che non è che rende le cose migliori a quando ti perdi un paziente di fronte i tuoi occhi soprattutto il primo in qualcosa che non ti è mai ma non immagino purtroppo anche quando perdi un compagno di armi di fronte i tuoi occhi comunque dura insomma assolutamente beh però come diceva solitamente un mio vecchio amico prima o poi capiterà sempre la domanda e come reagirai poi a quella situazione perché a quel punto la persona è semplice che ha ammazzato il mio amico figli di la mia relazione è sempre ovvio bene non mi aspettavo altre diciamo che ho preso tutto da mio zio fece partire una rivoluzione vera e propria ai suoi tempi per la morte di un suo amico e che è rivoluzione porca puttana immagino città solo non ti preoccupare quando sei troppo a contatto con la guerra così ma sei comandanti no 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 ma non ci pare il comandante di me col col cappello bianco per essa mille non faccia cose avventate cortesemente che è nulla che se va a spifferare qualcosa della ma non penso di tornare più in quella cittadina di merda grande solo 8 strutture ordini insomma a meno che non è la situazione a richiamarla sostanzialmente si comprenda deve essere creata troppo cittadino la chiama oppure comunque robe a le faccio un altro esempio massimo del dollari per una multa di corsa che sia a piedi o a cavallo è di un dollaro ok ieri invece sceriffo testa da scemiffo per letteralmente uno scatto fatto letteralmente questo un mezzo metro ha fatto 5 dollari di multa un cittadino bene l'idea di portarmi di farmi avere una volta nei momenti in cui stava partendo probabilissimo invece ma lo porterò di fronte al governatore parlerò diciamo come la giustizia se rimette sotto le palle coltivo di chi state parlando dello scemi po di valentine dice sceliffo invece scemi po di valentine scusa perché cimo è un pochettino era sotto un testo non fare di tutta l'erba un faccio signor a sinistra ma nemmeno sono tutti i dottori a valentine quindi direi assolutamente a parte un paio di casi e ma che sono di valentine purtroppo è il luogo e l'ambiente in cui stenda a vivere che porta certe persone a ridotti tra virgolette ripeto non tutti un buon tre quarti della popolazione si salva sono oddio tre quarti forse no la metà dai senti ragazzi diciamo che la metà si salva il resto dopo la di partita del comandante che è andato a dormire forzatamente sono il piatto in grado manca senso è andato a dormire ma voi lo vedete perfetto jj lì sono andata a presidiare l'evento no no manco per il cazzo io farei un ordine no io faccio in subordinazione risaputo no no io ho risaputo che faccio in subordinazione no 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 e vi portate pure cinghiale robert no no io sono in subordinato agli ordini tenente anche lì cinghiale sergente ma che sono un altro signore e perché sono lì in fondo lui sono vista dove chi guarda bene di asia pensando a ok mi scusi sergente maggiore che ho scambiato il tenente no 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 per carità non al tenente molto più senso in tutto ma le offese non le accetta il tenente alzo le vanno la venda alla sergente ma è lui le ansie le mani se un ordine pane dottore oggi mi fossero mi sposto si può spiegare un dottore spostare ed io mi faccio male però dopo il tetto ci guardiamo la scena da qui e fate voi vabbè da questo pugno dai ti ha dato un ordine mi scusi miss jj non si preoccupi aia capottata almeno poteva andarci piano scusi adesso c'è lo stesso segno che c'è suo figlio ugualemente preciso incredibile buonasera singhiale ma lei vabbè padre quindi mi picchia mio figlio lei ha un figlio si lo vuole vedere c'era preoccupazione di vedere questo figlio ecco ce l'ha la mia tata la tua tata di chiesi il suo figlio eh sì no no ok beh com'è la tata magari può soffrirne anche lei mister del figlio no della tata che dovrebbe soffrire del figlio perdonami che ci dovresti fare al momento e che ne so lo mandi in miniere e ti porta i soldi poi il figlio certo avrà siena tre anni già lo vuoi mandare in miniere ma quali tre anni ce ne avrà uno massimo ma uno ed è così cioè perdonami ha preso dal padre ha preso dal padre ha preso dal padre è miseria non vorrei sapere come è finita la madre che nella situazione di parto oppure dallo zio oddio chi è lo zio ossa grosse ascolta mio zio ciucian era come me era muscoloso e ma il tenente dice che aveva le ossa grosse ciucian dice che lui c'era la faccia in legno perché se l'è spragnata su una ferrovia quindi come la mettiamo devo chiedere ad alexa la mia assistente cosa vuol dire spragnare devo andare a cercare alexa e no io lo spiego io lo spiego io venga qui spragnare vuol dire che stava a cavallo non so che cazzo è successo perché il tenente un po così è caduto a cavallo di faccia sulla ferrovia da quel giorno è diventato faccia di legno ho capito è tutto pieno di scheggi sbagliamento del viso vorrei essere al suo posto ma parliamo di cose serie adesso bisogna cercare un cantiere qui a valentine qui a san denis andiamo e lo guardiamo che sia navale che sia ferroviario che sia un cantiere vero e proprio andiamo e lo cerchiamo e lo guardiamo l'amato ho detto di lingue e la questa credo che sia credo che dopo questa devo dare ragione al signore a valentine ceco che ignorante di troppo come stanno gli inviani fusi sono sui gli inviati mi sembra tanto come quel mio amico che si chiamavo si capiva un cazzo eh no ma se tu dai troppi calci al bambino che vai a mandare ad urlare poi quello lì non capisce più nulla inizia a piangere e succede ciò ok mettiti in muro di giù, mettiti in muro di giù comunque niente, mi sembrava molto una situazione mettiti in muro di giù si mettiti in muro di giù perchè? adesso mi date ragione sul fatto dell'ignoranza vero? ma sull'ignoranza do assolutamente ragione più che altro su magari il comportamento che non sono d'accordo non sono d'accordo più che altro perchè accettano tutti adesso sono d'accordo no sono d'accordo con lei non d'accordo con la situazione questo è un qualcosa che non dovrebbe succedere valentine è sempre stata una città molto inclusiva non permette ai stranei di entrare già solo il fatto ricordo di mettere piede all'inizio della città dove c'era il patibolo generalmente lo indicavano con il dito in direzione per esplitare il fatto che se continuavi a camminare io ricordo in modo molto chiaro le fiaccolate da 20-30 cittadini diversi all'entrata di un cittadino a valentine diciamo spero che Don Matthew faccia qualcosa generalmente se il sindaco non si mette in mezzo ma magari non c'è stata nemmeno un'elezione dirò anche questo sa che il sindaco adesso di valentine no non saprei un certo vanpene o qualcosa del genere è lei che ha modificato come ben non mi ricordo il nome e immaginavo Victor si si vittoria vanpene insomma come si chiama beh lo sapevo io lei ha ogni una fervida immaginazione Bruno ah si beh se il primo non è stato eletto sicuramente secondo si e se il primo non fa il lavoro nel modo migliore possibile troverà che la sua sedia gli sparirà da star culo non credo che questo io lo spero doc io lo spero però la speranza è stata la prima a morire questa volta no la speranza è sempre l'ultima a morire deve dare un po' più di fiducia magari attendere un po' di tempo riuscire a far intendere a certe persone il comportamento che devono portare inculcando glielo magari anche con qualche mazzata visto che come dire il benvenuto tipico di valentine magari in questo modo capiscono eh doc lei ha troppa fiducia nell'umanità se non ne avessi non farei questo lavoro vi dico solo una cosa la prima sera che siamo andati a liberare valentine siamo arrivati lì ci siamo ritrovati dei cittadini del cazzo erano almeno 8 o 9 davanti alla banca attenzione perché siamo stati attaccati agli indiani abbiamo dovuto liberare agli indiani bla 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 alla nostra domanda come siete arrivati voi qui eh noi siamo dentro mi perdoni ho detto una domanda un po' più interessante se permette gli indiani com'è la situazione allora gli indiani a quanto mi è sembrato di capire ci stanno due gruppi almeno un gruppo è quello di volpe che ride volpe ridento una roba del genere che sono molto aggressivi l'altro gruppo sembrerebbe essere quello dei guapiti che sono appunto tranquilli ecco quindi una delle due tipo ha intenzione di sotterrare la scia di guerra ma già di sotterrato ci hanno attaccati durante il convoglio salvia ora io comunque salvi come come bene tutto bene tutto bene tutto bene ho avuto un po' di problemi con la testa ho visto tutto buio all'improvviso quando vuole può fare una visita magari potrebbe riuscire a notare se c'è qualcosa di problematico è grave in tempo però no no dottor io sono in forte in salute non si preoccupa ma ringrazio sempre non si preoccupa ora con permesso un attimo mi allontano prego prego speriamo solo che non diventi un bagno di sangue come magari un tempo e che questi diani riescano a capire che è meglio che tengano il loro culo nella loro maledetta riserva e non dal cuore sti cazzi e gli indiani sinceramente a me interessa la situazione valentine è correlata non troppo sa qua del discorso quando a valentine sì un attimo comandante due secondi che poi rispondiamo comandante la seguo quando a valentine vengono sparati dei norvegesi pensate che siano nativi ma poi tutti gli attimi restiari vengono accettati e di che sorge il problema ecco non prendono noti non mi prendono rivederci che rivederci doc ah ok non ti sentiamo parlare miller lo senti io sì mi sente ok perfetto no dicevo che bel taglio dei capelli ringrazio vanno copiando tutti da lui che bel colore poi è talmente bianco che sembra così bianco chi cazzo è quel mangia fagioli quale o è quello che si faceva i fatti nostri mentre parlavo a bassa voce nel dubbio io non parlavo con una lezione ci siamo persi blade è no stanno facendo un altro lavoro è no stanno facendo un altro lavoro è no stanno facendo un altro lavoro no signore sulla destra e ciao a lorenzo giusto nel mio campo c'è il magnifico no no c'è ecco desiderate qualcosa bene ma le informazioni no la scazzottata è ancora una mezz'ora ancora deve arrivare una cosa sappiamo a cazzo qui mezz'ora almeno non c'è mai già lo sta come il signor siamo il dietro di voi una basta sì diciamo che vengono arrivare arrivano all'ultimo momento anche questa volta vincerà lei savo che nessuno c'era io vengo giusto per la goliardia non voglia c'è non è che vengo qui per sudare in realtà su da lo stesso sì però non pure io sono combattere la cosa importante che sia lontano da jack o barton e chi è chiaro è uno a cui diciamo piace assaporare il sudore altrui ma anche senso comandante schifo nel senso in cui ve l'ho detto sono rimasto passito anch'io quando l'ho sentito a valent e che cazzo vuol dire l'ha detto quando mentre parlava con la cazzo ne so quella gusti strani proprio pazzo è ognuno ai suoi dai quali sono i suoi i piedi i piedi capisco ma di tutti signor sem anche i nostri no 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 pur eppure soprattutto i suoi signor cecco aspetta vi faccio vedere mi faccio di aspetta e per te mi devo le scarpe no 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 per favore la faccia c'è ancora in avuto scappiamo merda ha puzzolito tutta la mazza che profumino guardate i piedi belli si è chifo tutta la comandante una curiosità se devi mi accompagna due minuti da fabbro contati a fare che cosa devo fare un ripornimento devo vendermi nella roba che io ho procurato eccetera ma facciamo più tardi non adesso non so se più tardi lo trovo insomma ma sì che lo trova marchetti c'è sempre l'unica risorsa della vita un mercante lui acquista tutto ah no voglio vendere a marchetti l'ho promesso sostituito da marchetti grazie io lo sfideria non è per cattiveria e signor samuel faccio così faccio ma schiaffi chi vince prende ceserino io mi rendiamo e però deve fare a schiaffi con marchetti insomma di calone no 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 se vince lei la prende gratis dice lui la paga il doppio vabbè vabbè no no non mi esibisco no non mi esibisco diversa e puti cazzo un po di onore ma io non mi esibisco signore se mi esibisco in queste pandoni e poi la gente conoscerebbe i miei trucchi segreti ma per esibire se io e artur qualche altro di falco di sangue è un cittadino mica non deputi e quindi e quindi sarebbero arti con l'autorizzazione di pestarlo se non ha un passaggio amichevole levate il suo onore andiamo sul ring venga possiamo posso prendere la schiaffi di deputi giusto 2 secondi potete scannarmi non è passata io a passati a passati no 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 si è rimesso in scala il risito questo che c'è il baffumo io le baglio con la panza io la lancia e io questa c'ho detto e beh giusto pochi provate a tirare un canzio la canza ha fatto un rimbalzo io faccio giudice però stia negli angoli mi raccomando c'è allora un attimo solo il mio spogliarmi che ha combatto così scogliatevi scogliatevi allora tranquillo e quando vedo quell'uniforme divento diventa un pazzo ragazzo che ha un mazzo di piace questo stile signor sam tolga le armi mi raccomando dietro allora alla mia e come cazzo si fa o la j ma che schifo infatti urli un po signor cecco non la sento adesso ora sì ok stavo dicendo abbiamo alla mia vabbè abbiamo lui con la penda all'occhio la mia si è fatemi lavorare alla mia signora invece di là abbiamo il russo il rosso avvicinatevi datevi la mano aspettatevi che levo la panza di mezzo sono quando non riesco ad alzo la mano aiuto ok dopo che è son cazzo ok al corso ok ok voglio un combattimento legittimo e che non sia con bestra io mi metto forse da lontano e dico subito una roba boni e allora 3 2 1 menatevi io mi sposo sei pronto a prendere pizza lei non mi sembrava tanto pronti dei partiti dei partiti dei partiti ai sempre veloce veloce le ore che è schifo di schiena avesse quello lì si fatti che va a far e vabbè aia 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 mondo immaginabile ragazzo ti fanno male aia ma che trombata gli ha dato ecco aspe aspe che sto cinturare l'arbitro sto arbitrando controllo come tu arbitra l'arbitro l'arbitro tutto bene signora ma che stai facendo ma lei che sta facendo le ringrazioni stanno combattendo non si è per l'off oh aspe aspe che mi sposta è stacco è stacco non si è per il destruttivo per avere le palle e che non mai è ragione serve serve il cazzo eh sì aia i colori perché ah per disegnare le regi quanto cazzo resiste parecchia e poi c'è la mano me ne ho accorto io do aia ha vinto ha vinto mi arredo mi arredo io uno che casca porca troia ce la faccio più mi sono otto io coglioni che l'altri forse dai uno che all'ammazzo all'altro forse è lui ammazzare ai cipro in giornata e voli ora uno e due tre quattro l'aspetta 6 7 8 9 out vince benda bianca e mo questo che lo porta scusate nato è piccolo problema di vostro o come come cazzo me lo butto in attimo finisce la moda che vitellozzo di ma c'è posto cialto cialto no mica faccio il macella io mi voglio iscrivere a chi vuole iscriverle venga qui davanti se sei lì senti quando ti devo ok va bene è che c'è tanto c'ho il c'ho il vitto tranquillo è in tranquillo arrivano non ti preoccupare con me sei tranquillo non ti preoccupare che cinturo è ecco a te vado a portare i debuti da qualche parte lo porto io no nessuno di voi deve scriversi no no voi dovete fare spettatole è una schiazzotette ottio atturiamo di un poco ora ottio e poi li metto nella nella cassa applichiamo omate e bindaggi ok va bene sì 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 due va bene ok vendiamo la ferita ok ok della mani alzarsi io ho fatto l'albito dice che sono quando quello che ho fatto bene nei due e il titrato che posso la quota come si senti tutto bene grazie ok signorina servi mi può dare una addrizzata ho fatto un ottimo combattimento complimenti signor mi ha rotto il cuore è una ringrazio anche lei si muove bene si muove non sto bene è 35 si arriva si quando sei fiscale Elisabeth eeeh sempre io sei fiscale si la dottoressa poi dopo la passola per la seconda no 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 non la può rubare davanti a me ma signor ma mamma ma 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 ok no avevo capito posso rubarla un secondo mi consente queste sequestro le persone bene grazie ringrazio la bacere ma non che allora che fare stasera andiamo di se mi ha scelto un attimo e vorrà fare una pesciatona va bene la dottoressa faccia parlare ma ci vado a parlare a finire l'acqua con l'olo avrei bisogno pure di vostri nomi così il segnale per la bevanda le stavo spiegando noi siamo qui per controllare la situazione non per partecipare all'evento signore potete controllare la scuola si sa avendo guardi passi dopo le faccio sapere occhio quindi 4 dollari 4 dollari a testa sono nonevoli hanno hanno un pago appunto sono onorevoli dei governi patrick patrick no è comandante sono deputati onorevoli del parlamento attenzione cazzo è finito patrick chi è patrick stella si si eccolo qua ti vuoi vuoi combattere combattere con uno di noi ecco mi ecco mi ecco ecco mi ecco ecco mi ecco volentieri no se vuoi se no io lo faccio volentieri ah se vuole lei mister diaz faccio bu chi cazzo è una così da rompico io vado io ma diaz tu sei arrivato piano piano c'è qualcuno che urla fuori signori tranquilli ora me ne occupo io vengo con lei signor cecco no te l'ho occupato faccio io faccio tutto che nulla si si vuole vedere chi cazzo è chi cazzo è che urlava così perché che è successo buona buona stelle ora perché urlato vabbè andiamo guardiamo giù un altro era pazzi alle volte la pazzi è su quella di gran lunga le nostre aspettative allora sono qua aspettate vendita del banco da davanti capito che tanto sopra non si può fare allora signori ola signore buona sardessa a tutti come stas dove tu allora si ovviamente lo scontro pulito così per si si per scaldarci un po' mi dica lei agente quando è pronto e iniziamo possiamo iniziare salvi mi dica dica che cosa prende tenero aspetti di subito due dollari viene ok aspetti che chiedo non lo so aspetti salvi scusa scusami ma è già iniziata signore se è soltanto amatoriale come cosa scusa 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 a latte fresco nolte nero allora eccoci quasi ehi ok latte fresco motore signori noi appena finisce diaz ce ne andiamo 4 dollari al cinese il latte motorio a poco così per se vuoi guardare di pagare quattro dollari ma che sta in cura anche centurone porca trova sono bevuto gli aspetti cioè anche noi che siamo debuti esatto tutti tutti chiedi ma anche allora sarà già stessero loro la sicurezza sti gatti avete fatto blade si dopo parliamo signore va bene molto bene e poi compila un rapporto mi raccomando ecco qua dove indica tutto ciò che si senta al posto parla con me signore si si ok certo compito subito guarda come mena di dovremmo fare allenamenti anche noi di questo tipo condent sono anche io ma che succede a la coltellato sì la coltellato ma che signore c'è ma la di lei che cazzer da scusatemi ma che cazzo è fatto davvero che non ce l'avevo scende va bello buttigliura cazzo la sui cazzi amari se ma ora no signor sempre ascoltere la mano vavolo su divertirci a donare la mia attenzione non ce l'avevo abbassi le mani non c'è bisogno ferma dove vi dispiace veramente ma come cazzo mi è uscito salva signora venga vediamo come sta almeno cosa in mano che hai la bottiglia se lo aspettiamo di sopra non è capito se dobbiamo stare qua devo pagare 4 dollari ma che son culo e l'ho ma portiamolo in clinica se no facciamo prima sta arrivando qui la dottoressa il dottore o quello che è insomma aspetta perché ne pensa signore il dottore insieme vabbè diciamo che è stato un incidente da bene non è stato volontario quindi inutile ma io credo che l'abbia fatto di proposito no non credo beh non sarebbe molto saggio di fronte a una decina di defuti non sarebbe nemmeno una cosa leale perché purtroppo quando si fanno i combattimenti tutte le armi vanno riposte ma io mi sono abbassato altrimenti sbaglio se c'è anche io mi sono accorciato un pochino ogni volta che il medico ci rianima ecco se dovete andare nel negozio vestiti e provare a vedere se vi ritornano al test beh non ho mai capito perché andiamo in infermeria perché già mi sto rompendo i coglioni aspettare infatti sì ci abbiamo un po di fronte ma se sono in clinica e poi del discorso non hanno nemmeno mandato siccome disi di arrivo rosso ed arrivo in arrivo dove e penso qui nessuno credo cammino pure più lento ma che cazzo ecco alla ecco sta arrivando il dottore croft a piedi dottore avevo bisogno di aiuto c'è un mio uomo ferito oddio cosa è successo è stato ferito con un'arma da taglio un coltello stato un incidente sul ring diciamo ok no è lui è lui signor qua sì è perché quando quando si ci si scontra sopra il ring bisogna tirare via tutto purtroppo capita signore dove ha fatto quello che doveva fare certo ci siamo abbiamo fatto un colloquio con il dottor croft per capire un attimo la situazione a chiacchierare dopo la chiacchierata allora i principali diciamo iniziati per ora sono alcuni gruppi etnici presenti in città in quanto sono diciamo coinvolti in ricorrenti disse immagino cinese ebrei bla 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 esatto dovremmo procedere magari la città praticamente dobbiamo procedere magari a fare degli incontri con tali tagli etnie per capire insomma con chi potrebbero avere delle faide chi potrebbe volerli sembra parte dei morti diciamo come parlassero insomma parlerebbe ovvio i verbi ma porca puttana a qualcuno sono ignorati ma sono arrivata uno le varie che ha detto che potrebbero essere sospetti allora i più ricorrenti potrebbero essere irlandesi e ok perché lì allora gli irlandesi sono tornati in patria gli ultimi rimasti per capire un attimo a quest'anno forti però potremmo insomma diciamo che un gruppo di gruppo di il gruppo di malviventi era formato da un americano un presunto americano in quanto cercavo di mascherare il suo vero accento unica cosa che il dottor croft ci ha fornito appunto che questo parlava in americano ma si assentiva non fosse americano e un cinese è appunto io leggevo appunto sul rapporto del genere leggevo un altro rapporto c'è leggevole aggiornamenti sul rapporto dove stamattina che arrivava trovato un cinese con in spalla anche si bisogna anche vedere con l'estero lì e il sun dovrebbe essere il sun dal ritratto se anche perché non l'armamento del cinese ma solo degli altri due cinese ha detto che era armato di coltello magari un'alleanza tra cinesi è che è rimasto altro gruppi etnici sono i cubani ai cubani possessori di terre bla 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 insomma sì ma non credo farebbero qualcosa del genere dottor croft in quanto sono in affari no no i cubani sono potrebbero essere le vittime a in quanto diciamo il autore del gesto non sono tanti i tre i tre malviventi ma ti assunti per fare questa azione per rapire il dottor croft e per quale motivo rapire il dottor croft se li portano anche le tavoli freschi da da studiare insomma no i cubani potrebbero essere le vittime come dottor croft in che senso le vittime mi scusi in senso se avete letto bene il rapporto c'è una quarta persona oltre i tre che hanno rapito il dottor croft che sostiene appunto che il dottor croft abbia prestato soccorso e curato un gruppo di persone sbagliato capito diciamo il dottor croft in questi giorni ha avuto ha avuto più volte i cubani come ha avuto più volte in clinica ai cubani in quanto riduci da alcuni aeree all'esterno del saloon quindi potrebbero essere loro a grandi linee degli iniziati eccomi tornato stiamo più che più che altro attualmente cercando di capire chi è questo gruppo di persone che lei scrive il rapporto che in modo tale che bars riesca a leggerlo e poi sarà lui a diciamo a decidere come muoversi ok perché lo fascicolo è passato la divisione investigativa e stavamo signora sia per quanto riguarda gli uomini eventualmente sotto copertura e tutto il resto bene compreso va bene vogliamo ci si deve ritenere certamente certo comandante mister lì sono sei un attimo distratto io faccio sargento maggiore io lo specifico ma tutti credo niente sempre meglio di sofia che mi chiamo capitano buonasera come sta signor kennedy buonasera chiedo scusa no la signorina sta pensando moltissimo non potevamo lasciarle in mezzo alla strada mi dica ero passato perché appunto per parlare con lei insomma ho visto che l'armeria in questi giorni non ha avuto una grande affluenza di dipendenti sono rimasto l'unico e resto sono tutti quanti partiti addirittura mi dispiace insomma spero che possa trovare altri aiutanti che la aiutano a gestire al meglio credo che a breve ritorneranno anche i dipendenti speriamo allora vabbè in ogni caso molti cittadini sono passati anche in dipartimento per chiederci informazioni in quanto interessate all'acquisto di armi e fucile insomma le mie casella postale la sei poi entro la giornata gli risponderò ok a questo punto non è inutile che le chiedo mi chiedo no dico posso sapere anche il nome così la salvo sul piccione william william comunque le dicevo signor kennedy a questo punto è inutile che le chiedo la lista dipendenti perché se diciamo i suoi dipendenti sono tornati a casa è inutile cioè solo lei no in questo momento giusto e loro sì magari appena torneranno se non licenzio prima li farò passare di lì va bene comunque ha lasciato dei soldi quelli che si è stato riferito va bene allora la lasciamo al suo lavoro signor kennedy una lista di armi disponibili si a tra pochissimo anche la carabina e quanto costerà di in circa non lo so ma curiosità personale non tanto per interesse da cui si è curiosità ma fucili come rolle block saranno mai disponibili ma ancora ma no in generale anche fra molto penso di no poi si dà di un presso non c'era solo curiosità personale ripetisco finora posso fare delicato e non le double action scoffi il bel e le map foto uno sprint e di invece ancora ce ne vuole vero di acqua sotto i monti va bene riprendiamo la ronda rivederci che succede che succede perché se ci sono ancora quattro che corrono a mezzo la strada di 5 dollari 6 un attimo un attimo per me un secondo e pre o miss ellison bentornato grazie ma perché queste domande che è fatto a ben non ho fatto nessuna domanda a mano era gg che cosa è se ben ti ha detto che non lo sa secondo te che ne non ho fatto infatti a qualcuno ne ha fatto però nel corto via non avere avviciniamoci voi ragazze curiose andiamo a chiedere siamo curiosi 5 dollari in multa prendiamo esempio da valore signori signori tutti fermi correvate in mezzo alla città 5 dollari di molta no scherzo andata andate pure mi toccare tutto bene ma mi sono un po cosce da terra e ho visto infatti sono arrivato l'ho vista a cacciata a terra una cosa molto strana per questo mi sono un binocolo porca anche a me ma tu ce l'hai non direi cazzate non ce l'ho è che fino ha fatto ma che cazzone so salve signore io sono un buzzurro saluto noi stiamo salutando quello davanti che non risponde salve mi spiace non si preoccupi tutto bene sì tutto bene non l'ho mai vista in città le nuove sono nuovo da dove arriva l'accento mi sembra nascita nascita impero giapponese ultima città toccata norfolk cosa la porta da queste parti lo piace di parlare con il signor chiamata io sono il comandante artur moore piacere di conoscere la comandante sono entusiasta di conoscere la legge di questo posto piacere nostro e conoscere ai cittadini che appunto vengono in città desiderosi magari di avere fortuna o beh sì perché no un po di fortuna un po di nuova vita nuova aria avete sentito i ragazzi in urlare che serve gente in armeria no se c'è la comino non ho sentito ho appena sentito i ragazzi in urlare che serve gente armeria propriamente parlavamo di questo no no io stavo passeggiando in realtà ancora diciamo si sono allontanati parecchio quindi non volevamo appunto farli ripetere sono a non c'è conosco il do il dottor kaufmann san solomon incontrati ad oxford mentre lui studiava di medio medio come si dice in americano medioevare se comunque storia medioevare io non c'erano di medicina di medicina e quindi lei un esperto in medicina sono stato un medico ho il corretto quindi diciamo eventualmente sarà propenso magari a chiedere diciamo se c'è un posto libero nella clinica cittadina se un futuro questa strada sarà opinabile sì momentaneamente no troppe persone non come come posso esprimere ho visto troppe persone che non c'erano fatta a volte è meglio fermarsi altrimenti è troppo pesante capito signori amata comunque ovviamente le nuovo le dico che nel momento in cui decide di rimanere all'interno di questo stato la invito a passare presso la nostra centrale sita qui a sendeni per effettuare il cessimento statale assolutamente sì le faremo giusto qualche domanda una fotografia e poi la manderemo insomma 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 le daremo il benvenuto in questo magnifico questo magnifico stato insomma ho nessun problema se riuscirò nel senso che mi organizzo un attimo anche per vedere cose di giro passerò più tardi per caso anche se non trova nessuno può diciamo mandare una diciamo un senerazione arriveremo in mattinette insomma ma benissimo ma non vi vorrei scomodare per le vostre per il vostro radiavolo si figura spesso siamo in giro qui in pattuglia quindi magari in centrale non trova nessuno però se possiamo rispondiamo insomma arriviamo subito va benissimo siamo molto c'è la linea rispondere o perfetto ottimo grazie infinite eravamo grazie per la chiacchierata insomma e spero che si traccia nella vita o ma chiacchierare si fa sempre bene un scambio di opinioni uno scambio di chiedo scusa c'era un tizio con il violino da qualche parte sempre un piacere poter parlare e poi comunque potrò iniziare a imparare di vostra lingua americana ma la parla già è corretto ma alcune parole non riesco ancora a pensare velocemente quando parlo beh dovrà fare un po di pratica allora mister no beh imparare si fa sempre in tempo a meno che gli dèi non vogliano levarci prima da questo mondo no no si spera di no no si spera sempre di no bene signora amata allora non lo lasciamo la sua passeggiata e riprendiamo il nostro pattuglia ventola ringrazio buon lavoro e mi raccomando sempre attenzione certamente signore si riguarda il signoriamo una giornata ma c'è qualcuno ecco perché mi sono riesce a chiamare un cavallo devo pensare velocemente una cosa c'è delle vocine in testa di bambine porca tutta la sparia dal lavoro la benda che te la do arrivo su una notazione lavorando sta bene lei sì sì sto bene lei si serve una benda che se mai te la do no no sono posto ok vabbò ok vabbè ok vabbà ok 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 Ehi, lì, 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 dove c'è? suonare cosa vuole suonare cosa vuole suonare cosa vuole suonare 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco io, davanti. Corri su, corri su, corri su, corri su, corri su. Che cazzo. Ecco. Ma che cazzo hai preso? Non lo so, non vedo un cazzo. Va bene. Un po' su. Vai davanti alla taverna. Ma che cazzo. Va bene. Ferma qua, ferma qua. Che cazzo, non ho capito io, però va bene. Non ho capito che se succede, però va bene. Non lo so, ho visto gente correre, però qua non vedo un cazzo di nessuno. Ah, io vedo tutti. Vea da te. Oh, è vero. Cioè, vedo un paio di persone, ma non da dire. Vabbè, poi vedo un po' di persone. No, andiamo. Cioè, vedo un po' di persone, ma non vedo un po' di persone. Puoi portare tu? No, è uguale. No, oddio, sarebbe mai solo porti tu perché non è che ci riesco più di tanto. Oddio, attento se riesco a muovermi per dirti. Non ora, quali? Sì. Il problema è che ci vuole uno invisibile, vorrei che facesse delle foto. A cosa, comandante? Eh, a quei signori lì, tutti lì. Servirebbe qualcuno di piccolo. Eh, sì, qualcuno che è bravo a nascondersi, però. Sì, ok. Qualcuno di molto, molto per cui state guardando me. A chi, porca puttana, non interessa qual sono i piccoli. C'è una specie di riunione tra i binocolo, i messicani. Sì, la macchinetta lì. Come cazzo si chiama? E qualche altra persona non è via. 1,65. Diciamo che le macchinette non sono proprio, non osservate le macchine fotografiche di quest'epoca. E questo è il binocolo. Come cazzo si usa questa cosa? Maledizione. In prima o a posto? Ok, così. Mi raccomando, non faccio vedere. Ah, attenzione! Comunque scusate per l'assenza di prima, ma ho sentito le vocine in testa, sono un po' schizoprenico che facevano... Oddio, 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 oddio. Sappi che io negherò tutto e dirò che sei un po' schizoprenico, va bene? Ok. Ecco. Beh, questo è d'altro per lo stesso. Vabbè, però mancaffo che io, scusami. Buona fortuna, collega. Beh, invocando... Aia! Ma che cazzo! C'erci di non farsi vedere. Ma che cazzo c'è? Ma io ho visto la velocità, ma perché sai che sono le ritenzioni? Sì, si riesce a sentire qualcosa, c'è un paio di... Ma che male! Volete che mi cambia? Se riesce. E se riesce velocemente prima che se ne va a prendere. Sì, porra, quella madonna. Ma l'ho visto proprio che non c'era nessuno, ma che cazzo. Eh, ma mi ha fatto un male cane! Vabbè. Non ho capito, infatti. Un attimo, manca Miller. Signore, se la bella non possiamo mandare perché dobbiamo pagare. Un attimo, manca Miller. Signore, se la gente magari manteniamo dei rinforzi in zona. Miller. Sposto, dico, dico. Ok, allora, facciamo così. In zona... No, ma chi mi mette, porca? Allora, Miller è nei pensieri, giusto? Patrick, ci sei? Sì, mi dica, signor comandante. Sì. Ci sono due cavalli non visibili. Ecco perché siamo stati spinti sia io che il comandante. Va bene, va bene. Comunque Blade con Reyes, Patrick... Eh, GG vuole andare anche lei. Cioè, dovete restare in zona nel caso in cui... No, resta con lei, io lo so già. Va bene. Ok, allora, Blade, Reyes e... Patrick, restate in zona nel caso in cui... Appunto, Tiaz ha bisogno, va bene? Ma Diaz ha i nostri... Recati di... Non terrà un'alerta nel caso... Fatevi vedere, diciamo... Intorno, ma non troppo. Eccomi, eccomi. Sì, va bene. C'è anche Miller, se vuole mangiarlo con l'oro. Ha il mio. No, no, siamo in troppi, ragazzi. Siamo in troppi. No, stanno nell'occhio poi. Bastano tre. Già siamo in troppo in tre. Sì, esatto. Se avete bisogno... Mettete tutti quanti in Gilek siamo meno visibili. Esatto. Va bene. Io come l'hai già ben sa, insieme a Ellison, siamo le sue guardie del corpo, praticamente. Sì, sì, non preoccupato. Mi dirà la bocca, la lingua dalla merda, poi. Ah, che cazzo. Ah, ma ce l'avevo conto e pensavo con quello che stava passando. Sì, ma più. Ma è una signora? Mi sa di sì. Ma è nuova, forse. Ma è un donzino. Ma direi. Come andate se il dottore di cercemento. Sì. Lei è la signorina? Talve è signorina. Ah, la molle di Yuri. Ah, ok. Perchè non ho fatto io? Sì. Esatto. Ah, ok, ok. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Però no, è la prima volta che la vedo con Ronzino. Non ho un altro cavallo? Sì, anch'io. Eh, sì, l'altro cavallo è di Yuri. Ah, ok, ho capito. Come sta? Tutto bene? Tutto bene. E sono venuto a vendere un po' di cose, insomma. Ah, prego, prego. Vadi pure, signorina. Grazie per... Ma figuratevi. Arrivati a te, devo fare un calcolo mentale. Buona giornata a voi e buon lavoro, signore. Arrivederci. Buon lavoro anche lei, Alex. Arrivederci. Arrivederci. Sempre a fare calcoli, JJ. Sì, 72, 5. Oddio. Oh, perché corre? Perchè, è l'armaiolo. Un attimo che devo prendere le soldi in banca. Andiamo ad Alfabro un attimino. Ho paura davvero di non trovarlo dopo. Eh, lo so, ma questa cosa non so se tu la potresti fare in servizio, lo so. Tecnicamente sì, eh. Eh, boh. Stiamo andando a fare rondo. No, ma non stavano andando d'Alfabro, però vabbè. Vabbè. Oddio, ha chiamato il cavallo, che c'è. Ah, niente. Faccio una cosa. No, comunque, se mi diciare no... No, comunque, se mi diciare no... Prima di mettersi in servizio... Eh, vado a fare prima di briniti... Va a vendere e poi... Sì. ...viva in servizio. Yes. Così evitiamo problemi... Sì, sì, è chiaro. No, vabbè, ma se è un problema lo faccio dopo, alla fine non è... ...tanto quello. No, vabbè. Oggi ho parlato con il tenente per il discorso dei cavalli, ok? Ok. Ho parlato anche con... Diciamo... No, con Dio. Ok. Diciamo, io mi confesso ogni tanto, ho parlato anche con lui, insomma. Sì, è chiaro. Ok. Allora, sostanzialmente, qual è una delle problematiche che ci spinge a non avere tutti i cavalli uguali? Qual è? Il fatto che sono difficili da trovare. Eh, sì. Se avete un puro sangue inglese e nero, non è semplice da trovare. Sì. Quindi è già tanto che ne trovano uno oggi, magari uno lo troveranno tra due giorni e tre giorni, ok? Sì, è chiaro. Per dirvi. Stessa cosa per, che so, di Shire neri, no? Quindi non abbiamo gli stessi cavalli. Però, aspetta, faccia finire. Quindi, sostanzialmente, sarebbe molto difficile avere tutti gli stessi cavalli, ok? Tuttavia, ok, provendendo per la libertà di cavalcatura, quindi ognuno ha il suo cavallo, qual è il problema? Che ogni cavallo, diciamo, ha le sue caratteristiche, no? C'è quello che è più veloce, quello è... E, diciamo, rischiamo di non riuscire a stare uno dietro l'altro. Esatto. Considerato che, comunque, da un certo punto di vista, no? Il cavallo del tenente, che è un puro sangue, comunque anche esso, ok? Non sarà nero, però comunque il colore è scuro, di notte non si vedono. Eh, ma visto che non ci sta dietro quel cavallo. Eh, ho visto, ho visto. Ma, comandatemi, scusi, ma non potremmo richiedere al governatore di mettere dei cavalli, degli altri cavalli. Per tutti quanti. Ma che ce li tirano, proprio... Eh, che ce li tirano al posto di questi e ci danno altri cavalli anti-pagati. Ma magari, ognuno deve vivere un cavallo, cavallo. Che cazzo. Magari anche pagati, cioè, pagati, insomma, capisce? Li fanno trovare agli staglieri. Eh, certo. Posso provare a chiedere, vediamo un attimo. No, ma nemmeno. Cioè, alla fine il problema non è quello di pagarlo, è quello di averli tutti uguali. Sostanzi, però, capisci, io intendo, devo dire proprio, al posto di questi qua, bianche e nere, ne mette altri. Uno sparo, c'è stato uno sparo. Ho sentito uno sparo, salve, comandante. No, pensare a venire qui per lo sparo, perché c'era il problema l'altra volta di cavalli, ne ho messo uno fuori e me lo sono lì al laghetto, come sempre, me lo sono ritrovato in mezzo alle scatole qui davanti. Allora, l'ho preso, l'ho portato lì, gli ho sparato per mandarlo via. No, diciamo che c'è un cavallo invisibile, però niente di caso. Eh, c'era. No, c'è ancora. Acora, un'altra. 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 Eh, purtroppo. Ah. Provi a fare un refresh mentale. Magari va via. Ma non credo sia mio, io, quello lì, eh, beh, il problema è che se continuano a portare cavalli, il problema sussiste. Lo so. I cavalli stanno portando, immagino, roba brutta per noi. No, non per voi, quello che cercate voi è molto difficile da trovare. Sì. A quanto pare. Ieri sono riuscito a trovare un overo. Un overo. Un overo. Una, lo dico con precisione. Ah, quello che hai fatto vedere a me, ho capito. Eh, sì, mi pare, non so se è ancora lì, poi mi sembra. E vede troppe cose, Ellison. Io sì. No, è un American Pint Grey Overo. Ah, ok, no, no. È un buon cavallo. Eh. È anche bello esteticamente. Un attimo, vado a vedere. Perché non lo prendi, Alice? Sì? Perché non lo prendi? Un attimo. e mi sa che è stato venduto non c'è non penso mi sa che è stato venduto in realtà non c'è lì dentro ma però era carino mi pare che aveva tipo le macchie bianche 115 115 no 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 prego venga la immaginità val di vero insiste rega perché adesso servono da rici per altre lineere ecco va bene sì sì va bene signor martin poi dopo le posso parlare un attimino certo tratto solo bene ci vengono arrivere a dopo riferirci mi dica scusi attimo che prendo il muro si sarebbe veramente e rientrauto cugino invece che me coltivo non mi capire sai io veramente ma anche senza le posso parlare dopo un privato partire di qua martin di regola martin quanti non c'è ma io volevo chiedere più d'altro se mi bastava le chiavi di casa così mi butta un po di cibo dentro borraccia quando ero belli insomma così mi libero anche i motel non ci butto gli attrezzi rende come sta basta che non mi riempi le cose nell'altro sono poi di stare a fare un da evitare tutte le rotture di scusatevi e cammino mi giro con il cavallo non si preoccupi fa bene comunque altro non so se è passato dalla locanda non penso perché diciamo si trovano i bassi fondi di sandini a ogni tanto mi è dovuto obbligatoriamente apitare di finire là in mezzo va bene ogni caso siamo passati per un controllo indovini un po ci hanno chiesto 4 dollari a testa per poter osservare delle persone che si prendono a pugni e anche per poter stare lì ovviamente e suppongo che questo sia stato portato comunque sia stato deciso dai proprietari perché l'ultima volta ci sono state delle persone che hanno portato direttamente il cibo in quella locanda che a quanto pare non era del loro e questo gli ha dato fastidio effettivamente però su un evento di quel tipo e anche bene comunque si ma non gli uomini di legge che sono lì magari a controllare che tutto vada bene o comunque un controllo diciamo questo questo dovete vederlo voi per quanto mi riguarda io vi ho dato la loro motivazione che hanno ribattuto sì 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 ma io sono d'accordo con loro il problema è che appunto secondo me almeno per quanto mi riguarda io non ero lì per osservare lo spettacolo semplicemente volevo fare un controllo no invece no proprio tassativamente all'ingresso volevano 4 dollari insomma quindi secondo me la questione delle tasse dobbiamo farla partire al più presto insomma per quanto mi riguarda sto aspettando anch'io una risposta da parte del governatore molto bene diciamo che la situazione doveva essere già ieri nel cambiamento di un po' di questa cosa di questa accenda quindi di poter parlare di probabilmente qualche inizio di tale atto cioè di mettere le tasse e quindi la situazione sia un po' congelata a quanto pare bene direi molto molto male comunque attualmente stavo andando dal fabbro se c'è perché non so se c'è anche noi eravamo diretti lì sempre per controllare insomma ah io ci andavo semplicemente per dare qualche tipo di materiale che gli potesse servire mi dà un attimo price può andare dal fabbro che sto rispondendo a una missiva per quanto mi riguarda io mi muovo al massimo ritorno indietro e li metto tutto quanto a posto prego prego vada pure signor price andiamo anche noi verso il fabbro un messicano che corre eh quando mai 5 dollari di multa via tutti che corro spedì con usare comunque GG evita di fare un po' lo spiritoso davanti al dottor croft in che senso eh diciamo una persona molto seria che poi rompe i coglioni a me che dice che che fatto gli spiritosaggine mi scusi eh l'ha battuta sui 5 dollari di multa ah proprio così eh mamma mia no mi calano salve signor salve marchetti salve tutto bene? salve salve ho fatto un po' di cose prima dice un mio agente che appunto teme che lei possa andare via addirittura eh sì perché ieri non l'ho trovata eh purtroppo ieri tra treni e altre problematiche vedo un attimo signore e arrivo da voi prego prego signore mi dica devo solamente venderti delle cose sì lend ah eccoci mio dio mi era un attimo messo diciamo perso nei pensieri ti ho visto apparire proprio davanti che cazzo pochi siamo no e gli altri li avevano lasciati in zona ah ok vedo che li chiamo qui aspetto vi vi aggiorno si aspetta un attimo buonasera buonasera ho provato qualcosa abbiamo in realtà molto tranquillo si è passato sul fabbro è dentro è dentro è dentro al fabbro ok dicevi se vi dicessi dove ero dove mi trovo non ci credereste come una bandana in faccia sopra no 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 non ho sentito discorsi purtroppo ho visto chi erano sì ho visto chi erano una cosa era veramente un punto di merda là dentro tutto chiuso l'unico posto a essere riuscito era quello erano un carboncino gigantesco ho visto tutto di nero l'ho visto penso una sola volta camminare sempre con loro un altro uomo gigantesco tutto di nero con barba baffi biondi e caperlo biondo corto quello è il blake non mi ricordo il nome però dovremo averlo nei nostri registi si parla molto una voce profonda si cavallo nero se non erro tutta una fila di ebrei infiniti infiniti penso tutti saranno stati il giappo il giappo al giopera con loro il giappo era con loro si era messo totalmente a destra da dove ero io quindi con la schiena verso la voce che c'è si 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 niente mangia fagioli 0 c'era 6 chat al centro che parlava sembrava abbastanza tranquillo non sembrava una situazione di pericolo nel senso che non era era cerchiato sì ma non era lo sapete no quando deve essere preso a botte era tranquillo si parlava si girava faceva si ma quello deve ringraziare che era all'interno diciamo della zona delle ebrei se no si finiva con una parlottola in testa del sol dopo che mi era mancato il rispetto però mi ha mancato il rispetto si si quando tu dove eri quando hai mancato il rispetto mi sa che avevo le voci in testa di due ragazzine che mi dicevano ciao zio ah ok si si va bene appena lo prendiamo lo becchiamo in giro signori lo ammanettate lo portate in dentro lo pestate a dovere e lo lasciate andare senza nessun ammello quando senza tirabuni divertitevi come volete insomma potete fare anche a turno a pestarlo fate voi io sono piccolino non picchio ce lo dividiamo rossiccio no no che dividiamo sono un cazzo di orso io vi fate capire che la prossima volta deve portare rispetto al comandante qualsiasi uomo con la divisa chiaro è tutto chiaro chiaro ok diaz grazie ho chiamato blade ma non stanno arrivando che cazzo sarebbe successo io vi dico che io non li ho proprio visti i nostri dove ero io addirittura eh robe poi le farò vedere anzi guardi la mappa gliela faccio vedere io aspetta mi è arrivata una missiva guardi ah sono sui tetti degli shalana si devono interrompere assolutamente aspetta aspetta no beh teoricamente arrivederci signor price arrivederci arrivederci teoricamente possono starci affinché non fanno ah tu dici per le informazioni si ok ok quando ci stanno a sparare che non si può io stesso ero su un tetto allora si ero sulla S di Saint Denis se vedete cioè ci sono tre tetti quello dove c'è il banco dei pegni uno che è un cazzo di triangolo strano stupido si io sono ero sotto al triangolo stupido sulla fine della S su quella punta lì ah ok su quella puntina del cazzo ok ho capito si quindi se riuscite a riprendere tra i miei metti da quel punto là con la col device qua cosa di merda ma ha fatto più scatti ecco si vabbè Gigi tu non devi finire col farlo si sto aspettando che finiscono questi ah dobbiamo andare a fare un giro all'import centrale comunque si ho visto un rapporto riguardo a dei bandini mascherati lì si è un rapporto che diciamo è stato addirittura strappato dalla divisione investigativa perché in effetti diciamo non è molto però possiamo andare a fare un'occhiata in che senso sono banditi una cosa io si delle due persone mascherate che si aggirano intorno all'import è perché non era molto scusi sono informazioni che valgono oro vabbè se lo ricordiamo diciamo esatto non c'è bisogno di un rapporto voi in ogni caso continuate a scrivere tutto quello che diciamo dovete fissare bene ok infatti mi devo ricordare di stilare il rapporto del marshal su chi ci ha attaccato volpe ridente volpe che ride come cazzo si chiama si volpe che ride se dopo lo faccio è che ieri quando staccato dal servizio ero veramente stanco e distrutto a che lo dice si lei ha resistito fino alle 11 madonna che maiale che sei infatti mi manca solo la mela in bocca eh si salve salve ha finito signor Rolando che faccio io si prego 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 venga entrare mentre fai qui non lo posso portare dentro vero che così facciamo prima no ok lo la metto qui buon lavoro signori allora sono i classici 1000 kg di materiale mi ripasso ok posso passare a 200 per volta vediamo si ottimo veramente ne può prendere dal cavallo 200 alla volta ne può passare anche a 700 un modo di provare insomma solo 100 per volta vi posso prendere dal cavallo ok o meglio da 100 a 199 insomma capisce ok infatti volevo fare un rapporto al governo su questa cosa ma mi scordo sempre insomma è un po' scomodo diciamo buonasera posso prendere altri 100 ok mi mancano gli ultimi 300 e poi è meno finito arrivo yes sempre in giro eh eh si bravo bravo la fine sono devo aspettare risposta dal governo ancora cazzo poi signor Orlando mi servirebbero 25 a 7 se possibile 25 a 7 eh si ok ho finito quanto è tempo intanto per le 25 a 7 così senza che mi passa i soldi anzi facciamo 28 va fare i venditori di accette signor DJ assolutamente no lavoro con mamma iate allora mi dovrebbe io le dovrei 30 invece lei per le 28 accetti mi ha detto quindi quando ne vuole eh si 28 dovrebbero essere 70 dollari giusto esatto me ne dovrebbe 40 in teoria ecco lei arrivo le ultime 5 mi deve dare 2 minuti perché devo devo metterle nel motel insomma capito ok i due dicevo è stato comunicato che dovrebbe esserci anche altri altro termine interessante insomma se 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 non lo facciamo così visto che quale mi passano le prime 5 eh si le ne ho 6 6 così poi ne mancano 22 no sono 25 se me ne ho 6 ne mancano 19 io ho detto gliene 2 6 mi aveva detto 28 totali di eccetto oddio sì 28 mi scusi ne togliamo 6 sono io rincoglionino mi perdoni arrivo yes comunque l'offerta è ancora valida signor Turner vediamo come va a finire questa sta aia ha preso la maggiore la buttana a lei si vado un attimo appoggiarsi magari devo forciare le altre di proprio yes arrivo subito no 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 Grazie a tutti. Andate via che se no se bugga. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè di uno sbagliato ce l'ho ai tordi extra buono. Grazie a tutti. 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 Sì. 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 Sono ancora qui. Sì. Ti servono oggi. Ciao. Ti servono cheer. Forx. Lo sapevo Lo sapevo niente Eh, mi è lontano, cazzo Ho riscuoto grosso Ho riscuoto grosso Ho riscuoto grosso Arriverai il dottore Allora, ho 177 di ferro E' un piccolo E' un piccolo Buonasera Che è successo, signore? Eh, calciata che vanno Oh, dovrebbe andare meglio Nel dia della ferita, non è pesante Sì, grazie Posso deputi? Mi scusi per il disturbo dottore Ah, non ci volevo capire qua in città All'inizio C'è una collega un po' l'incognonita Ma dicevano che deputi erano Erano Sì, sì Che deputi erano immortali Invece Eh, invece no, signori Siamo mortali come tutti voi Carne e sangue Eh, sì E perde parecchio sangue E sangue, ossa e nervi Esatto Grazie Il piccolo Sì Ok, ho capito Ma i deputi pagano dottore? O sono raccomandati? No, no Sono sul conto aziendale Quindi pago io con le mie tasse Che ancora non ci sono Speriamo che non ci sono In realtà no, Sir Paghiamo noi con le multe Praticamente Parlando Esatto Quindi se mi metto a correre col cavallo Dei recuperare praticamente la cifra Praticamente sì Sulla mia pelle Mi sembra giusto? Corra, signore Corra per le strade Corra con un pulmine, Sir Così la multiamo di un dollaro Già, mi ha multato un... Signore, io vi lascio una buona serata Arrivederci Mi ha multato un panzone Con... Aveva una divisa diversa dalla vostra Era simile a quella di Rolando Comunque dobbiamo muoverci Panzone con la divisa diversa Non so Te Scorbutico Arrivederci Vado a trotto Sì No, nemmeno al trotto Al passo veloce Attento che se non la multiamo Così va bene Un po' più veloce Vada, vada Molta a basso Così Così Può andare Grazie Io mi allontano dal cavallo Eh, sì, grazie Di sclero Capito, ma non pensavo di stare così vicina Ma scusami Sei troppo vicino Spostati Ma... Vabbè C'ho il cavallo Incazzato con il padrone Eh, certo Mi dica quante siamo Allora, venti qui Più le sei di là Le hai dovuto dare 50 extra Signor Rolando Me ne mancano tre Arrivano Arrivano Ah no, due me ne mancano In realtà Non da Se ne vuole due Non mi deve niente Se ne vuole un in più Eh, no Me ne di a due Non ne devo niente Lo stesso Ok A lei Grazie E niente È un piacere come al solito Conterla Si arriva A livello di affari Tutte cose Insomma Per il resto Tutto bene Immagino Sì Non giro niente Aspetta che abbassava Stavo là Non me ne sono ancora Situazione Quella vecchia Tutto a posto Quella dei Maggio Maggio Insomma Per intenderci Non vado oltre Perché giustamente Qui non stanno tutti Sì No Sembrano Tranquillizzati Diciamo che hanno capito L'antifona Quando Sono venuti Quella volta Che vi ho chiamato Ci sono arrivati in massa Quando siamo arrivati In massa Ok Per il resto Vendali Sembra che non hanno detto Più nulla Ottimo Hanno capito Che c'è la più grosso Insomma Che porca Per il resto Lo sai Qualsiasi problematica Che c'hai Un'alertina veloce Siamo qua Sì Tranquilli Mannaggia Calmate Calmate Niente Aiuto Allora io Domani non so Se riesco a portarti qualcosa Col fatto che c'è il cavallo Pieno di Di accette Però mi si dovrebbe liberare Il motel Ma vediamo un attimino A te che serve Che pubblicizzo Il fabbro di Sandini Immagino vabbè Legno ninfa Che ti servono sempre Carbone e ferro Sì Sì Carbone Io parlo in centrale Perché fra un po' Il comandante Va a finire che sclera E niente Arrivederci Rolando E buon lavoro E che auguro Una buona serata Insomma Arrivederci Buona continuazione Anche a voi Ci vediamo Più tardi Dai Tanto Nezz'oretta Un'oretta Siamo qua A fare il controllo No Benissimo Ciao Buon lavoro Ciao Aspetta Devo prendere Il cavallo Di servizio Ciao No Corri corri che mi devo sciacquare corri 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 siamo tempo ti possiamo correre Un fermo smettere non urlare con un passo scatenato Eccoci Ricostruito Ha fatto in tempo a morire Ritornare Riavvivarsi Bere Mangiare Andare a caccare E questo Ma è scomparso di nuovo Dove cazzo è andato No sono qua E lì Che cazzo hai comprato al fabbro 25 a 7 28 Quante cazze erano 25 a 7 E dai lavorerò tutte stanotte Sono scena dal servizio della scrivania Aiuto E basta che ti allontani E rimetti in servizio Quello che rimetto Aiuto Come se fu successo qualcosa Comunque Blade Diciamo Passato qualcosa Vediamo Ma è la prima volta che mi succede Ma che è successo Io l'ho detto Comandante Se vuole raggiungerci In mesa Poi in un caso Di aver di nuovo bisogno Andiamo Aspeto Do prendere Sai Gigi Sembrava quasi dei fratelli Ma infatti Alzati le maniche E togiti i guanti Sembriamo uguali Poi Eh una cosa che faccio La sera La sera La signora Leves Eh Lo faccio col menu No Snips Devi fare in Pensarlo Aspetta ma ti spiego Ho fatto Ho fatto Ce l'ho fatta Mi manca solo Il monocolo Eh Quello è buono Per sparare Andiamo Dov'è il comandante I suoi pensieri Ma sbaglio Si è accorciato Un po' Un ster JJ No No È sempre così È basso 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 Tozzo Il grosso Guardate Le spalle Che c'ho Che vuoi Che vuoi Che c'ho io Io Le spalle Non tu Ma Ma che Io Che stai Dicendo In cardina Ma che vuoi No 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 Mingerlina Piano Piano Mingerlina Fermati C'è una Patella Devo provare a spingerti Aspetta E fermo Dove Se ci riescono Di nuovo Aspetta Fermati Ci sono i cittadini Fermati Eh ho sbagliato Ma che stanno Facendo A sfidata Signori Tutto bene Tutto Un po' di compagnia Gente interessata Al corpo No Gente interessata Al mio di corpo Signore Non accettiamo I puttani Che lei Sia sempre Pi' ambivo Non accettiamo I puttani Qui Ma che cazzo Dimmi L'ho appena Ma che cosa Che sta succedendo Dottomento Signori Signore Interessata A farsi Scensire Sì Io Ma che stasso Che lo vuole fare Che sta facendo Una proposta Di matrimonio Sì esatto Perché non io Perdonate Io l'ho fatto A sinistra Cimento Va di va di Quale collega No Sono venuta Ieri Vieni qua Come un attimo Passaggio Nella città Eh Abbiamo Sì L'ottimo Arrivo Scusami Dimmi Dimmi Che non hanno fatto Quello che penso Che abbiano fatto Cosa Ma Indirizzo postale 214 Non c'aveva Il 25 Sì Eh Eh Ho dovuto cambiare Sì Azzerato Solo quello Ah vabbè Sti cazzi È Punto Sti cazzi Pensavo Zero Pro Abbastanza Tranquille E io vi sconsiglio Di usare Quella parola Per esperienza Non ha mai portato A nulla Di sereno Quale parole Ho sentito parola La parola Non va bene Qui c'è il divieto Una serata tranquilla Lei dice Porta sfortuna Sì L'ha detto ormai Una serata tranquilla È andata È andata Colpire Preparata Signori Eh no Colpirare Anche voi Signore Siete qui Con noi Hai tempo Di censire Uno dei nuovi Arrivati Venga Mi segue Venga Allora Si metta Di con La schiena Contro il quadro Insomma Quindi un attimo Dove recuperare Il modulo Mi spiace Se la osservo Mentre Redige Assolutamente no Si impara Pure Esatto Allora Partiamo Da nome Cognito Liam Rosso Quando è nato Signor Liam È la domanda Più difficile Censimento Questa Ne sono Consapevole Esatto Nessuno Si ricorda Quando 1962 1800 Vister Ti perdoni Allora 17 febbraio 1861 Quindi 62 Dov'è Nato Qui Sandini Di che si occupa Lei Beh In passato Avevo Un'armeria Rhodes Ma attualmente Sa che Qui Cercano Gli armaioli Davvero In San Denis Deve parlare Con Il signor Kennedy Un attimo Adesso Contatto La metto In contatto Con lui Se vuole Benissimo Ringrazio Mi dica Lei È interessato La metto Si 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 sono Interessato Sì si si sono interessato Un attimo Scatola Abbiamo Finito Mi dico Secondi Cazzo Un arresto Marchingegno È sempre Un casino Non si preoccupi Non ci sia 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 Cazzo Un attimo Contatto All'armaioli Mi dico che Di segno Stiamo facendo Un sensimento Comandante Allora Credo che il signor Kennedy Non sia disponibile Attualmente Quindi le consiglio Di andare a fare Il più in fretta Possibile Praticamente Adesso Con Un idriso Postale Insomma Glielo Comunicherò Tramite Emissiva Cos'è Benissimo Appena L'avrà Me lo comunica Lo comunicherò A lui Ecco Benissimo No Scherzavo Mi devo un attimo Ok Buongiorno Cuore Intellin Come Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Allora, vediamo se arriva. Voglio mandare fuori intanto. Benissimo. Andiamo. Ehm, penso che stia già risolvendo. Ah, perfetto, perfetto. Liam? Hai risolto? Sì, hai risolto. Sì, li ho già trovato anche al lavoro. Sono super efficiente. Oh, Gigi. Devo per forza andare a dormire. Che cosa? No, ferma, ferma. Quando cambiò le cosette. Anche io dovevo andare. Ah, ah. A vista più lì. Sì, ma infatti il comandante mi sembrava anche Bassino. Vuole la mia impressione. Vabbè, tu lo so, figliuolo, lui sa sempre... Fa' un culo, eh, solo perché sono basso. Sono alto quanto lui, guardo lo sto stronzo. Sì, solo che lui è il doppio di te, però. Guardate che mi rivestiti, stronzoide. Io sono lo stesso la stazza al doppio di te. Guarda le spalle che ciò. Mi metto il giubbotto. Che sei basso, eh. Eh, se ti dà una pizza... Non so se è normale. Sì, sì. Sono scusate normale che sia così basso. Sono disposti, eh. Sì, sì, è normale. Tu non li rialto. No, sempre così sono stato. E mi ha fatto bassi. Sì, sì. Purtroppo che ci vuoi fare... Papone, anche noi abbiamo la... Per queste persone stupide qua dentro. Ah! Vabbè, c'è dappertutto. Infatti abbiamo il signor Bianco. Sgherzo. Ma quindi sei una... Una regita o sei già un graduato? Ma che graduano? No, lui è già gente scelto. Ah! Eh, sì, mica... Il capo di coglioni sono... Vemca, cazze fi qui, non so. Vabbè, 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 mi qualche mese e divento... Sottrazione, ma scelto. Ti voglio vedere sotto il comandante. Sotto un treno. Beh, quello basta che vai lì sotto, ci sono le retaglie. beh è meglio sotto un treno che magari buttato dentro l'acqua effettivamente guardiamo un lato migliore c'era l'altro mio figlioccio e ha finito nell'acqua oddio no, sarà andato sulle navi di mio zio no, no, sarà andato sulle navi di mio zio gli ho detto l'altra volta che c'aveva 300 navi quindi sarà andato lì e dove è finito questo young voglio conoscerlo eh, non lo so, non l'ho più visto comunque andato io avrei un sacco di foghi da campo un sacco di carne di uccello e le posso fare pure delle borracce se interessa però mi servirebbe dello spazio insomma quindi mi servirebbero quando andiamo lì poi andiamo dopo che tardi penso che non possiate muovervi eh, purtroppo no perché ve li butto tutto questo dentro e ve la cucinata è un'evenienza insomma, capito? no, ci sono anche io che ho ho lasciato lì mi pare ho 17 e 18 fuochi da campo ho 30 spiedini più mano a mano insomma ripiena per 8 mi pare 10 borracce beh, mi faccio sempre le scorte non c'erano non c'erano 150-160 di carne di uccello doveva cucinare ancora eh, ma so che hanno so che hanno cambiato i fuochi da campo adesso ci vogliono 12 pezzi di carne di uccello per fare uno spiedino alla strafaccia dello stracazzo eh, sì eh, è lo spiedino 12 uccelli per uno spiedino ma magari perché c'è chi cucinava tantissima esatto beh, ma io non ne ho visto un abuso così ha esagerato come dice la gente no, neanche io sinceramente si sapevo si dica ha qualcosa da mangiare quindi al suo cinturone ma lui 169 signor Gegè che è rifornimento di cibo cittadino eh, no, lo conosco lui era no, no, ma a prescindere no, amica, sto dicendo così per aver visto che non è il primo che viene da me chiedere da mangiare eh, purtroppo diciamo che al momento è una situazione abbastanza drastica per noi comuni mortali capisco ti ho dato sia da mangiare che da bene insomma grazie mille ma arriverà il giorno in cui mi sdebiterò signor Michael se non si offende guadica di data definiscono un signor brillante no non so se è un complemento ma il cinturone del suo amico signor in che senso 169 dicono che lei ha molto domande aspetti spessiamoci che ci sono un attimo Michael Michael porca puttana vieni qua non dire nulla non dire nulla dai vieni qua è bella anche se ne ho accorto bene sveglio va bene gli ho passato 15 dollari così magari deve comparsi qualcosa se lo compra diciamo che fortunatamente problemi di dollari non ne ho è buono anche perché per fortuna nemmeno io infatti non so se hanno dato oggi ti ho ridato i dollari che mi aveva dato insomma si vapeva quello è il lavoro il lavoro che c'entra sì anche se è giusto dare una mano insomma io ho 4-5 dipendenti e di 5 dipendenti non ne vedo mai uno ma mi sono la sua cugina che ne hanno pure rubato roba in quel cazzo di ranch no non lo so se non vorrei accusare giustamente le persone però mi è sembrato che mancasse qualcosa mi è sembrato che mancasse qualcosa ma non parliamo di chissà che cosa cioè solo che sono molto miticoloso diciamo io quando metto fuori da campo i zuccherini le frecce le menzioni queste cose no qua non è il fatto di che cazzo di rubi qua è il fatto di rubare il gesto capito non è sbagliato siccome ho detto che ho l'impressione che sia così non ho detto che lo sia apposta adesso ho fatto quel sistema che quando ci siamo visti prima siamo nelle stalle ti ho spiegato per essere sicuro e controllare bene non posso dare colpi se non sono sicuro ah comunque ecco volevo chiedere una cosa visto che c'è ma nel lavoro vostro signor dj quante ore bisogna essere in servizio obbligatorie ma in realtà obbligatorie nessuno però fino alle 4 di notte insomma è obbligatorio rimane nel servizio perché comunque c'è da fare sì ovviamente come ti dicevo prima avevo chiesto la cucina ma non è che mi citavo tanto ma che quando mi ha definito è quella la vera cosa ho capito perché ho pensato assurdo già fino alle 4 di mattina che mi si piaccia ma nessuno ha un cazzo da fare insomma se una sveglia invece deve stare in servizio insomma però è solo un obbligo dalle 8 di sera alle 4 di mattina quando uno è in si deve anche riposare direi dalle 8 così fino alle 4 alle 4 nel libro di andare dove vuole dove vuole va a dormire a fare il culo si anche no io vado a fare degno se hai comprato quanto accetta detto 28 28 29 anzi c'è capisce a ballare le rubate ma non le finisco manco in un mese finisco in tre giorni minchia lui fa la linea come i maiali quindi sì confermo perché pensare i debiti diciamo in stalla perché massimo una settimana anche se sono 2000 dollari di pago insomma avevo capito da meno tu lo stipendio lo stipendio dal comandante più della centrale quando si ricorda ma io faccio più della centrale messa insieme che diversi 29 a 7 sono 8700 accettate non so lo so tu hai capito in quanto fa questo minimo adatta città l'arri questo che penso che non è mai mai ma non è che ti sbaglio allora io ti dico una cosa faccio una scommessa muscolo 8700 volte ascolta secondo me lui stanotte le finisce tutte fino a stare alle 4 molto probabile no no secondo me lui no è probabile fidatevi l'ho visto l'ho visto anche che mi conosce no ma t'ho visto anche io eh lo so lo so no ma è probabilissima cioè tutte quelle ci vogliono 8 4 può essere può essere che non ci riesce entro domani ma vita due o tre giorni le finisce no no mi vedo sembrava piccarello vicino agli alberi lui ha detto 20 28 28 no potrebbe essere possibile perché ne faccio tre neanche un'ora esatto sì sì il problema sono i viaggi in realtà ci possono è quello possa dico ci vuole brotto carri magari magari beh magari tu cominciare a girare il cappello dentro il cappello qualche cosa ci metti mamma mia che stavo per dire calcoli io vi ho chiesto appunto le chiavi del ranch proprio per mettere robe tipo allora vi spiego io c'ho una casa stroberri un motel dove dentro c'ho solo fuochi da campo c'ho un motel la rozz dove dentro c'ho solo roba da mangiare oh porca e così via insomma capito vogliamo tutto da voi così se vi serve l'erenza o prendete cosa meglio non li uso per il resto per il lavoro dentro cascherebbe proprio come il tasco come un fagiolo insomma come no come l'omelette la cacciatura perfetto perché l'invicino i cavalli poi magari se c'è roba che non riesco a poggiare la poggio poi la vendevo insomma dato che non lo voglio di andare nel cavallo lo chiami tu gli salvo conte perché non devo sentarmi un attimo pensano a me a me non mi frega niente a me non mi frega niente qui non qui tutti d'obbligo questo cavallo ognuno povero il suo vabbè che purtroppo al momento no stiamo aspettando ah vi arriverà un po' di lavoro se tutto va bene non vi preoccupi se si trova questo puro sangue nero forse si troveranno è proprio quello che vi sto dicendo speriamo speriamo in bene insomma non è il cavallo va bene mi lascio al vostro lavoro perché non è chiesto ci vediamo cosa mai dopo ok si ovvio ci diamo dopo io gli devo andare a scassare le ballate qualcuno abbiamo poi scusami si sali con qualcuno che sta salendo con elison quando mai lo sfaticato quello va bene formazione a colonna ovviamente come prima blade e pensare il che ha fatto cavallo ma bled è morto no no anzi fatti dare gg chiama il tuo cavallo è da l'aria sta pensando lui per quello è salito con me pensa un po' troppo gg certo penso che andiamo a valentine comandante si si credo tutti arrivo in un secondo io il mio piccolo se ti serve 214 214 si 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 chiudete la fila double martin double 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 Ok, destra Calmo, calmo, è il comandante È il comandante Porca, trovi In ronda, verso l'import centrale Poi andremo a valent Ah, ok, ok Oggi sono riuscito a farle andare in colonna Ah, comunque è tornato Diaz Diaz? Sì, bianco Ah, è tornato? È dietro di lei Aspettate Guardate la benedizione C'avete chiesto Diaz è tornato? No, lo sono io Eh, il mosso è stato a lezzo Che piacere rivedere il comandante Sono contento che sia tornato Io di meno È i cazzi suoi Non è vero, non è vero Cazzi suoi Sono contento di rivederla Certo, certo Sero io Eh, ero partito Quanto è Uee forse riprendevo la marcia tutto bene signori ok maria noi bene che io lo devo legare a spa e quando vuole garlo che pesi 30 kg questo è un cinghiale mettilo sul cavallo mio non sono meglio in realtà comunque sta bene signori scusatemi ma non facciamo ma certi vino sta coglione mi dispiace bene sono andato sti signori le armi posso prendere signore così da un'occhiata no ma sta bene sta bene solo che stanno attimo pensando ai forza ripetiamo una lentezza incredibile io spero che comunque quando diciamo ci saranno problematiche varie nessuno si assenti perché se non siamo fottuti devi chiudere la fila che cazzo vai davanti sempre sempre aiuto perché sono legato aiutati la piscata il tempo di vita piscata aspetta è perché abbiamo fatto un botto da contro una persona sbaglio sono andata a me non ha dato sbagliato sbaglio insomma ma la partita parla perché io non mi hai detto non caso sali sali nuovi ai porti per valanti piano 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 dai forza chiudo io chiudo io andate hanno fatto cambio come guai e sbagliato qua di qua di qua di qua tutto bene jj no mi ha picchiato io dalle l'ho picchiato va bene mi ha picchiato ripigliate anche l'altro figlio madonna che cazzo tu non stai bene c'è mio figlio che c'ha l'occhio mio da avere come muoio picchia stai zitto devi stare zitto che formazione stiamo deve stare due due mi sa deve essere una colonna in realtà ah bene doveva essere no dai raggiungetevi in colonna coglioni forza no 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 ecco sì doveva parte 2 niente vabbè per passare la gente che deve stare davanti dove siamo diretti all'inport è la decima volta che lo dirò a fare cosa come a fare cosa a controllare il nostro lavoro ma il giorno non c'è un cazzo che ne sono sicuro buongiorno buongiorno notte è la stessa cosa tanto quanto ho ucciso qualcosa oh ho dato le ho dato no no smetta gg prima che prima che chiamo il tenete la faccio prendere a calcio io ho calcio in coda ma io ho calcio in coda il sasso non è no forza muovete quei culi pelosi che c***o rifonderate le armi non andate in giro con le armi estratte dai gente con sto cazzo di cavallo pare che sta portando una carrozzella che caccia mio figlio andiamo 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 gente andiamo andiamo forza deve stare al fianco di quelli in mezzo vado non deve perderli andiamo 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 guardi quanti conigli tutti per lei a sinistra ma dov'è la tua system ma seguiamo la ferrovia è qua l'importante sono passate sono le strade strade sono belle no mi fanno scrivo mazza quanta gente o mamma mia saranno troppi 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 bene jj resti qui piantonato e vede un attimo se la situazione passano quelli che sono insomma no mi dica che sta scherzando comandante vi ma questo cavallo di chi è no io l'ex comandante che fine sta vendendo roba l'import e sembra uno che scherza c'è davvero rimanere qui così trascorre un po di tempo da solo qualche vecchia storia no no per carità te lo dica comandante facciamo un giochino invece che si fa recuperare che sbaglia la formazione tiro un coppino signori vi saluto un attimo c'è una benedizione va bene comandante a presto chi è quello che è partito in quinta boh chi che aspetta aspetta jj successo hai dimmi ma tu glielo dici con l'alba o normale come te lo devi dire non mancano ma che siamo tanti ragazzi siamo veramente tanti è normale che è infatti chiederemo bravo bravo detto detto consiglierei tra un cavallo superata la ferrovia sinistra sinistra grandissimo bellissimo ma che cazzo di urli ringrazio di urlare devi urlare non devi urlare non devi urlare non le un cazzo lo sai che c'è un sito che è l'itigi innamorati ma gli meno andiamo più per il cavallo tra virgolette ma il dispare a diversa piccola vista la inglese sparo forse solo con la pistola inglese hinter fucile direttamente forza cosa tira un pugno superiore aspetta aspetta per divertire poverini perché divertire mi ha creato un pugno quel bastardo bianco a colonna dai buzzurri ma buzzurro a chi io sono solo di valentia non stava in colonna che aveva il coppino questa non è una colonna ma bene più lontana vuole andare a legge se avvicini lo spazzolando il cavallo se ne frega si sporcherà lo stesso ma infatti dai lo spazzolo a valentia dove è pieno di pango e merda io lo spazzolo da roba andiamo si affianchi attenzione occhio non è una colonna questa grazie al cazzo correte chi ha la bocca aperta mannaggia alla puttana non lo so non lo so patrick c'ho la bocca aperta secondo me sono tutti dietro al porcino ecco appunto come vieni no 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 se ne è porca attenzione se ha capato ma salve la tabella sposata benissimo grazie molli 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 salve ogni salve salve mi ignora li faccio una volta di 18 dollari adesso si dimmi sarà ai grazie grazie mille no ma mi ignora davvero no come va sarà 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 molli io sono sarà che ho fatto la doccia che mi ha fatto la doccia non dico c'è affatto una doccia perché mi chiamo sarà in considerazione ma lì che ma lì valli portiche perfetto ma sempre così sicuramente per cavallo si vuole portare sarà al salone di san denis ovviamente no voleva stare qui per forza per essere qui certo ma non ci sto meglio fatto trovata forse di americano è una domanda seria da posso fare davvero quale quale si è sposata non la sento perché alzano troppo troppo la voce alzano sarà che viaggia salve mister zainotte va bene sarà cos'è sarà sarà un bel viaggio ma ogni cosa che devo sottolineare brevemente e mi chiamo così però cosa ci avete messo quindi sarà un sacco di luffo infatti ho un po' di gara io sono tommas è un po' di cazzo io sono tommas ah eh non guasta mai non guasta mai diciamo che ho e le passo un po' di servaggine la vuole non cerco la signorina e lì sono io sono aiutante ma io sono bravi a lavorare però non sono molto sociale volendone un po' ma il comandante eh sì solo che si è comandante andiamo a salutare il comandante guarda io in caso le do il sale e la selvaggina e me lo scala da una bistecca di cervo anzi da una frittata che mi piace eh frittata si arrivo ma managgia e allora una bistecca di cervo va bene una bistecca di cervo va bene ok le passo il sale che sono 52 sacchetti vieni le passo anche 10 di selvaggine stavo orlando me ne sono accorto adesso mannaggia alla puttana ah non mi ha detto il comandante di tirarti un cazzotto ogni volta che fai una cazzata ecco fatto adesso le cazzate molly ha detto che sei invasivo non sono invasivo sono invasivo sono invasivo ha detto no invadente ecco un invadente o invasivo lo sei no cambia cambia magari le hai messo un dito nel culo e sei invasivo magari le ho messe in bocca e sono invadente no sei comunque invasivo in quel caso invadente se rompi i coglioni con le domande come hai fatto tu eh vabbè sono invadente allora vedi ti sei risposto da solo sì comunque sia smettila di rompere i coglioni a molly questa non è città dove rompere i coglioni purtroppo ma 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 io rompo i coglioni a prescindere lo so ma non in questa città perché come ti abbiamo detto ieri come mi ha detto ieri qua dobbiamo fare i bravi bimbi andiamo a fare i bravi bimbi che devo dire mamma mia è rottura dei coglioni e metti di un giocatore che ci sono undici gradi affanculo io gestisco bene il prezzo orso si pinguino più che altro sulla stalla c'è la nuova scusa molly non volevo essere invasivo invadente intravescolare o quello che è padre che ti protegge ti nasconde ma gli ho chiesto scusa vabbè basta non chiedo manco più scusa non chiedo manco più per scherzare questo ho capito va sarà sarà esatto eh sì andiamo la sigurina sa tenga l'uccello fuori dalla spalla no ma gli si sposti non vorrei essere invasivo si è offeso e lei che vi sta infatti non vorrei essere invasivo si sposti io stavo qui prima quindi si sposti lei no ma si sposti lei questa è la mia città è la sua città è la sua casa? è la mia città ma se non ci voglio un mino qua bravo ecco qua ecco qua palle vabbè io mi lavo quando andiamo a san deniva lo dico che diavolo succede? che diavolo succede qua infatti ah comandante come andiamo tutto bene c'è di foley come sta? non c'è male avrei bisogno di discutere con lei di due cosine prego dopo di lei allora venga e questo è successo sì sì però è grande è bello grande al suo uccello cosa è? per me nella media poi sono assinore si è scamba sono assinore sono abituata a vedere gli convertiti ma per questo ho chiesto chi è che mi chiama? chi che mi chiama? che mi chiama sarà che non le piace il mio uccello ed è grandissimo è più grande del suo dici quello nero è bellissimo che discorsi del cazzo esatto io una tromba sarai no sono sarà ma che sei buon lavoro signore è stato bene anche perché non si è sposato senti un po solo mister jj e perché non si è sposato ecco perché non ti preoccupare forse vuole farle la proposta miss molly ma come per farlo ma figure no è tranquillo rischi non lo so come si chiama come si chiama verchiamo come si chiama aspetta dico il mio nome no cara dico come si chiama io io come si chiama io voglio tradicare il signore sì no ma dica no ma dica dica a cara dica a cara per farà 2 un pochettino cosa sta facendo quell'altro che vuoi tu Il perché? Il perché... È il perché? No, no, no. No. Miller stende anche... I guapichi sensuali... Mi dica Sara? C'è la disgrace sotto le share. no no addio addio no 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 stavo dando una lettura veloce certo non sta orlando no non sta orlando si abbattava elison tutto bene ti vedo ticcare nervosamente gg tutto bene ma l'avete finito di fumare la 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 matt la 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 e il palignano non vuole lavorare e quindi lo sa fare a sapere quelli soldi sono 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 hanno rotto il tempo è troppo lenta ora signori stiamo un attimo qui per la notte aspettiamo e poi all'alba partiamo bene dobbiamo per forza non possiamo partire adesso sei in silenzio che mi ha già fatto mia sorella a casa a quanto pare i bambini oggi avevano bisogno di lui sebbene sia la figura c'è con il sceriffo insomma che è successo con la situazione qui davanti perdiana perdiana se non vengono rispettate le stavate legando tra di voi assolutamente no 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 fermo un attimo bled mi stava riprendendo non ci stavamo legando tra di noi eh no mi stava letteralmente riprendendo blade guardi comandante ne parliamo dopo perché a me giro al conto cazzo io non è un problema mi dirico per la santa mi sono rotto il capo no aspetti il giugno col capo l'ordine posso tornare a casa mia l'ordine sarebbe di aspettare un attimo la mattina ci rifociliamo al saloon e poi bene non ho fame non ho sede non voglio restare in questo posto posso andare no no io sto parlando si mette fuori servizio ma adesso vado a fare servizio nella mia cittadina e sto parlando io parlo anche io rimaniamo poi l'ordine ve l'ha dato arrivederci come la situazione all'interno arrivederci ma perché sei messo così mi era impiccato che cavolo questo chifo chi? oh un vecchietto ciao vecchietto vi odio vi odio vi odio particolari particolari sì come un dito ficcato su per il culo con un po di sabbia sopra l'hanno rovinata l'hanno rovinata ok ho fame si è inossale quando si sposa è un'occhio se no ha 19 anni siamo olga no Sono d'accordo, d'accordissimo. Vedo che questa città mette agitazione a chiuse, meglio che andiamo via, comandante, che mi sono più nessuno, meglio pochi ma buoni insomma, meglio pochi che buzzurri al cazzo che dovrebbero essere contro i forestieri ma accettano tutti insomma, su, in marcia di chiamati tutti gli altri andiamo, fancuto cittadina di merda e fango, bada ragazzo ti ho sentito, lo so sceriffo, non è contro di lei, certo grazie, oh sceriffo, se posso, non dovrebbe essere da quello che ricordo io essendo nato e vissuto qui una cittadina contro tutti i forestieri questa, e ora riprende il suo sindaco sceriffo, in quanto ieri ho dei ricordi vividi dove dice che sono tutti ben accetti qui, credo proprio di sì invece sceriffo, ho dei ricordi molto vividi, beh allora ci parlerò, va bene, queste puttanate non succedono sotto la mia ronda, tranquillo ragazzo, proprio per quello che sono nervoso sceriffo, mi perdoni per tutto il disastro insomma, e quando l'avrebbe detto Victor per questa cosa? ieri sera, davanti a lei, avrà detto che sono i benvenuti a fare affari, assolutamente no, ha detto che è una città full inclusiva questa, ho dei ricordi molto molto vivi a ricordo, no, credo che avrebbe avuto qualche bicchiere di troppo, il vecchio Panem, non credo proprio signore, era d'accordo anche il suo vice qui alla sua destra, alla sua sinistra mio perdoni, Jack che cazzo dice, anche io ha dei ricordi vividi, no, io mi ricordo che ha detto che sono i benvenuti, no, no, io ricordo dei ricordi molto vividi insieme alla mia collega che avete detto che eravate full inclusivi, c'erano dei cazzo di messicani da dietro mentre vi scazzottavate allegramente Jack, hai moltato uno dei miei cittadini di 5 dollari, sono venuti a prendere sono? no, Jack e la cosa mi fa quanto incazzare non ho parlato dopo di questo Jack adesso basta così, ci penso io a parlare con Jack e con Panelme tornate pure alla vostra pattuglia, la città è buona in mani mi perdoni sceriffo ma sono incazzato proprio per questo motivo insomma tranquillo, sono abituato a vivere, essere nato e vissuto qui, insomma, mi capisci, no? sentiti pure libero di tornare quando vuoi vieni, Jack, facciamo due chiacchiere per quanto riguarda Panelme e il suo vice invece che mi volevano togliere ieri sera parleremo anche di questo, non ti preoccupare ragazzo va bene ci si vede in giro arrivederci arrivederci ciao figliuolo figliuolo tu non mi ci chiami cazzone basta ragazzo la prossima volta che mancherai di rispetto del mio uomo mancherai di rispetto a me ricordalo ma per quel motivo che l'ho chiamato così io non ti ho mancato di rispetto a me e alla mia collega qui dietro forza uomini andiamo ricordi vivi di anche arrivare tagliamo tagliamo il discorso va bene non facciamo altre polemiche va bene arrivederci signori arrivederci serifo vi ringraziamo per l'ospitalità andate prima arrivederci la notte più buia andate andate attenti e lupi agli indiani mi raccomando arrivederci arrivederci ti attenta molly quanti vorremmo questo di quella che sarà mai che un coglione ma chi è vecchi parli con un muro non perderete fiato e vabbè sti cazzi deve capire non capirà mai tanto e devo farà capire lo sceriffo dai forza ma io infatti non ci ho perso tempo che sto scusa e basta mi sbatto il cazzo io io butto nel culo fino a quando risolto risolto finalmente siete arrivati che cazzo diciamo che diciamo che già ha geggiato eh lo so ma lei farà un volo prima o poi eh prima o poi ma non è tutto il giorno eh sì sì proprio convinto ti ho già detto che di queste questioni non deve discuterne in città ne ho parlato con lo sceriffo infatti non ne ho discusso in città insomma ma la sua lamentela non viene vista come una lamentela sua detto proprio tra di noi comandante lei sta passando per il rosicone di turno ha detto proprio sinceramente no eh sì no no allora sono ricercate patate eh sì e poi la gente lo trasforma vuol dire che non c'è il so tra quello che fuori e quello che è dentro eh sì ecco lì sopra andiamo in centrale vi devo fare un bel discorsetto a tutti l'unica cosa c'è già mi senti urla un po però perché non la sento più dicevo l'unica cosa quando c'è lo sheriff c'è mezzo alle persone evitiamo il discorso di cazzo di ricordi vividi ma che cazzo vuol dire come te lo spiego e no ho capito non devi spiegarlo non c'è no è perché sennò passo per quello che dice e passo davvero come dice il comandante per il rosicone quando invece riservate vorrei evitare proprio quello insomma che andiamo penso un secondo a perdonare l'ingliette www.mesmerism.info 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 non spingete tutta colpa sua di essere tutta colpa sua penso la stessa cosa arrivo io le persone sono tutte più nervose e valentine fango merda e persone del cazzo che non la sanno gestire vabbè non è neanche quello è proprio quello il fatto di persone che non la sanno gestire infatti ha sentito lo sceriffo che cazzo questa è la verità ma è guai fatto star che abbiamo fatto incazzare il comandante fatto star che sto minchia di hill a me non lo fanno mai mi chiedere una scatola di pallottole per la pistola perché ne sto finendo è caldo lo sapevo di quella puttana guarda io vorrei capire tu dove cazzo guarda hai forse seguito il comandante non lasciarlo solo comunque comandante adesso è perso l'ultima parte del discorso con lo sceriffo alla fine mi ha dato ragione no non penso sia volutamente si fidi ho ricordi vividi vuoi un pugno anche tu blade io nel dubbio un bel segno della croce quando devo fare ha già capito come va la tirata bene ave maria madre di dio non vediamo le armi fa per i tuppi della riuda il comandante tira fuori la frusta 10 non quella 9 code che usa con la segretaria cazzo 9 pollici di frusta buttati via diciamo che non riderei così tanto mi sa che stasera c'è in cula io ho fatto il mio se gli altri non fanno loro non è un problema personalmente sono stato zitto buono e muto ma che zitto è buono che non ti sai mordere la lingua eh quando c'è da non motardella quando c'è mortadella? sì, quello me sono impapinato comunque io ho fatto tutti gli allenamenti sulla vita mi sa che il prossimo lo faccio sull'energia standi allison sui riga all'esterno e attendete il mio arrivo vabbè mi sento da 20 secondi un po' di cazzo era questa? sì no sì sì, proprio quello proprio quello c'è un zccato, guarda eccola arrivo ho fuck that immagine 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 to my friend and it feels too vended tremendous clean fuck a dollar and a green still tot that strap with infrared jeans choppin' horns smokin' lied oprimones money hold all all a foolish pleasure whatever i had to find a very treasure so grams i had to measure i want a living better now put you sweat it now drop box and i'm the man of grand si on the way to the tell go to my Grazie. 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 Qui siete? Si siamo qui. C'è chi c'è. Buonasera. Buonasera. Buongiorno. solo le ufficiali non stanno in riga raid bene signori per fortuna c'è anche ben qui oggi così ascolterà attentamente quello che avrò da ridire a premessa finisco io di parlare non accetto nessuna replica che sono stato che anni interruzione chiaro chiaro bene iniziamo col dire che sono abbastanza disgustato se posso dire disgustato e mi vergogno effettivamente per quello che è successo oggi e non solo oggi per tutte le voci che sono giunte alle mie orecchie signori un atteggiamento del genere come quello avuto a valentine e o quello che si è verificato anche in città io non voglio assolutamente più vederlo e non lo accetto più chiaro se siete uomini non bambini quando accettato questo incarico con così tanta dedizione con così tanto piacere onore credevo di dover gestire un dipartimento di uomini di legge non di un asilo nido non dovrei essere io la vostra mamma è stato vergognoso a dir poco venire a conoscenza che addirittura lei agente gg si sia messo a piangere all'interno del salon di valentine portando vergogna e disonore all'intero dipartimento in che senso a piangere mi scusi nel senso del termine piangere ha iniziato a scherzare a ridere con la signorina molly e a un certo punto anche si è messo a sghignazzare lo prenda come vuole un conto e farlo tra amici un conto e farlo non mi interessa un cazzo gg non esiste amici non esiste niente esistono i cittadini e noi e vi informo che di aver parlato attentamente col tenente il quale mi ha informato a sua volta che che molti cittadini si sono lamentati del vostro comportamento di questi giorni i quali vi hanno trovato troppo simpatici troppo prepotenti e troppo come possiamo dire burloni non so abbiamo aperto un circo in città fatemi capire allora farò che non faccio più burlone insomma cosa ho detto in premessa niente repliche parlo io devo ricordarvi che le azioni occhi possono influenzare la reputazione di tutti noi devo essere io a ricordarvelo o forse pensate che siccome io sia buono con voi no siccome sia tranquillo vi lasci comunque il diritto di parola anche nelle decisioni vi dà tutto il diritto di poter riprendere non solo il dito ma tutto il braccio avete sbagliato di grosso signori perché nel momento in cui io dovessi e soltanto percepire un inclinatura all'interno del dipartimento sarò il primo e secondo me anche il tenente a seguire a cacciarvi al calci nel culo e a rispedirvi da dove siete venuti chiaro quindi vorrei essere chiaro e spero di non dover rifare più questo discorso comportamenti come quelli di oggi comportamenti che possiamo definire infantili io non li accetterò più all'interno di questo dipartimento portate rispetto ai cittadini così come i cittadini devono portare rispetto a voi questo non vuol dire che dovete dimostrare di avere la la revolver più lunga degli altri con la canna più lunga degli altri perché un semplice rispetto può essere guadagnato anche con un sorriso se fatto nel modo giusto sono stato chiaro quindi riflettete seriamente sullo schifo che avete fatto oggi e capirete che effettivamente c'è qualcosa di sbagliato in questo e gg mi rivolgo a te perché diciamo oggi si è capitato tu quindi non la prendere come un attacco nei tuoi confronti ma dovete imparare che c'è un momento per parlare e un momento per stare zitti non capiterà più comandante ho capito cosa intende e soprattutto non tolererò più che mi si diciamo non mi viene il termine che si borbotti a un mio ordine se vi dico restiamo in un posto si resta in un posto se vi dico andiamo a fanculo si va tutti insieme a fanculo chiaro non mi interessa che non vi piaccia la cittadina non mi interessa che non vi piacciono le persone noi siamo lì per effettuare il nostro lavoro fine che quello di controllare tutto lo stato di controllare anche a valente se hanno bisogno perché gli sceriffi di valente sono in numero nettamente inferiore al nostro è considerato che hanno una minaccia reale che quella causata sia dai cubani che dai dai nativi mi sembra doveroso che noi in qualità di di deputi appunto di uomini di legge che con giurisdizione in tutto lo stato passiamo e controlliamo e nel caso offriamo il nostro supporto ci sono problemi venite da me ne parlate con me sarò io nel caso a prendere provvedimenti provvedimenti a me non me ne frega un cazzo se i cittadini di valentano sono fili dei fiori vogliono fare amicizia con tutti a noi non è una questione che ci riguarda facessero quello che vogliono a noi devono riguardare le questioni nostre che il nostro lavoro la sicurezza dei cittadini noi dovremmo essere l'esempio per i cittadini se i cittadini ci vedono ridere scherzare spingersi prenderci all'azo è tutto questo capite bene che non prenderanno nessuno seriamente avete visto la situazione di prima al banco dei penni no del sol come si è permesso di rispondermi che si è fatto diciamo in un certo senso grande perché c'erano i signori ebrei che erano in numero nettamente maggiore al nostro ma non vi preoccupate come vi ho già detto appena beccate del sol lo portate qui li date una lezione li date due calci nel culo anzi più di uno e vediamo se del sol poi la prossima volta si permetterà di parlare in quel modo ma c'è sempre un momento per ogni cosa imparate questo e non dobbiamo polemizzare chiaro dovete dire sì comandante o sì signore quello che volete sì signore bene spero di non dover riprendervi più e di non dover rifare questo discorso ben vuole aggiungere altro no non serve bene ora mangiate bevete fare quello che volete parlo un attimo con ben e poi ci rimettiamo in ronda chiaro chiaro si spero di ritrovarvi qui a meno che non dovete andare in brand e non accetto comportamenti infantili del tipo io me ne vado a letto non siamo qui se non riprendono calci in culo fino alla fine dobbiamo comandante lo siamo una cosa veloce tranquilli arrivo la comunica stiamo in riga intanto non rimanete fermi tranquilli sogliete sogliete bianco sì ditemi comunque tu quando vuoi a cavallo sei pericoloso ma tutti i fermi davanti amico caro se si ferma il comandante ti deve fermare automaticamente le panzone di merda ti do una coltellata di faccio uscire tutte le budella che c'è in corpo hai capito quando si ferma il comandante ti devi fermare anche tu l'urido pezzo di merda tocca di nuovo il mio cazzo di cavallo distrazione di strappo la carotide ti giuro che te la metto su per il culo non mi dovete picchiare ma non c'è una volta ben non l'ho picchiato ma mi stava strangolando questo allora dopo il comando c'è appena fatto sto cacciato né voi fate così rega ma una certa fermi 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 dai andiamo dentro parlando allora prima di tutto non alzare le mani perché sto parlando se sei un essere umano e non c'è un bambino parli signori mannaggia alla puttana che non dico di chi alleluia regolata una regolata ma le zone sto solo parlando con lui non mi interessa regolata ok lo capite ma che ci diamo di mezzo tutti poi sto parlando con lui mi mette le mani in controllo per strangolarmi non è che che ti posso di più di tanto fino a lei ma ti dico date una regolata quando questo io va bene allora fai così la prossima volta stai attento si vede il comandante fermarsi fermati anche tu per favore sì che mi fermo grazie non insultatevi grazie d'accordo noi grazie mcgillis pezzo di merda durito bastardo stavo scherzando cosa che stavo scherzando vabbè tanto sbagliato io cilatevi tutti quanti da no io facciamo bene tutti assieme migliori no io che vado troppo duro questo è espresso il tuo pensiero basta c'è non si è passato dal primo troppo duro insomma non è che lo esprimi troppo duro esprime un tuo pensiero allora dove si fa come faccio io diciamo che do riservate ma mi viene dato come no tutto dovessi la puttanesca insomma ma tu ma tu non si venne all'arrabbiata ecco quando in realtà non è in quel modo però vabbè aspetta la finita la vena lasciata finita dove signorarli come faccio io infatti non è fatto il cazzo non gli ha ignorati sei andato ancora più peggio è proprio io faccio le penne all'arrabbiata secondo loro quando invece sono riso e patate ti fidi di me ascolti quello che dico dammi ragione non lo sto sbagliando perché mi ero del culo guardate viene preso per sono d'accordo anch'io su quello sono d'accordo anch'io veramente ti ho ragione ma non diamogli contro nel senso non intendo che dobbiamo essere amici migliore amici il cazzo che aveva le faccio ui ecco non devi fare il sottomesso tanto questo io intendo che tenere di sbattere il cazzo infatti visto ieri io ho corso sbatto il cazzo sulle matica delle persone e non parlo più veramente questa personalità mia mi dispiace rega ascolta tu non è che devi star zitto perché devi fare il cane devi star zitto perché a volte è meglio star zitti basta sei in una posizione tu non sei un bandito tu sei in una posizione di legge quindi a volte a volte deve ingoia il rospo sta zitto punto fine purtroppo non si può fare un cazzo anche io tante volte vorrei parlare sbattere persone contro il muro ma devo sta fermo ma ferme zitto fino a una certa insomma l'ho capito ma lasciando cioè quello parlava lascialo parlare per carità prego prego si passa avanti io ti dico penso soltanto che tu sei un debut e loro due sono sceriffi di una cittadina del cazzo frangosa quindi basta tu pensa questo se ti parlano in modo non rispondere ha sentito non so se c'eri tu l'ha sentito però comunque che ha detto lo sceriffo di valentino io con victoria van pen quando quando lui ha detto sta roba quando lui ha detto sta roba dove dire grazie a scelto ci andiamo poi quello che diceva cerchi poi rivederci poi ha risposto jack gli ho detto tu stai zitto cazzone ma spiegarci quando un bifolco risponde sempre così e permetti che gli rispondo pure io sono più bifolco di lui quando c'è no no perché altrimenti da bassi sempre questa perché se tu continui tutti abbassano il livello loro come ancora peggio e anzi sti cazzi io gli sparo un colpaccio allora ascolta allora ascolta loro sono come dei bambini caso che tocco non vado a buon ordine faccio la bambina di ascolta tu sei come loro sono come dei bambini no che adesso stanno stanno scherzando con te perché tu gli dai corda se tu non gli dai più corda loro non sono più interessati a te punto questa la verità vedi che jack se tu non non fai più il coglione jack vede che tu non fai più il coglione due tre giorni due non ti caga nemmeno più mai ricavano lo stesso quadro problema ho capito io lo capisco che tu di gare in gola ma non lo deve non deve far capire a me che gli cagli in gola lo so che ci riesce a cagarli in gola il problema è che se tu glielo dici proprio direttamente così da devo dire direttamente così a cagolato sì ma da tempo ti passi a coglione perché lì poi non sembri più un uomo di legge ma sembri uno un bambino che si è incazzato perché gli hanno tolto il giocattolo che giocattolo ma non ho capito tu ti interessi tanto di valentine tu sei qua che cazzo te ne frega di valentine ma mi se la stanno già la mia terra nativa ho capito tela se la stanno gestendo loro male problema non è quello la stanno gestendo prima di quel coglione di penoponor il cazzo colato la vota io quella cittadina capisci qual è il problema ho capito ho capito che ti fa rabbia per questo ma se la stanno gestendo male assolutamente la stanno gestendo di me loro cazzi loro in pazzi loro e dai cazzi dei cittadini che c'hanno ha infatti un riferito allo sceriffo facesse lui ecco il resto cazzi loro come detto non sa fa il suo lavoro cazzi suoi appunto noi devi d'accordo di posibilità a parlare quello che vuole capì io prima c'è io non è che farlo così tanto per parlare porca potana ma figli tutto chiaro e soprattutto se lui la gestisce di merda non devi essere tu quello a gestirla bene non è un tuo interesse lo so che la tua cittadina e ti interessa ma non deve interessare te ma ne prega tanto quanto io sono qui a sandini la prima che dopo che gli anima scritto gli avrei sparato in faccia ma non l'ho fatto perché non mi abbassa sbagliato lo spirito a duello ammazzalo come un cane sangue freddo sti cazzi ma perché io non mi abbassa a livello dei cani è diverso io la prossima volta comincerò a sfidarlo a duello vediamo asco ascolta una volta che ammazzi lo sceriffo no poi passa jack a sceriffo e sceglie un altro come non hai capito non ammazzo lo sceriffo io ammazzo il vice sceriffo ovvero jack e poi sceglierà un altro come vice sceriffo e la ruota continuerà sempre e io li ammazzerò tutti come cani a 11 ascolta troppo era quello decente ascolta posso capire che la tua cittadina ma porti troppo raccore dentro non teneve sbattere un cazzo non era ancora il riso e patate quello il concetto che non capisce ho capito che io ti sto parlando di raccore tu jj ho capito è la mia cittadina io la voglio a modo modo ma non la puoi avere a moto perché non comandi tu ci sarà il giorno magari nel quale comanderò quando comanderai allora fare il cazzo che ti pare ma finché non tu non comandi non puoi fare assolutamente proprio un cazzo assolutamente partiamo dal presupposto che sono un depoti quindi comando anche sul sindaco capisci qual è il concetto se ne abbiamo già parlato ieri di questo lo sai come la penso lo so come il concetto concetto dovrebbe essere il concetto insomma però il concetto come l'hanno messa è che lo sceriffo comanda quindi lo sceriffo comanda punto fin si può fare un cazzo il sindaco comanda attenzione tu fai passare i giorni vedi che quando se lo gestiranno di merda lo capiranno se si cittadini ma fino a lì infatti allora ma se comandante il comandante dove sono gli altri e non lo saranno qua bianco l'ho visto che andava dritto lì gioco poi gli altri non lo si bianco è andata a mettere la sella ma lei mi sa che ho avuto un attimo un mal di testa per non sapere non questo se ancora comandante ma da buzzerro di valentato non ha messo solo molto bene sì gg scusa e non lo capisco però imparare quando il momento di parlare quando devi muzzicarti la lingua esatto poi dopo l'articine se no ti farò bloccare dai due energumeni alla tua destra e la tua sinistra e te la taglieremo noi la lingua poi devo parlare come non cambia molto in realtà ci sono momenti che parli in questo modo non capisco il cazzo davvero quando sto impiato rega il discorso è sempre quello abbassarsi al livello è una cazzata nostro allucinante che la prende a calci in culo da mettere tagliamo la lingua in questo momento non vedo blade per cui oltre comandante il più alto in grado sono io mi permetto che si che è vivo come dicono di buonasera ci sentiamo tu ci senti ma questa è quella che mi diceva come ha visto abbiamo un'altra donna ma almeno la gonna ma cos'è una suona e può essere bianco magari le faccio prendere i conti alla quando assumiamo i circensi al promesso di picchiarlo se si va come no no puttana quattro in uno a patto va bene signore allora mi raccomando quando vi dicevo sulle segnalazioni non scherzavo che per questo quando vi dicono e non fatelo davanti alle persone perché vanno proprio mi ha parlato mi ha detto che stavi infatti domani presumo che anche lui vi tirerà un po le orecchie insomma mandato una domanda o li lascio un appunto dicendo che diciamo interceduto io vediamo che non mi tira il pibolo perché altamente piacciono quelle cose insomma che deve tirare che c'è in ciucco giusto e di calci ma può venire un attimo ciò che era lì però lei si ricordi che l'hai sposato che è sposato segreti comunque il signorina assistente avrei bisogno di ci provare con l'assistente avrei bisogno ma ancora non lo sa aspetta dovrò fare qualcosa da mandare devo mangiare qualcosa proprio andare a prendere assistente aia serviti da solo aia è il comandante loro non posso a signori un'informazione al volo prima che mi dimentico di nuovo da oggi o meglio da oggi da appena abbiamo tempo avete tutti la lista delle persone che non hanno pagato le fatture giusto io no perché lei è un coglione ma ma mi scusi tenendo ma passa nel cazzo ne so io la vede nell'agenda azzurra fa no non la vedo è proprio quello il problema si è proprio un coglione è impossibile che non la vede mi mandi un puntino sull'agenda azzurra che ne devo dire bianco lei la vede aspetta e nelle diciamo nella parte dedicata alla ok si scarsa coglione va bene comunque tutti questi coglioni no non dobbiamo cercarli abbiamo avuto l'autorizzazione li dobbiamo convocare in centrale la ricerca persona ma è un po lenta non è che aspetta poi aspetta tutte queste persone qui non hanno pagato esatto dobbiamo obbligarle a pagare seduta state se si rifiutano rispondono del reato di frode e inoltre dovete comunicarlo immediatamente che lo comunica bene ben prende provvedimenti per chi vedo troppi numeri esempio giacobilli gli armobili aspetti che vanno prenderà la 1407 affiancato con 16 e 07 307 sarà il numero da pagare che si usi era data no non era data perché nessuno alcuni hanno un solo numero è vero c'è per esempio alice che flamingo che ne ha 3 aspetti aspetti sto prendendo allora mi dica sono le date delle fatture sono le date come fatture a ok ho capito una fattura 1 che ne ha 21 che ne è una non è stato poi parlerò con bene magari mi faccio passare il totale dei dei cosi insomma non parla stavo pagando ragazzi molto ora fa l'unico problema si potrei mettere il pezzo della muzza però non c'è voglio non c'è no 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 non lo faccio io tanto tranquilli però si la fa bella lo fa un po è un po farà il tomato insomma via è un po rallentato dato il momento e me le manderà aggiornate quindi capisco domani non è fatto male tornate con il numero anche nella fattura a posto pole me lo gira e io aggiorno la lista ora pubblica nuova faccia ma allora signori quanti siamo siamo 1 2 3 4 5 6 7 8 con ben allora io direi quindi procedo le convocazioni no siamo 9 con ben come no no e veni non la devi contare un assistente non fa niente vabbè siamo 9 con ben dopo è sempre una testa in più infatti va anche armata però va bene dal senso era fuori per i vari tiri non è un problema procede la convocazioni buon lavoro a domani buonanotte buonanotte le comunicazioni le conviene farle domani con tranquillità iniziamo da domani comunque mi servirebbe una scatola di pallottole per la pistola ora facciamo subito ovviamente le convocazioni come devo dire non è che mi fate una lista mandateli uomini a giro con una lista di 10.000 nomi no, no, una per volta esatto aspettate che so tre ore no, tre ore assai un'oretta e poi passata al secondo se non si è presentato pure un'oretta secondo me assai dieci minuti e un quarto d'ora è per non capire è per non per non intassare insomma esatto però non intassate di uomini diciamo lo stato ok va bene venga Blade che le do io avevo subito ma un attimo cazzo 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 c'ho fame, c'ho sonne, c'ho sete io io ho anche molti dolori mi stanno dando il culo ah, quanto è fashion la camicia di Ben molto bella qual è la camicia di Ben non l'ho vista beh allora lei oltre ad essere coglione porca puttana comandante mi dà il consenso di dare un pugno al comandante come no che cazzo di domande poi ma come si permette vuole fare un combattimento non mi maltratti non mi basta 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 che facciamo male dobbiamo sarebbe allora quindi ci dividiamo in due gruppi da 4 momento da da 3 da 3 1 da 4 che allora blade io blade allison via e io ci ho provato tu sei in punizione col comandante no allora visto che vuole stare con allison e evelyn fate voi quattro ma in caso allora sta con il gruppo del comandante e allora facciamo io lei evelyn e allison diaz blade miller giusto così siamo tutti invece contenti via ovviamente via lei gli ordini si sto pensando un attimo perché non è un agente quindi 3 siamo 33 sostanzialmente bene fa il jolly so abito va bene così ti tengo t'occhio gg allora gg possiamo tornare a monitorare la situazione ebrei si e se potete tornare a monitorare la situazione ebrei ai miller e diaz si sei bisogno di contatti si 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 spara un colpo no scherzo in testa ibrei volentieri che si è ovvio non si vogliono bene si picchiano si vanno in giro sarà spiegando come topolino tipo di un tipo per il maridocchio allora aspetta ti alzo vede un attimo con me riesco solo a portarmi torno aiuto la pistola in mano vabbè mi facciano dire attenzione con la pistola in mano come mai ho sbagliato è un coglione perché perché gg è invasivo ma che cazzo no 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 sono invadente metto le dita nella lingua delle persone insomma via che quello è invasivo no qual è invadente no invadente significa che non ho capito bene no no l'invasivo significa che metti un dito nel culo e quindi sono invadente solo se non piace hanno accoltamento puoi andare dal medico e farti mettere un dito nel culo e piace dirti ma comunque una visita invasiva prendere un punto di vista e niente abbiamo una segretaria quark ogni pugno che mi dai sono 5 dollari di bella e sappi che posso farti le multe vabbè io posso pagarle non è un problema posso anche contestarle no non li puoi contestare perché sei in causa dei danni no vabbè potete contestare al massimo prendo via la denuncia e poi ti do ragione sono donne alla fine perché ha fatto la cacca per terra perché a me piace cagare per terra con i cavalli oh la ciampicata aia a me porta fortuna dai aveva la stessa consistenza di ellison no di evelyn mi sono corretto no no ha detto di evelyn non ha detto di ellison e non va bene la stessa non va bene vabbè ma di vendere no non va bene ma io dico ma fa tutto lei fa tutto lei si si è multitasking il cazzo vedrà tutto il cazzo avete rotto ma come si dicono queste parole ma è una donna lei ma mamma mamma aia c'è solo una cosa che posso dire fortuna che alla mine le manine piccoline lei quindi non fa male do da venga venga disturbiamo da salve Scusate, cerco un po' di diritti Ah no, ho sbagliato persone Vuoi un altro pugno? Lei ha il diritto di prendere quelle pistole in mano Non mi pare, signorina, le abbassa Hai un altro pugno? Da me rigiro stata che io ti sparo, te lo giuro, te lo giuro Non ha il diritto di sparare Ma mi perdoni, ma come si permette lei? Aia! Ma, assistente, non le dice niente, lei Nemmeno lei ha il diritto di parlare, mi scusi Aia! No! Ho sbagliato, giuro Stato nello spasmo Spasmi mentali, è diverso Basta, mi siedo qui con un uomo Così possiamo parlare con tutti i diritti del mondo Mi dica, personale, diritti, cosa ha fatto oggi? Cosa vuoi? Cosa ha fatto oggi con i suoi diritti giustamente meritati Perché abbiamo il pisello? Le multe? No, neanche Non posso far nemmeno quelle Non con quelle possiamo farlo No, perché noi non siamo di valente Ne può fare solo penno penor Di 5 dollari per una corsetta Per uno scatto Penso che abbia Qualche tipo di malattia Continua tipo a grattarsi Fa robe strane con gli occhi Chi è malato, chi è malato È una malattia La scabbia Vedo che si gratta Muove gli occhi, il naso Sì, sì Sì, che so Chissà dove l'ha presa Le dico una cosa Quando ha dei rapporti Non li deve avere nei luoghi fetidi Come la valente Sennò devi prendere a Fubalub Insomma Esatto, sì Ma tu mi hai rotto il cazzo Stasera Mi hai rotto veramente I coglioni Mi hai rotto Va bene Voi andate in ronda Voi andate in zona Diciamo passi fondo No, no, no Io Ok, a posto Allora Pattuliate quale E noi pattuliamo le zone ricche Va bene Perfetto Va bene Ci stiamo in contatto Sei incazzata? Eh, sì Sì, sì Sì Eh, lì, dove? È incazzata Come una iena Dove? 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 Blade vai, parti Ellison Grazie per si cassa Come una iena No, no Tu, ti giuro Non mi devo rompere Ti giuro Mamma mia Andiamo a collo vivente Porca puttana Ma lo vanno a quel paese Andiamo a pattugliare Ma tu devi fare Tutto io nel cervello È diverso È finito Guardi, l'autorizzo Quando, diciamo, sbaglia Lo può prendere a calci in culo No, no, no Visto di botte Diverto Che questa già lo fa di suo Solo maltrattato Appunto Appunto Allora, il comandante mi ha dato l'ok Quindi ha perso così Ma è giusto così? Lei deve essere maltrattato Esatto Non imparo Esatto Esatto E poi dobbiamo farla diventare ossa piccole Si ricordi? Eh, sì, sì Ossamo squadose non va bene, insomma Ci penso io Ci penso un po' Ti preoccupa Comunque complimenti per oggi Almeno ha difeso il suo onore Contro Samuel Eh beh, almeno quello Ma scusi, lei Diciamo Non è tanto in salute Eh, no Manco per il cazzo Però ho resistito Ah, ho capito Eh, perché non voglio combattere Secondo lei Eh, sì Ma lei non va da lavorare Eh, ho capito Intanto Eh Un attimo Callison si è fermata C'ha un ictus mentale No, poverino Non c'è nessuno Ma gli ictus ce li avrai tu al cervello La testa di cazzo Attenzione, attenzione L'ho sentito Aspetta, aspetta Ti pensi che sono sorda? Fammi capire Sì Salve Buonasera Allora, ma lì Salve Non è il signore dell'altra serie Il signore Com'è che si chiama? Black? Black? Ryan Blake Ah, esatto Ryan Blake Tutto bene? Sì, sono io Tutto bene, tutto bene Ha avuto problemi dall'ultima volta? Direi di no Ok, è importante questo No, tutto ok Il salone è chiuso Non c'è nessuno Questo è un gran peccato Eh, se forse provi alla locanda Insomma Senz'altro Grazie dell'informazione No, ma si figura Che se lì c'è in giro Ah, no Tutto tranquillo Signore Blake Ma, scusate Voi pattugliate In quattro? Ah, no Fattugliate in tre In quattro Ok No, no La signorina che vede con la gonna E la mia assistente Insomma Ma, che stupenda Perché se state tutti quanti Nello stesso punto Allo stesso momento Capite che No, non si può Solo aria Sì, sì Ma non deve dirlo lei A noi Stia tranquilla Soprano Era solo una considerazione Spontanea Oh, si figuri Si figuri E vabbè Buona ronda Grazie Arrivederci Arriviamo Una ricerca Ecco Ok, ora mi ricordo il nome Com'era? Blake? Cosa? Ryan Blake Non c'è un motivo Per il quale Le l'ho chiesto Perché era lì presente Con gli ebrei Sì Eh, già Quello che corre Eh, lo lascio da correre Quando non corre a cavallo Eh, lì sono più tardi Eh, lì sono Evelyn Sì Più tardi ti porto a prendere un nuovo vestito Va bene Eh, addirittura Vada lei? Sì, sì Pago io Lo paga anche per me a comandante Oh, mi tratta bene Come si dice da alcune parti Corcazzo No Ma lo paghi anche per me Voglio fare un vestito nuovo Perché mi ha preso Per Ben Non so Per la banca Non so 30 dollari Alla fine Non è che sono così tanti Eh C'ha dovevo verificare Ma già ti ha fatto il prestito Di 100 dollari Ti lamenti pure No, era un anticipo Non un prestito Eh, certo Sì Immagina, immagina Sì, sì Comunque dicevo Speriamo che Ben Mi abbia rifornito di fondi Insomma E tra le tante cose Che ha da fare Si dimentica di tutto Eh, lo so Però purtroppo Bisogna capirlo Insomma Eh sì Lo capisco Non dovevamo andare Nei quartieri ricchi Sì Ma volevo passare un altro Andare a locale A vedere se Quell'evento di merda È ancora in corso Giusto così Eh, spero di sentire Che è andato di merda Eh, ma stanno andando loro Mi sa Sì, stanno andando loro Eh sì Allora no Passiamo di qua Peccato Ma in realtà Sono abbastanza sicuro Che sia andato di merda Insomma Eh beh Che ti aspettavi Che è andato un cinese Del cazzo Insomma Quindi Caga risso di merda Ma si può dire, vero? Sì, penso di sì Io dico anche i cinesi Di No Che è successo? Sì, non è tutto bene? Oh cazzo Questo sta vomitando Come una Che schifo Oh no No, non togliamoci Prima che inizio Anch'io E pure io Andiamo in clinica Vediamo se c'è qualcuno Oh mio dio Sono bloccato Eh, me ne ho d'accordo Ma che Che E niente Vabbè È scappata Vedete se c'è qualcuno No, non credo Non ci ha messo una Sì Quando mai Realmente vuota Saranno tutti lì A Planentino La facciamo gli avoli La dottoressa adesso Andate un minuto Ma io sono sicuro che Se andiamo a valentino è pieno Chissà perché Inclusive Manco Hamburgo Ok Stiamo venendo una missina Ben No Per quello che le ho fatto Le ho detto Le ho chiesto oggi No I materiali I binocoli I fondi E le lanterne Dello rischio Eh, le lanterne Saffrono Sì Sì Ma che cazzo Ma tu stasera ti sei svegliato Con la voglia di rompere i coglioni A me Fammi capire Mi sto svegliato simpatico Sì Come l'inchiostro Comandante qualcuno degli altri Non può venire al posto di JJ No Signori Salve 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 Ok Buonasera Fortesemente Non sosti In mezzo alla strada Col cavallo Sì A posti Maggiormente A marciapiede Certamente Ma colpa Non si preoccupa No si preoccupa Grazie Comunque Di nulla Va bene Ancora Ancora Non potevo fare almeno Di notare Quanto è sciccosa La sua camicia Insomma Ottimo Sì Sono sempre Molto bello Quindi Eh andiamo Andiamo Non saprei proprio Che vogliamo fare Salve Vogliamo raggiungere Valen Ecco No era un attimo di stato Che cosa Gente che va a valentine Insomma Eh vabbè Ha detto che va a valentine La città full inclusive Che manco fosse Non lo so Una città nera tedesca Di nome hamburgo Insomma Ma che Valentine Valentine Oggi ho sentito Che addirittura Metteranno Dei lampioni Addirittura Ma Vengono Lontati A merda La strada Non so Vogliamo Mettere Valentine Vuole andare A valentine Oddio Con me Proprio Allora La lascio In città E vado Con gli altri No no Vengo pure Io Sto zitto Sto dai Va bene Va bene Va bene Andiamo con il seno Conosco C'è il treno Ma anche se lo prendono C'è il treno Chiamali C'è il treno Sì Il mio Vero i permi tutti Andiamo in treno In che senso Andiamo in treno C'è il treno Sì Che cazzo ne so Io chiedo Voi con calma Allora Fermi qua Fermi qua Fermi qua Facciamoci due Ghiacchiere Allora Stanno a parlare Col capomacchinista Per preparare il treno Aspettiamo il comandante Anche Che ci lavora Si chiama Il sindaco Van Penn Chi? Victoria Van Penn Credo che sia Un'ora Una garanzia Sì scusi È un certo Victoria Van Penn Insomma Che ci lavora Non come sindaco Non ha E non si abbassi Per ridere Rida in alto Come un vero uomo No Ecco È svenuto È svenuto È il calcetto Della signorina E mi aiuta Signori ma Sono tutte così Le sorate Da quando Aperta Valentine Da quando Aperta Valentine Pull inclusive Che manco Hamburgo Sì 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 Meno male Che era solamente Primativi Wow L'ultima Fanno le famose Comunque Dai se tutto va bene Ho fatto Un ragguaglio Allo sceriffo Del posto Forse qualcosa Cambierà Bisogne Che corra No no Allo sceriffo L'arguaglio Sti cazzi Di Penopono Orla Chi sono I tre signori Giazzoso Giazzoso Giazzenti Ciccati agenti Ma Allora Ma se ricordi Dai cazzo Andiamo Aspettiamo qui O andiamo Sino andiamo Di seguiremo Ma come Detto che do Preparare Ma ci ha messo Ci metterà Pagano Ci avrà già fatto Secondo me Il problema È Dove La prima Via Sì Capo Belliggio Come affari Bandai Un giro In treno Forse Se Se Tiene Ronda In treno Verso Valentine Non so Che Non sapevano La meta Secondo me Appena arrivano Io Con tutto rispetto Posso dire Che andare A valentare Con questi due Ho molta paura Sputafogo Sputafogo Si trasforma Nennativi No Non con voi Due signori Con due Dei nostri agenti Che cosa Che cosa Due Dei nostri agenti Ho sentito Un risulto Nei miei Confronti Quelli Quella Quella Parrucca Rossa Io Più Timore Andare Avanti In Contrere Donne Abbatela Piander Bianco Sono In Tre Per Cosa Che vuoi Gigi Sembra più alto Del solito Chi Comunque Guido io Il treno Oh signore Per carità Guido io Il treno Sicuramente Se proprio Deve guidare Qualcuno Al massimo Infatti Fate guidare L'assistente Almeno Fa qualcosa Ma vabbè Se volete venire Quattro Quattro Blade No Non guida nessuno Ma non lo vedete È buono Che Blade Blade Scorbotico Fai In Non annuncio Credo che siamo Per perdere Il treno Che verrà Ben Corico Ricori 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 Ben Sarebbe Meglio Annunciare La Paglia Sia Non Cosa Annuncio Non è Privato Forza Ma che cazzo Sto guidando Perdonatemi Sono bloccato Signore Dove è che si entra Di qua Si salga dietro Salite dietro Ad Un momento JJ Mi seguo Mi seguo Seguitemi Seguitemi Cosa Faccio io Ok Mi hai rinclicato Sorry Aspetti No No Tutto a posto Che mi tocca Al culo C'è nessuno C'era JJ Accomodatevi Signori Allora Io mi sono Accomodare aiuto Partiamo bene Partiamo Qualcuna Una benda Si Vorrei dirti io Ma non ce l'ho Allora signori Ascoltatemi Attentate una benda Al signore Prima che muoia Mi avete passata Non arrivo Subito Passo io Passo io Attentamente Allora Ascoltatemi Non abbiamo Lacci con cui Legarvi alle Poltrone Insomma Le uscite di sicurezza Sono in fondo La carrozza E dietro di noi Sinistra E destra Non si capisce Eh vabbè Lo faccio io Allora Lì C'è Un sita Esatto Se nel caso Non funziona Quello sita Usate le finestre Ok Perfetto Ah Ci lanciamo proprio Ho capito Bene signori Tra poco passerà La nostra assistente E vi offrirà Deve vivere Parti Parti Sì Ci sediamo Eh Trova un post Ci sediamo Dovete pensare Pagina su Sì Sei rubato il posto Il muscolino Del pagina su Signori Cos'è Tra l'assistente Si parte No Non lei Lei si sieda Ok Tra poco passerà Una signorina Io Signorina Perciò Sedi qui Sedi qui Va bene Sta seduta Per te Io Ho paura Io ho paura Io ho paura Io ho paura Bene signorina Benvenuti nel viaggio inaugurale Della Ben Train Lines Pensavo che fosse Drenord Invece No no 3 sud Ma non so se Aspetta Mi sa che Abbiamo sbagliato Sessioni Aspetta Oddio Vabbè No no È giusta No è giusta Mi sa Eh sì Penso che sì Se stiamo scendo fuori da Valentine È da Femmissi Sì sì No Penso che è giusta Comunque Forse vuole fare Il giro lungo Forse No è poter Il problema sarà girato Sopra Ci stiamo fermando No 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 Sì Ho l'impressione Però non è così Ma questo che vuole qua Che si è seduta Ah che bella Eh ho paura È il primo posto Che ho trovato libero Ecco Cosa leggi? Perché non sa leggere Che cosa sto leggendo? Non lo vedo È scritto in piccolo Eh beh Allora mi sa Deve mettersi gli occhiari Tu dove stai calcolato? Molto bene Eh niente Ma almeno che vada Torniamo in dieta Eh vabbè Vabbè Almeno che vada Io mi butto nella palude Che devo fare Ma intanto vada In palude Sì è infatti stessa cosa Ma che cambia Ma ci sono i coccodrilli qui Qui ci sono le pantegane E qui i coccodrilli Allora non ci tengo Adesso qui guarda Ah sì è al ligatore Adesso qui Adesso qui Ciao Salve signori Comunque Salve 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 Venga bene Presento una persona Dove andavate? Perché forse Lo siete saliti Allora facciamo Sapete che andiamo a Valentin? Sì sì lo so Vanno anche loro a Valentin Ah Il signor John Valentin Comunque venga bene Le presento il signor Turner Un tempo il proprietario Del salon di Saint Denis Dov'è? Qui Questo signore davanti a me Eccomi Salve Turner Salve piacere mio Eh si Eh si Una brava persona Una brava persona Vabbè Puzza troppo Non mi piace stare vicino a lei Piacere mio Signor Ben Eh perché sto scorreggiando Si spera che l'attività Del salon di Saint Denis Mi venga affidato a lei Turner Eh lo spero anch'io Che cazzo Eh E' l'interfeggio Alla dietro E' tutto niente Che L'ho visto Dove stare Puzzone Per prendermano qualcosa Ah Ti metto dall'altro lato Usato No va bene Diciamo a Puzzone Tanto Perciare Io mi metto Seduto Dove qui Si è posto Si 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 sieda Si 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 sieda bene Ti prendo un po' d'aria Faccia la gamba Pizzetta Quindi quando è l'ultima volta Che si è fatto la doccia Li amo chiudo le gambe Secondo me La va da un mese Più o meno Due mesi Perfetto Miller Mi siedo con lei Io con il signore Signore Piacere Sono bene Piacere Gli amo Piacere Gli amo Perché va a Varenter Che cosa c'è consente Quindi si Ah molto bene Anche io La seconda volta Che vado La prima Non l'ho mai detto a nessuno Si sono andato Per una Mi sa che ce ne siamo Fatti Che cosa è successo Perché si siamo fermati Abbiamo perso il passeggero Si Che senso Controlliamo È scomparso Comandante Oh mio dio Ma è volato via Eeeh È merda bianco Oh mio dio Oh mio dio Facciamo retromarcia Questa Non l'avevo mai fatta Spettate Signori Credo che abbia Avviato avviato il capitano Che cosa Sono qui Sono qui Si sto bene Sto bene Sono salito Abbiamo perso uno Eccolo Andiamo Andiamo Che è successo Vai Che è successo Eh aspetta Eeeh La puzza Salutani Vada Un mini cave Io credo Che sia meglio Sedersi Si concordo Ehm No beh io lo mando Dopo il piccione Ma chi Ah mio cugino Che mi ha chiesto Di Scrivergli Il tuo Centrone Che magari Ti può dare Le chiave Anche a distanza Ah Eeeh 115 Vabbè Porca tu Eh ma non credo Possa Va bene Tu sei bene? Molto bene Tutto bene Non mi fa scrivere Lo faccio dopo Ancora mi sono Allotta la minchia Mi rimetto seduto Accanto al signore Che mi sono dimenticato Il nome Liam 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 Ok Ben Sì Ma ha annunciato L'arrivo del treno Vale No Che devono fare Signor Ben Vuole sapere Quanto sono efficiente Realmente E' più bello E' più bello Con l'effetto sorpresa Facciamo No Sti cazzi No Infatti no No Oddio Stiamo scivolando Stiamo 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 Facciamo Fate qualcosa Comunque dicevo Signor Ben Sono totalmente Efficiente No che Mentre faccio I censimenti Il signor Liam Era appena Arrivato In con te Oggi E mi diceva Che ero Un armaiolo Siccome Ho parlato Con il signor Kennedy Gli ho Direttamente Spedito Insomma Però sto aspettando Il punto di risposta Del signor Kennedy Sì sì Ho capito Il problema Beh Non abbiamo un problema Non cambia i binari La levano Fuzione Come la levano Fuzione Questo è un problema È un problema Maggiore Questo A meno che non vogliamo Fare il volo Dell'Angelo Con il treno Ci deve aiutare No Anche no Sinceramente Bello Come primo viaggio In treno Però dai Enthusiasmante Non mi veramente Eh ma perché Mi sa che da questo Ci porta al burrone Capito Non ci porta a valent Salve 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 Chi è? Penso al signor Martin Ho sentito Non è credo Io Ma dov'è? Ho venuto Ho mancato Tua Allora Anche a mondo Li binari Salve Sino Martin Salve Ah si Venga con noi Salga sul treno Ti immagina Ad avere una compagnia Di treni Signorina Amaran Amaran Va bene Ma venga con noi Signor Martin Sto guidando io Ma non ce la faccio Sto stacca Che cazzo è? Questo è il treno Dei deputi No no Ci stanno anche I cittadini Aspetta Questo è il treno Ma venga Venga Mandi via il cavallo E venga con noi Ma infatti si Eh bene C'è pure sua cugina Che gli ho detto Che vuole andare a dormire Ma che a dormire Ma che a dormire Ma signor Martin Ma si faccia un viaggetto con noi Ma andiamo sul treno E dai In carrozza In carrozza Si riparte Signore In carrozza In carrozza Su su Tutti in carrozza Ecco Pareva che io Entravo dalla parte In carrozza Dov'è Evelyn? Che riesce Se vedeva Ci siamo persi Evelyn Niente Salva tutti Evelyn Ci siamo persi Evelyn Niente È finito È finito Riuscirò a sedermi L'abbiamo persa L'abbiamo persa Evelyn Oh signor Martin Scusi È finito È finito Ma dove cacchio È libero? Eh diciamo che deve pensare A una pagina in su Signor Martin Deve pensare a una pagina in su Riesce ad accomodarsi? Ok signor Martin Siamo passi in arrivo a Valentine Oh ma Evelyn Eh boh bella domanda Evelyn Non so dove sia andata Sei dal capotreno Solo io posso portare gli tenni qui Ma allora mi so se mi mettere Ma per fortuna che c'è lei allora signor Ben Sì infatti Ma io non ho comprato il biglietto Non è che poi mi fate la multa No no Ci mancherete Perché c'è qualcuno qui Che c'è il biglietto Quella la vera domanda Eh quella sarebbe un bel No ma la domanda è Chi è che ha il biglietto qua Vabbè Vabbè ma io conosco Conosco il capotreno Ci ha presentato il treno Per questo viaggio Perché è un felissimo amico Speriamo che almeno torniamo Da questo viaggio Sì sì Come no Questo è il viaggio della speranza signori Sì come prima che stavo andando indietro infatti Immagino Ma poi Ma prima o poi tutte le stazioni saranno aperte al pubblico Speriamo Sì Eh mi sa di no in realtà Come no Eh no No Tutti che no purtroppo No vi farete una bella cavalcata fino a qui sotto E qui prenderete il treno Beh allora da questo punto di vista sono fortunato A pochi minuti signori Stiamo facendo il primo viaggio della contea signori Reputatevi fortunati Che onore Ah sì è il primo Eh sì è il primo Hai sentito il corpo d'arma da fuoco No no Lei è solo spaventato Perché non ti mette seduta Stiamo nella presa di sigla Ma a me non piace sedermi Il primo ho provato a sedermi È successo che so brutta Eh deve pensare una pagina in su Comandante Eh grazie E poi lega la seconda pagina Oh bravo Oh Perfetto Comunque signora A vostra sinistra potete Potete notare la vostra La nostra anzi bellissima fabbrica di petrolio Che alla destra Una bella montagna Esatto Quando si vede un cassio Proprio quando è bello signor Marley Deve immaginare A sinistra ancora montagna No a sinistra si vedeva Adesso non si vedeva Eh deve mettere un monocolo Come ho fatto io Allora così vede meglio Eh almeno c'è l'aria condizionata all'interno Con le palle Che cos'è l'aria condizionata Ma che roba Eh queste ventole che vede sopra di lei Si chiamano Praticamente aree condizionatorie Io l'ho abbreviata Lei dice troppe cazzate Continua a dire Se ne è accorto solo ora A quanto si mettiamo a arrivare i mali Cioè dove eravamo così arrivare È proprio quando il bello comandante Altrimenti chi vi intrattiene Siamo ci siamo signori Dietro la curva Cioè va Oh mio dio Oh cazzo L'aria condizionata Condizionata anche il treno Abbiamo perso l'assistente Ma niente Sì abbiamo perso Credo una persona Che si è addormentata Per i binari Sì 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 Vai 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 Falla andare Falla andare Fa niente Fa niente Arriverà L'assistente Ho avuto problemi di testa Vai 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 Dili vai avanti Niente Torniamo indietro Ma poverà Assistente No ci conviene andare Perché se dovesse Diciamo apparire qui Mi sa che Arronziamo sotto Insomma No non credo Andiamo andiamo La ricopriamo dopo Sì sì Bene Tanto sa dove stavamo andando Sì Eh pure quello è vero Ormai ti hai mai guardi Manca una ruba Ma che cazzo Oh cosa Stragazzo pacco Ho mandato Ho capito le fusioni Io mi alzo Mi dispiace Anche io Non partecipa a questa cosa Ho capito le fusioni affettuose Però fino a un certo punto Insomma Vi ringraziamo di essere stati I nostri ospiti Di aver Diciamo partecipato Alla nostra Prima tratta Insomma Lasciate all'ingresso Un'offerta Ben gradita A nome della centrale Di Sendinì E niente Grazie a tutti Insomma Ma non è obbligatoria Signori Prego prego Ho capito Comandante Lo tutto rispetto Grazie a parte Valle Stavo a casa Mi avete portato a fare Prego prego Ora non c'è nessuna Di niente Immagini Non è felice Signor Martin Come la Pasqua Perfetto Ben guardate Faccio i salti Di gioia Ma perché non riesco più A guardarmi lontano Bella domanda Non mi è mai capitato Anche lei Non la posso aiutare Anche lei No Io Insomma riesco Quindi Non so Ok ora si Ma ci abbandona Ma ci abbandona Il capo treno Ma siamo di peso È stato un attimo Dovevo un attimo Correre Ah Sveglato una nuova Comandante Cazzo Non Se ne capita Così Posso dire Di avere un aumento Perché te l'ho riportata Grazie Vai vai Scendi dal cazzo Ora Eh niente Comandante Ma questa è viziata E che ne so io Non vuole sporcarsi Eh vabbè Tanto si sporcava la stessa Ma c'è papà Papà Perché non si è salito sul treno No sono salito Guarda che c'era sul treno Ci hanno fatto scendere Eh ho guidato io Sì sì Ecco perché c'era una pipa Che faceva avanti indietro Ancuna Perché conta Ogni tanto vedevo gente che volava No Perché c'eri tu Eccomi Sono tornato Oh ecco Il signor Dopo Dopo abbiamo il ritorno Con le mongolfiere Ci ha detto ben Oddio Signori Ma io E l'impressione Mi vedo molto Mi vedo ristretto Piuttosto Da quello che La ricordavo La prima volta Che l'ho vista Il signor Martin Si è abbassato Un pochino Eh infatti Sì Credo che sta sprofondando Nella Sì sì Non insulti Papone Sera Ma capito Tra un po' divento Un bimbo Siamo appena arrivati Da Saint Denis Con il treno Come vi trovate qui A Valentine Salve Ho visto un uomo Trasportato Legato Dallo sceriffo Che è successo È stato bandito Della città di Valentine È stato bandito Ti ho fatto un bel ritratto Che poi mi passi Diciamo Tutte le informazioni Ti dà il nome e cognome Dopo Così lo bandiamo Anche da Saint Denis Cosa vi porta qui Signori Ah nulla Diciamo No Cortesia Fare buona Ferra È buona Sì Lasciate Valentine Sì Soprattutto Levanel Lo so Lo so Non mi Dove Il vicino Con quella Bellissima cicatrice So Lei è veramente enorme Ho visto Io Sì Risco a prendere La cicatrice Grazie Tanta Ebanel Da Come vanno le cose Assemblei Magnificamente Direi Splendida Sì 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 Vogliate scusarmi Un attimo Signori Come vanno Qui a Valentano Signor Belli Splendidamente Ora Sì Lui Sono Addirittura Diamo Le Vanno La Feige Mai Vorrei Saperlo Peccato L'ho Maledissima Pensavo di Assistera Una Delle Tue Vecchie Implicagioni So Che Sono Bene Ha Solo Offeso Il Bice Sceriffo Ma che è Successo Jack Se Posso Chiedere Ma Scusa Signori Mi ha Offeso Niente Di Che Ti Posso Parlare No Ma Se Vuoi No Ora Non Adesso Magari Dopo Sì Sì Dopo Aspettando Ma Voi Siete Venuti Col Treno Vedete Primo Viaggio Della Contea Sì Siamo Molto Lussuoso C'erano Delle Signorine Molto Carine Gentile E Il Biglietto Quanto Costa Ma In realtà Era un Viaggio Inaugurale Per La Nuova Tratta Insomma Quindi Non Abbiamo Pagato Nulla Ah Non Era Molto Inaugurale Vabbè Voi L'avete Inaugurato No No Non Era Uguale Ah Non Era Allora Un Viaggio Gratis Diciamo Un Viaggio Team Con Un Terno Privato Addirittura Comunque L'abbiamo Inaugurato Diciamo Il suo Primo Viaggio Sì Se Vogliamo Andare Al Salute Non Lo Sto Direi C'era Diventando Un Non ce n'è di whisky E' lì A San Denis Nemmeno Purtroppo No Siamo a secco Da due settimane Cazzo Forse Pure 4 Se gli uomini Non iniziano a bere No Succederà qualcosa Ma forca Puttana Inchia Jack Che cazzo Di destro Che c'hai Ma forca C'è una molla Pensavo di vederla No C'è Un martello Non è un pugno La scazzottata Quella organizzata Dalla taverna La scazzottata Organizzata Dalla taverna Certo E sarei venuti Molto volentieri Se non avessi avuto Altre cose Più importanti Da fare Questi rompi Averri Ma non era organizzata Dalla taverna Ma da quel mangiariso Di San I sun Scusatemi Buonasera Mi giacca Non ricorda Può venire con me sopra Magari parliamo In privato Un secondo Andiamo Andiamo Come si stanno Ditemi tutto Allora guarda Te butto proprio Su due piedi Io so di essere Un pezzo di merda E magari siamo partiti Colpite sbagliato E mi dispiace Oh mio dio Pensi di riuscire A metterci una pietra sopra Ma che cazzo Sì Allora ripartiamo Da capo Se per te va bene Che non mi dovrai Cerchiamo di andare d'accordo È quello appunto Che volevo dirti Insomma Va bene va bene Comunque Mi dispiace Che ha fatto bene Va bene Comunque Gigi è tutto Ti volevo chiedere scusa personalmente Insomma Capisci No no Tranquillo Da uomo di legge Da uomo di legge Da uomo d'onora Un uomo d'onora Insomma Va benissimo Ci fa onore In questa cosa Va bene Per me non è successo Dai Ripartiamo Come eravamo prima Insomma A San Denis Perfetto Amici Dai Ok Ti do la mano Pertanto Già Oddio Non riesco ad alzare Ok Eh perdonami I mani si incriccano In mostro Va bene Va bene Va bene Così Dai togliamo giù Sennò si sembra Due lavorati Cazzo No Assolutamente no Poi chiedi scusa Magari anche al sindaco Da parte mia Non c'ho Troppa Confidenza Con lui Ma di quest'uomo Beh che Che gliela so Insomma E che io Eh non si Con le tue ragioni Il nome di quest'uomo Salve Le volevo chiedere scusa Da parte mia Per ieri sera Insomma Scusa per cosa Perdonatemi Eh un po' Per il mio comportamento Insomma Ecco Che cosa avete fatto Che merita le mie scuse Eh Ecco a me La ringrazio Non lo so Diciamo che non mi sono comportato bene Ecco Come le dicevo Quando io parlo Perdonatemi A me piacciono A me piacciono i dettagli Vorrei capire che cosa Di che cosa vi state scusando Della situazione con Il vostro sceriffo Di come ho rivolto La parola a voi E tutto il resto E cosa avete detto Adesso Di preciso Non me lo ricordo Mi perdoni Quindi vi state scusando Per una cosa Che non ricordate nemmeno No No me la ricordo Per non mi ricordo Le parole precise Diciamo che si sta scusando Per aver L'atteggiamento Esatto Per aver tenuto Un atteggiamento Poco decoroso Per la divisa Che porta Esattamente Grazie comandante Ma non credo Di aver rivolto La domanda a voi O sbaglio La risposta Però comunque È quella Insomma Mi scusate Per il vostro atteggiamento Ho capito Volevo farvi una domanda Prego Se posso naturalmente Se non vi dispiace Certo Di cosa stavate parlando Con quell'uomo ieri Con quale dei tanti Quello che è stato appena Cacciato dalla città Oddio Quale dei tanti Quello che avete visto Legato sul cavallo Eh no Non l'ho visto purtroppo Mi dispiace Mi sa dire Nome e cognome Certo Ve lo sa dire Lo sceriffo Seguitemi per cortesia Progo Dove mi vedi Stai fatto? Dove cazzo È Jack? Pica tutto Ben Ui sì Ti ho fatto Jack Ehi Jack Ci c'è Potresti per cortesia Dirmi il nome e cognome Della persona Che abbiamo esiliato Porca troia Non me lo ricordo È segnato sul foglio Sbaglia Sì lo so Però ora Dopo l'orecum È molto importante Perché stava dialogando Con il deput Vecchio Bastardo E stavamo proprio parlando Di questo Cosa vuoi? Sì Fuori vale Dai Cazzo ne so È scritto tu Il rapporto Ma porca puttana Eh Porca puttana Jack Sono la testa di cazzo Comunque lo recupero Lo recupero È importante Da qualche parte Anche perché stavamo tirando Stavamo tirando fuori L'argomento Anche insieme ai deputi Uno di loro Stava parlando con lui ieri Sì Sì Ah già E infatti ha detto Framate il deputi E loro vi diranno Che io sono innocente Ma che è questo? Ecco mezzo Tornato Quello che abbiamo Valdi No nome e cognome Insomma Come che si chiama Piacere Beh Me lo farò venire È veramente enorme Vivo Sì Mi ricordo di aver parlato Con un Tagarismo Quello con i capelli Lunghi e bianchi Allibia Un certo Billy Billy Sì Mi sembra No Non ha parlato assolutamente Con noi Noi volevamo Fucilargli il cavallo Perché Andava addosso al comandante Si figuri Allora Non è lui Almeno io personalmente Volevo fucitargli il cavallo Perché andava addosso al comandante Quindi Non penso proprio No Mi penso Una partenza D'accordo Già che Fatti venire in mente Quel nome Dopo Parla Come Celo 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 E Non vi preoccupate Cero il Io ho dato ragione Solo Cagari Ma per una multa di 5 dollari Diciamo perché era un po' fuori dai cangeri ma parte quello nulla ma manco ragione nel senso DJ Avete Di una puzzola che ha avuto la diarrea Quindi aver preso contro di te Ah c'è la Harry Stava parlando con uno dei Incredibile Come se andassi in giro a fotermi le mogli degli altri tra le altre cose Che cazzo Io faccio solo rispettare la legge Beh ci hai provato più volte però non ci sei mai riuscito Non ora Billy Sei te Billy Eh fa culo Bob Mi fai scordare sempre le cose Stronzo Ti odio Bob Se non fossi mia cognato ti impiccherei Comunque fatto sta Si romperebbe la corda Questo è vero Fatto sta che comunque Questo affare dobbiamo risolverlo Comandante Se le posso chiedere la cortesia di fare Qualche domanda ai suoi ragazzi Io vedrò di fare qualche domanda ai cittadini in più Sicuramente sceriffo Bello Vediamo di capire Chi è questo uomo di legge sbarazzino Che Ha millantato anche E dato corda a quel tizio che abbiamo Bandito dalla cittadina Di poter fare una cosa simile Sì Perché è una cosa grave signori Già Chi si lamenta del potere della legge Non ha capito un cazzo Se lo facciamo È per tenere al sicuro i cittadini Del resto non vado mica in giro A sparare alle persone Che diamine ci mancherebbe solo quello Solo quelli che se lo meritano Tipo gli indiani ad esempio O tipo quelli che girano con l'arma sulle spalle Ah mi scusi signore Tornavo da una battuta Di cazzo Sì Anche io faccio la battuta Di fassona col coltello Non succederà più Mi scusi Scerifo Bravo Ah sì Ho ammazzato una persona Salun Ha tolto il coltello Quello lì di fronte a te Vero? Cioè Quello lì quando eravamo a bere Eh no Stava cretendo un deputito La gola Sì sì Aveva un coltello in mano Era armato Perfetto Perfetto Va bene Direi che possiamo liberare l'ingorgo Che abbiamo creato Grazie per la collaborazione Comandante Sì Uomini Sì Sempre Conchitavano A quel signore Se sono arrivati con il cavallo di ferro Ah sì I deputi Gli conosceresti Wow Non l'ho mai visto Un cavallo di ferro da vicino Ed è anche io Loro ci sono stati dentro Ma questa storia Di questo signore di ieri No non ne sono nulla davvero Allora secondo me c'è stato Allora ieri c'erano seri problemi Con la telecomunicazione Sì E di comunicazione perché c'erano tante persone qui a Valentan Ok Dovremmo Comandante A quanto pare sono cicciati fuori dai testimoni Allora Qual è il nome che hanno detto Jack JG Comandante Chi è questo JJ Io presente Comandante Sì Discussi un attimo Sì Sì vada vada Vado con lui Vieni qua Vado con lui Sì Ecco Ancora Queste sono per Un attimo Nesposto con lo sceriffo Ok Allora riprendiamo signori perdonatemi ma un emergenza JJ sono io davanti al sceriffo Cabelli rossi Allora spiegami un po' la situazione Oddio che situazione Dei testimoni ti hanno visto parlare con quel tizio ieri sera Io non ho manco presente chi sia il tizio in questione Vestito con un biforco C'erano capelli grigi e baffi grigi Non saprei Ieri sera c'erano molti problemi di visione udito insomma Sì 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 Era almeno 40, 50, 60 persone qui insomma Quindi non Cioè Credi che possa essere un problema di percezione soggettiva quindi Suppongo proprio di sì Sì Indagheremo allora anche su questo In caso Raffigliuolo ti devo chiedere di metterti a disposizione Qualora ci fosse qualche altra domanda da farti Assolutamente sì Mi trovo a Waston io oppure mi può convocare insomma Sempre con il permesso del tuo comandante in capo Sì sì Io non ho problemi Perché voglio far luce su questa faccenda Esattamente Anche io personalmente Getterebbe Merda Di sonore vergogna Già A meno che quel tizio non abbia detto del falso Quello che abbiamo bandito D'accordo Ci aggiorneremo Sì Hai altre domande per il ragazzo? No 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 nessuna domanda Perfetto Possiamo concludere così Allora in tal caso signori Vi chiedo umilmente scusa Ma devo andare a fare una cacata di quelle così grosse che gli manca la parola Mi ricorda il buon George quest'uomo Bene alla prossima Porca troia mi sta spuntando un altro uomo dal culo Ma quindi chiesto di fare il culo Jack perché a me servirebbe un nome e cognome Vado a prenderlo Allora è qui il qui presente George Se vuoi alzare le mani George George mi senti? Harry forse Allora è qui Harry ti ha visto parlare con questo bifolco che io ho bandito E voi dite che cosa dicevano della rivolta Allora ieri davanti al Saloon A seguito della multa che sta fatta E io non c'ero ancora davanti al Saloon signore Come no? Eh no Ero davanti alla banca semmai Davanti alla banca e al Saloon sono uno davanti all'altro Comunque sì Eh davanti alla banca Va bene Davanti alla banca Si ricorda bene dove era quindi Allora Sì sì Quello davanti alla banca Dopo la multa Concorda con me che un po' I debuti erano irritati si può dire? Voi debuti eravate un po' irritati? Un conto è dire Un conto è dire C'è lo sceriffo Lo sceriffo Eh nello sceriffato E questo che è? Ah grazie Attenzione non i te E questo è il deputino Il deputino No c'era anche una signorina Che aveva addirittura Praticamente aveva dei ticchi nervosi Non tutti non tutti In ogni caso Erano eravate due o tre persone Davanti alla banca Tra cui un signore Non so se lo ricorda Non so il nome purtroppo Ma è un signore Che è stato quello Che appunto è stato bandito Con barba bianca E capelli bianchi lunghi Racconti in una coda Io questo signore Nel lo vedevo Nel lo sentivo Per esempio Ma le ha fatto una domanda E le ha risposto Eh la vedo dura Il signore le ha fatto una domanda Perché il signore era stato Diciamo era stato Pensantemente E gli erano state fatte delle domande Dal parte del vice sceriffo Jack Ok E il signore si era avvicinato Vicino a lei E aveva chiesto Ma il vice sceriffo All'autorità Di farmi domande Così Importanti E lei stessa ha risposto Sì Perché se è un forestiero Queste domande Non stavo parlando Con il Cagariso No 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 Era Perché io ieri ricordo Solo il cagariso Con il quale ho parlato Insomma No perché Come ha confermato Anche il Signore appunto Che è stato bandito Si era rifiutato Di rispondere Al Allo sceriffo Che io questo riscorso Non ce l'ho presente Insomma Quindi tre testimoni Stanno dicendo il falso Adesso non l'ho sentito Solo io Sto dicendo Che ci sono state Percezioni Diverse Insomma Ho capito Tre testimoni Hanno percepito Qualcosa di Sbagliato No Sto dicendo un'altra cosa Magari hanno percepito Giusta Ma io non percepivo Loro A questo La domanda E a questo punto Può darsi Che la domanda Che aveva fatto Il signore Che è stato bandito Gliel'ha riferita Magari un altro Deputi Cioè Si ricorda di aver sentito Una domanda del genere No è proprio Quello che le sto dicendo Non me la ricordo Proprio sta domanda Da nessuno Da nessuno Eppure il testimone Ha detto che l'ha fatta Comunque Signor Sim Abbiamo sentito Proprio quello Che vi sto dicendo Il problema è quando Ci sono troppe persone In giro Magari qualcuno Si sente Qualcuno no Non so se capite Cosa intendo Si si Abbiamo capito Solo che effettivamente Questo signore Ha avuto una risposta La risposta L'abbiamo sentita tutti E la mia domanda è Che risposta Ha avuto questo signore La risposta è stata Si che il vice sceriffo Nel caso in cui La persona sia un forestiero Ha il diritto Di fare Domande un po' più spinte Insomma A richiedere più informazioni Era quello che stavate Dicendo prima O sbaglio Esattamente E infatti La persona che è stata bandita Ha pure confermato Che è stato risposto Che ha avuto una risposta Dal deputy Quindi sono quattro persone Che affermano la stessa cosa Per questo non mi torno Nei tasselli E una risposta C'è stata effettivamente L'ho sentita anch'io Che è stata Si che è un forestiero È fattibile Fare queste domande Beh non c'è niente di sbagliato Comunque in questa risposta Sì no infatti Piuttosto Quello che c'è stato dopo Che diventa un po' più interessante Quello che ci siamo resi conto Restando lì ad ascoltare Perché noi stavamo andando via Ma a un certo punto Abbiamo sentito Un po' di offese Da orgogliose I cittadini di Valentin Ci siamo fermati E che Il corpo dei deputi Erano due persone lì Tra cui la signorina Che stava appoggiata Sull'uscita della banca E il signore Hanno cominciato a Infangare Il nome di Valentin Chiamandoci Zoticoni Dicendo allo sceriffo Al vice sceriffo Che dovrebbe imparare Leggi governative Che il massimo della multa Dovrebbe essere due dollari Per correre E lui Gli era fatti cinque E non era fatti cinque Trovarlo Proprio per quello Che sto nome e cognome Comunque in ogni caso Lì vicino Cioè Vedeva almeno qualcuno I suoi colleghi Allora Io vedevo Il collega qui Gli a te scusare A mia sinistra Un paio di cittadini Appunto Tra i quali voi Sì Altri 1 2 Basta Ok E quindi Forse un altro C'è l'esaltano 1 2 1 Solo Ma non mi ricordo Chi possa Sì Probabilmente Era L'altro ragazzo Che non so Al fabbro Sì Era insieme a noi Comunque Parte queste Quattro persone E la domanda E comunque In quel gruppetto Di persone Che sarà formato Era partito Questo discorso Riguardo al vice sceriffo Al Diciamo L'abuso Tra virgolette Di potere Che avesse fatto Anche perché C'era il signore Appunto cinese Che girava E continuava A ripetere Questa cosa Il cinese Ecco chi era Non era una persona Qualunque Era il cinese Che era stato multato Ok Ricordato lei E È stata detta Particolarmente Infatti Ho ascoltato Tranquillamente Perché iniziamente Ho pensato Sarà il fatto Dell'ira Anche perché Se non mi sbaglio È stata multata Anche la vostra collega No Non è stata multata Riproverata Esatto Diciamo È stata Riproverata Tutto Il Esattamente È stata Riguida È stata Riguida Una vostra collega Da lì Ho visto che Un po Alcuni di voi Tra cui lei Appunto La collega stessa Evate un po Irritati E a quel punto Io ho detto Sarà la rabbia Di riguardo a quello Che c'è Quelle cose Che stanno state Saranno state Saranno state Dette a causa Della rabbia Insomma Solo che a un certo punto Sempre con questa Combricola Sì sì Per questo dico Mi sembra strano Che lei non l'abbia sentito Perché c'era Una volta risposta Insomma Il signore Quello lì Che adesso è stato cacciato Ha detto Ma perché I cittadini Si ribellano Ecco per esempio Questa non l'ho sentita Proprio E dall'altra parte Ci sta la risposta Che è detto Si potrebbero farlo Ma dovrebbero comunque Deciderlo loro Non abbiamo potere Qui in questo momento È stato Quello che ho sentito Io invece È stato dal cinese Perché la devo pagare Gli ho detto Potresti farlo Ma Sennò Sì sì Quella l'ho sentita Quella l'ho sentita Ma non Era un'altra cosa Io parlavo riguardo Sì col cinese Ho sentito anch'io Perché il cinese Poi si è avvicinato Verso la fine Ma c'è stato Un lungo dialogo Di forse Un'abbondante ventina di minuti Col signore Che è stato cacciato Per questo dico A meno che Eravate insieme Lei non vedeva lui Lui parlava con il suo collega E lei sentiva il suo collega Ma In qualche modo Vi sentivate Perché c'era un botte In risposta Cioè nel senso Sembrava come se Vi stesse rispondendo a vicenda È probabile che sia Che io sentivo il collega Insomma Perché io sto discorso Non lo ricordo proprio Vabbè Vabbè Rimenderemo Rimenderemo Basta che non capiti più Insomma Se non è caduto Meglio così Se è accaduto Eh S'è anche Non è caduto È meglio così Se è accaduto È grave Speriamo Non ricapiti più È quello Tutto qui Quindi è tutto risolto Per il resto niente Io oggi ho chiesto Appunto scusa Jack Per quanto riguarda ieri Il mio comportamento Pure Quindi Va bene Dopo aver chiarito Comunque questo dialogo È stato utile Perché abbiamo capito Che è stato costruttivo Diciamo Sì sì Perché il signore Che è stato cacciato A questo punto Ha confermato la tesi No? Cioè le ha confermato la tesi Comunque Ha fermato Che c'erano state Lamentele Ha fermato Ho affermato Lamentele Sì ma Non le ho Dice Non si Il signore Il signore Se era proprio Proposto Male nei miei Confronti Dalla prima Sera Bene a cacciarlo Nel senso Non le ho Perché Avrei fatto La stessa cosa Un forestiero È arrivato Gli ho chiesto Come si chiamava Ha detto Do il nome Il resto Non gli interessa Ha detto Odiosa Si occupa Non gli interessa Oh Anche cazzo Vieni via Quando fanno così Signori Infatti Quello che ha fatto Direi che abbiamo risposto A fin troppe domande I civili si levano Dai coglioni Insomma Io Insieme agli uomini Di legge locali Provederemo A far luce Su questa Questione Non ne ho dubbi Va bene Abbiamo già concesso Troppe domande E lo signore Insomma Non essendo nemmeno Uomini di legge Quindi andate Ma è giusto Che vengano riscorte Insomma No no Ma ora Arthur Si stava parlando Di Arthur Tranquillamente No Stavo parlando Tranquillamente Senza a quanto pare C'è stato Un'incomprensione Perché Tra i sindi signore Si sentivano Quindi probabilmente Però comunque Il dialogo È stato costruttivo Perché Appunto abbiamo capito Tramite quello che Appunto ha fermato I deputi Che comunque Il signore Chi abbiamo bandito L'abbiamo bandito Con cognizione Di causa Esattamente Comunque Mi è giunto Una missiva Jack Ho recuperato Il nome Ah Che è il nome Aspetti che la devo recuperare Me lo manda A me Meno me lo segno Gentilmente Si si le mando Tutto Un attimo William McShia Si chiama Mai sentito Non è vista In vita mia Vabbè Comunque ti mando Una missiva Tra poco Jack Grazie Fammi controllare Che abbia ancora Il tuo 101 101 Ma no male Che non era Tre numeri Più avanti Era tuo No Non volevo Io quello Cazzo Dopo ti prendo A botte A chi A te Ma anche subito Volentieri Eh lo immaginavo Immaginavo Allora Jack 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 Hai detto 101 Ah ecco ti qua Posso ce l'ho Sì Va bene Noi dobbiamo tornare A Sendini Per un'emergenza Va bene Jack Nel caso Mi mandi una missiva E Diciamo Penso che la questione Sia chiarita No Sì Sì Ma Comunque Jack Non ho voluto fare Nessuna rivolta Nessuna merda Problema di concezione Abbiamo chiarito Che la merda Di uomo E quello È stato Cacciato Insomma Perfetto È giusto Almeno questo va bene È figli tutto Grazie Per il resto niente Io davvero Ti giuro Non lo vedevo E non lo sentivo Quindi non so Va bene Va bene Per quanto riguardava La multa Salata Ma a parte quello Va bene È inutile parlare Troppe chiacchi L'abbiamo da fare Signori Buona giornata Buona giornata Buon piaccio Buona giornata Buon ritorno Signori Arrivederci Vanelmo Comunque lei ha un gran bel cravattino Caro sindaco Buona giornata Noi partiamo per Sandini Il lavoro ci chiama A voi signori Buon rientro Spero che quando ritornerò Troverò del whisky In questa cittadina Potreste portarlo voi Magari Eh se lo trovo Sì Ho fiducia in voi signori Buona giornata Vanelmo Sono contento Comunque che l'equivoco Si sia risolto Nel migliore democchio Tutto si risolve Primo o poi In un modo o nell'altro Bene E allora lo comunichi Anche È vero che c'è Jack È vero no C'è il vice sceriffo Va bene Nel caso ne parli con lo sceriffo Vabbè Naturalmente Buona giornata Scappiamo Signore Arrivederci A rivederci La matica No Andiamo Buonissimo Buon Buon Grazie La mia fiattetta Me la potrebbe anche regalare No Gliela rende Eh Una fiattetta Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Aiutare Perfumi Sì 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 Mi ha fatto assaggiare Il nostro rischio magico Ben Senti Tenda Tenda Grazie 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 Arrivederci Buon viaglio Signore Arrivederci Quando Quando Le ho detto Che si dovevano Terminare Andiamo 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 Uomini Ma che fa Ben Noi ci ricordiamo Beati voi Io ti devo prendere a botte ma proprio forti Che te le ricordi? Eh Eh Si lascia di guardare io Eh 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 Sì Ti chiediamoci Ti chiedi Ti chiedi Toccherebbe Rivedere La fine Mi sa Che te la taglio La prima Trovato Tentro Corri Pedi Si Inizia La fine Si E Poi Vai 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 Tiri Tiri Le faccia Vedere Che Quello Vado comunque c'è il bandito è il tizio di cui ci stanno già parlando forza che sia di Giazzanchi si infatti ha zazzo quella più veloce un attimo che c'è il cavallo stanco forza ma che lentezza lo riga a noi c'è a destra i cavalli signor Ben forza forza forse era meglio prendere una dirigenza ma la mongolfiera che erano stimolanti dei certi però a eh si si deve fermare però che rilevare se non è ancora lei ha ragione aspetta che hanno scritto che dicono niente poi ah no ce li ho già al post aspetta proviamo lo stanno trattenendo insomma proviamo a scendere voglio provare una cosa non mai dobbiamo muoverci eh no non funziona voglio provare una cosa aspetta te li si può dire posso usare il suo cavallo provo a salire sul cavallo oh cazzo oddio che cazzo continuo a dire che lei è un colpio ma che io che ho visto che ho fatto vediamo che cazzo che cazzo che cazzo eh comandante che ho visto ho provato cavalchiamo fino alla fine del mondo funziona funziona ah ok molto bene ma che cosa ha funzionato niente io ho dato uno stilomante un po' potente ma lo doveva dare a tutti eh vabbè quante mi vuole comandante ora che torniamo Miller e lo farà capire comunque mi sa che è più veloce che i cavalli altro che te sì quei cavalli è più veloce non dovrebbe essere normale eh ma il treno è lento tra l'altro diciamo è una locomotiva a vapore ti è già fermato comandante mannaggia forza guarda come c'è in tanti sei io il cavallo migliore l'ho chiesto non riescono a trovarlo no no ho sbagliato il salto un coglione un coglione un coglione l'ho chiesto l'ho chiesto l'ho chiesto è una cosa incredibile sai sali eveli è una cosa incredibile una cosa non lo so manco io guarda lo approvo non le dica niente no non dico nulla non dico nulla no no se qualcosa dice il comandante di che stai stato io sì 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 era approvato by ben approvato non lo stato comandà alla faccia del cazzo se ha funzionato porca puttana ancora siamo porca droie forza ma signor ben non è che ha qualche altro stimolante del genere da darmi no sì infatti questi quanti magici questi si chiamano il mio cavallo sembra a me quando prendo le gomme la cocaina del dottor croft cazzo no vabbè non esistono le gomme le cocaina c'è la croft ah infatti stai zitto ah stai zitto vedi non ti parla vedi perché perché ma che cazzo ma che cazzo tranquilli 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 ma che cazzo pizzo orala arrivati ormai temo la persona che sia in centrale in questo momento che senso è perché il diminutivo di william è bill ah ah e vedi che allora tutto combacia no niente scusi mi scusi colpa mia faccio dire il quale ho capito ho capito adesso è meglio un po' il culo ciao una 6 e 6 non ci parliamo da capo giusto comandante disturbo un attimo una pulita e forse il signore da dietro si si mi ha detto siamo riusciti a ricostruire diciamo l'identità le guerre parlava di lei il signore si ora racconto tutto ovviamente si si ricorda ieri piccola chiacchierata che abbiamo fatto a valentine dopo la scazzottata diciamo era lei mi crede che di te non mi ricordo però no però racconto tutto al comandante intanto mi spiace averla disturbata se era impegnato o in altro no si figure diciamo che si mi chiamo william mc di edimburgo scozzese scozzese ho conosciuto un altro scozzese all'interno dello stato fermo di lei non mi ricordo proprio però magari vediamo mi racconti l'accaduto insomma dall'inizio diciamo che qualcuno ieri sera visto che ho passato una notte in gatta buia si è preso parecchio della mia dignità parto dalla fine per poi raccontarle tutto quanto ovvero circondato da otto uomini dentro l'ufficio dello sheriff preso a calci pugni sputi e più qualche personaggio farlocco di valentine all'interno di esso non mi hanno dato diritto a nessun tipo di dialogo messo in gatta buia una notte la bandito per tre giorni da valentine fra tre giorni se voglio rientrarci devo pagare 150 dollari a lavaggio e in più lo sceriffo come ultima cortesia mi ha preso a cavallo legato mi ha portato in mezzo alle montagne le famose montagne vicino della riserva guapiti ed un miracolo che io sia qua parlare davanti a lei visto che lei è piena di lupi e quant'altro ora le racconto il motivo se vuole è perché mi hanno sbattuto in gatta buia certo ieri dopo lei c'era pure mi ricordo dire che è venuto a valentine dopo la scazzottata si ricorda che si è intervenuti a valentine in serata certo sì mi ricordo benissimo buona start salve scusa che farvi del tavolo e spuntano le cose ma non è momento a generare l'aria ci fate un favore ok dopo la scazzottata mi sono messo a parlare con un deputi che mi sembri il signor alla mia destra però ovviamente non vorrei andare in errore insomma il deputi ha parlato un po' del più e del meno ovvero che una città di montanari di stare attenti perché comunque hanno una mentalità abbastanza ignorante di stare attenti a come si parla eccetera eccetera insomma quattro consigli utili per chi non è di valentine e io gli ho fatto una domanda al deputi personale due giorni prima mi aveva fermato il vice-sheriff chiedendomi che tipo di affari avevo io a valentine e io avevo detto al vice-sheriff i tempi affari miei e lui all'epoca mi disse o mi dice quello che sta il motivo per cui è qua o la bandisco dalla città la mia domanda al deputi è stato se lui poteva fare una cosa del genere e il deputi mi ha detto di sì in quanto aveva giurisdizione nel territorio questa è stata la conversazione col deputi oggi è spuntata qualche testimonianza di valentine che io ho parlato col deputi di rivolta a valentine capisce bene che se io parlo con un deputi e gli parlo di rivolta e deputi in prima persona mi lega e mi porta da lei e beh come il minimo direi eh quindi capisce che già decade tutto dal momento in cui mi viene accusato di parlare di rivolta con un deputi questa è stata l'accusa investigazione alla rivolta per quello che gli ho raccontato all'inizio l'unica domanda che è stata un secondo veloce giusto per chiarire il fatto il signor quintero è qui con l'avvocato perché il signore non abbiamo niente fatto mi sa perfetto giusto voleva chiedere i fatti e io gli ho consigliato appunto di evitare magagne più grosse quindi se non è un problema il signor quintero vorrebbe ascoltare gli accadimenti per poter poi dopo procedere con il signor William credo che sia una cosa da separata sede quella tra il signor William e il signor Quintero sì una storia è quella come ho messo le mani avanti naturalmente per la mia presenza chi se il signore vorrà conferire con me il suo diritto farlo ovviamente per comprendere la situazione così come il suo diritto riportare la denuncia anche senza la mia presenza è una scelta del soggetto a chi da quello che ho capito immagino la gente abbia richiesto lui l'avvocato e non sia stato lei a chiedermi no io gli ho consigliato lui mi ha assolutamente approvato il consiglio e io l'ho contattato perfetto allora prima di procedere in qualsiasi tipo di racconto invito ovviamente il soggetto a conferire privatamente sulla questione e poi a riportare i dati in caso contrario è libero di fare quello che vuole allora già il racconto è stato fatto perfetto bisogna soltanto capire se devo firmare quanto detto all'interesse la vuole di riportarmelo sì sarebbe la terza stavolta in serata è stata una brutta serata quindi se vuole tanto penso che la demuncia può però ditemelo così aspettiamo Kintero ho qualsiasi altro tipo di avvocato e evitiamo di ripetere le cose di sì assolutamente così va bene signor Mcshie ripeta un attimo l'accaduto niente praticamente ieri c'era pure lei presente mi sa signor Kintero dopo la sgazzottata valentine ricordo ricordo mi sono soffermato a parlare con un deputi che non so se sia qui presente o meno e niente parlando del più e del meno di quanto siano abbastanza chiusi di cervello a valentine per dirlo in maniera gentile ho fatto una domanda specifica sui poteri del vice sceriffo se potevo o meno fare un determinato tipo di cosa ovvero chiedere informazioni forestieri minacciandoli di bandirli e deputi mi ha confermato di sì in quanto giurisdizione dello sceriffo ok certamente oggi entrando a valentine mi hanno tra virgolette trascinato nell'ufficio dello sceriffo umiliato preso a calci preso a pugni esputi tolto la mia dignità e fatto testimoniare due tre bifolchi dell'armeria mi sembra almeno quello con la lingua un po' più lunga della dell'armeria quello con la giacca rossa perfetto ok che diceva che io parlavo con i deputi di istigazione cioè di rivolta a valentine capisci avvocato che certamente io parlo di rivolta con un deputi deputi stesso la prende la stende la porta qui in ufficio la recapita direttamente insomma quindi nel momento in cui mi viene accusato e mi viene detto che ero a parlare con un deputi decade tutto assolutamente soprattutto ancora di più se il deputi in questo caso possa confermare la sua versione che è una garanzia penso io fossi lì comunque perché la riconosco dalla voce si la riconosco dalla voce il problema è che non mi ricordo questo discorso ma sicuramente avessi sentito il suo nome e il suo deputi mi scusi Jimmy John McGuire perfetto avessi sentito qualcosa del genere riguardante rivolte o cose varie io qualunque altro dei miei colleghi sicuramente non sarebbe qui a parlare il signore sarebbe già in qualche fossa comune ecco completamente sicuro di questo signore però comprende che per la legge ovviamente se lei garantisce tale atto è possibile anche una mancanza e naturalmente ci sono conseguenze lei però garantisce che il soggetto in questione non ha mai incalcato tantomeno indotto un discorso di rivolta se lo ha fatto io non l'ho sentito insomma capisce cosa voglio dire quando ci sono troppe persone in giro ci sono problemi di percezione il soggetto dello sceliffo garantisce che davanti a lei vi si parlava di questo discorso pertanto se in quel momento in quella frangente lei garantisce che non ha fatto solo davanti alla sua presenza o almeno davanti alla sua presenza quel discorso a sua volta alla selezione non ho percepito nessun sentimento di rivolta insomma ecco è quello che intendo lei quindi non ha percepito non ha sentito e non ha compreso non ho percepito nemmeno il signore in realtà ecco ah mi scusi è importante assento ricordo la conversazione perfetto però il non ricordarsi la conversazione può portare a un punto di domanda sulla possibilità che lei abbia fatto quella cosa se invece il deput asserisce che lei non l'ha fatto con sicurezza allora è un altro discorso no signore io sto affermando che proprio non l'ho sentito parlare pertanto allora invito il soggetto a non esporre denuncia perché la garanzia da parte del deput è dedicato perché non ha garanzia sull'ha fatto le consiglio questo ma infatti è proprio quello che sto dicendo io non ho sentito aprire bocca dal soggetto l'ho guardato bene in faccia appena sono arrivato proprio per questo motivo che succede non l'ho nemmeno visto ecco niente stavamo chiedendo sulla questione riguardante la selezione da parte di uno sceriffo o tantomeno di altri soggetti di valentine che asseriscono che questo soggetto qui davanti sia un rivoltoso e che l'abbiano sentito parlare di azioni rivoltose assieme a quel deputio il signor può ripetere il nome agente scusi agente signor deputio io ho capito io ho dimmi Gio Meguai sì esattamente insieme all'agente Meguai di queste questioni quando però l'agente Meguai giustamente asserisce che non solo non ha sentito questo non ha sentito e non si ricorda appena il discorso pertanto invito e sto invitando l'assistito a ripensarci a proporre una denuncia se non ha la garanzia da parte del deputio che effettivamente questo interloquio non abbia avuto una reale carta quindi non si è sentito vi dico anche che non ero da solo ieri sera c'erano anche i miei colleghi con me c'erano anche io lì davanti presente il signore non ha proprio aperto bocca ah quindi lei adesso asserisce non ho capito quindi questa persona non ha detto nulla di frito a noi non ha chiesto nulla a noi diciamo l'avrei chiesto a qualche altro collega che adesso non è presente le risposte che ha dato sono coerenti con quello che avrei detto io insomma ma non ricordo assolutamente nessun discorso da parte del signore signore prego prego mi chiamami mi dica una cosa nel caso in cui un deputo potesse confermare che il signore non abbia mai parlato di rivolta cosa potrebbe fare il signore insomma in questo caso potrebbe esporre una pubblica denuncia per un abuso di potere da parte dello sceriffo che ha rivendicato un fatto senza accusa reale fondata e ha portato ovviamente un'aggressione reale cosa riguarda riguardo a falsi testimoni quali l'armaiolo con la giacca rossa che ha in questo caso non abbiamo queste garanzie ancora signor bene ma se avessimo queste garanzie cosa succederebbe una cosa per volta se si può fondare in questo caso la base del soggetto tramite questo anno se si dovesse fondare un secondo momento che come dice lei si fermi un'altra cosa ti agarmo adesso si chiamano il signore signore ma quindi lei non è un ribelle sta scherzando suppongo spero perfetto il signore non è un ribelle quindi a posto e dica perché io non l'ho sentito che parlavo di rivolta ma poi vanno a parlare di rivolta con un deput comunque se i deput garantiscono che il signor bene questo soggetto non ha fatto questa cosa c'è stata una posta quando il signore era vicino a noi non ha detto nulla che riguardava una rivolta per quanto mi riguarda quindi non so poi se ne ha parlato con qualcun altro non ho idea quindi non sapete per solo sceriffato di valente comunque lo sceriffato di valentine mi ha accusato di questo parlando con un deputi quindi dopo nel verbale l'hanno messo che parlavo con un deputi ci pensiamo noi diciamo che ha avuto dei problemi con lo sceriffo il sindaco di valentine stavano cercando di mettermi in mezzo e comunque sì anch'io non vedevo metà della gente non sentivo mai il signore io lo vedevo e lo sentivo ma non ha detto nulla riguardante una rivolta quindi adesso pensiamo alla denunzia non ti preoccupi il signore della denunzia andiamo sul luogo sul luogo andiamo a vedere questa denunzia che è stata fatta suoi consorte va bene sì comandante quindi sì comandante però mi è stato riferito scusate se mi intrometto perché già ne ho subito di cotte e di crude ieri che potrebbero anche mettere una taglia sulla mia testa ma la testa che le canziano la denunzia di fare caldo non si preoccupi va bene andiamo a controllare questa denunzia tu che cosa è stata fatta tu quale bassi si trovano ma le chiamate denunzie i procedimenti verso il soggetto da parte dello sceriffato quali siano stati il signor Ben vorrebbe forse fare un'indagine allora le accuse sono quelle di aver fomentato una rivolta esattamente e vuole andare a valutare il tutto il signor Ben da quello che ho capito senza che il soggetto qui presente proceda con una denuncia perché almeno da detta del signor Ben se la vedranno direttamente lui come sbaglio il signor Ben adesso andiamo noi a capire cosa ti ha successo per bene e se è opportuno cancellare la denuncia nel caso non è opportuno allora vi chiameremo il signore e faremo procedere con la denuncia dello sceriffato a conto denuncia certamente ok avessio vabbè faremo così così un qualcuno che come adante si segna un tenente si segna il suo contatto ecco in maniera tale che possiamo aggiornarla signor William hai censito sì 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 ok perfetto allora abbiamo già tutti i suoi contatti aspetta hai censito qui però non avete che ancora neanche ho fatto il mio telegramma hai censito qua sì 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 sono venuto qua sì vado a fare il telegramma esatto vado a fare il telegramma e torno immediatamente qui e lo accompagnate a 5 dollari sì sì perfetto vabbè lo accompagno io facciamo la compagnia dei rivoltosi da sì infatti ormai siamo ormai siamo conosciuti così di armi andiamo scusate signori scusi beh spesso che ho di lavorazione che ho diviso di qualche cazzo posso dire una cosa al signor Quintero un attimo un attimo poter evocare un ordine di uno strifo il Marshall signor Quintero può venire un attimo quindi occorrerà diciamo intraprendere un procedimento con il Marshall e poi sarà lui a decidere se effettivamente comprendo benissimo non mai mi permettere in questo caso deve evocare tutto naturalmente la denuncia presenta o premette da parte del soggetto una possibilità non una garanzia poi sarà alle forze dell'ordine valutare la denuncia e comprenderla meglio ci mancherebbe altro nessuno si sostituisce alla legge come dice la Costituzione certamente ora signore permettetemi se è il momento di andare buonasera arrivederci un attimo signor Quintero a sua cliente va a bus un attimo sì Quintero avvocato non devo andare scusatemi stavo andando mi dica dove caso mai posso rintracciarla signore il mio numero è l'81 per la casella postale per qualsiasi cosa non si faccia problemi va bene buona serata certamente potrei averle bisogno anche io insomma nella sezione proposta di Sandeni troverete il mio biglietto da visita Cuba Libre Company 81 Villa Bratwick Manor qualsiasi cosa signore la voce la voce la voce la mia no no il collega dico la voce di abbassarla ma vabbè signore che si può accompagnarmi arrivederci allora venga con me lo accompagno direttamente si io sono quasi sicuro di aver parlato con lei ma non non le do una cosa allora le dirò le risposte sono quasi sicuramente le mie insomma sì ma sicuramente le ha parlato con più persone quindi è normale che non ricordo ma le do una colpa infatti è più facile per me ricordare che per lei che parla con 100 persone al giorno a parte quello è anche la percezione diversa diciamo ecco io sto facendo tutto ciò perché non ho interessa ma per qualche altro poveraccio che possa passare quello che ho passato ma fa benissimo ripeto un semplice fatto di querenza diciamo di legge, di giustizia più che altro sa ma tutti le siamo istruite quindi esatto gli abusi purtroppo sono all'ordine diciamo che si allora non so dove si faccia qui si è qua 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 ok perfetto possiamo ritornare ok purtroppo quello è il problema sostanzialmente che io davvero non no no ma si figura si figura tanto da decada a prescindere se dicono le accuse che io ho parlato con un depo ti dico loro stessi sono degli idioti scusi il termine quello è il termine giusto direi cioè o il deputio è un cretino o o non ha fatto questo lavoro o sono loro degli idioti e io scemo che vado a parlare con un deputio di rivolte eh capito non con solo uno eravamo 6-7 si si perché c'erano quando parlavo con lei c'erano almeno altre due o tre persone presenti due o tre gli presenti con me direttamente altri 4 o 5 di davanti al salone quindi c'era pure il comandante impiccato insomma eh certo ci mancherebbe come si fa qual è il muscolo del piccione che non mi ricordo male deve pensare ah si 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 purtroppo non c'è il muscoletto diciamo ok perfetto l'ho visto grazie scusate riecomi ah si posso chiederle un piccolo dettaglio che magari lei ha omesso si prego la sua età non l'ho detta 27 anni 27 si capirebili anche qui si è una realtà scorsese 63 64 64 vabbè dipende dal mese dipende dal mese 64 quindi allora indicate appunto a 64 chi l'ha fatto carri giusto a carri che deve sistemare eh ma l'epoca glielo ho detto perché il signore si era confuso era un po' futuristica barba lei eh barba cresce vabbè 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 come i capelli sì non so se diciamo un uomo totalmente diverso adesso mi faccio conto un attimo come totalmente diverso sono sempre io con un po' di barba in più di quello fatto qualche giorno fa la ma una cicatrice o no aspetti vengono proprio il cappello sì tolgo il cappello un attimo comandante ma che fa fissa sì devo capire un attimo perché qui non so mi sembra era pelato prima no vabbè non so una domanda senza borsi la confezza è questo signor mc no no il signore quello che sto guardando io adesso e non hai di signore sono io sono ben signor mc la messina rifatete una foto gentilmente sì 216 ma 216 grazie e l'isola che vorrà fare le foto la rifacciamo vabbè la macchina che sarà prima rifatte direttamente la scheda che procedo io poi a strappa la pagina di quella vecchia ma sono convinto che mi ha chiesto la data rinascita perché se sbagliate mi ha detto 1900 correggendo 6800 capilla è andato un po' avanti con gli anni allora partiamo dal nome mac c'è scritto m c s h e a chiaro data di nascita 8 1 delle 64 864 luogo di nascita edimburgo scozia che lavoro fa al momento nulla sono mandriano quindi probabilmente andrò a lavorare in un ranch se mi assumeranno chiaro indirizzo postale 216 mattina e faccio c'è bene c'è quello a giotton ok perfetto ok credo adesso di ricordare chi è lei è il signore che si è scazzottato nel e faccia conto che ero pure dalla parte di valentana figuri si figurino a rivolta questa cosa io faccio i calcoli comandante adesso ricordo che è il signore si ricorda quello casca che abbiamo scambiato ieri per il signori sun se combatteva nel ring a quello che ha affermato che combatteva dalla parte di valentana infatti stavi sticando alla rivolta ma posso però questo è un'illazione un mio pensiero comandante posso ricordi che ripanga tra di noi ormai ci siamo allora io da qualche giorno ha conosciuto tale sofia la stalla di valentine una bella signorina italiana con cui abbiamo avuto una piacere conversazione ora mia mancanza non aver richiesto lo stato se sposata fidanzato c'è qualche altro contadino che le abbia messo gli occhi addosso non vorrei che questo armaiolo di valentine penso mi viene in mente solo quello guardi perché per essersi inventato una storia del genere la vedo dura secondo me perché ieri ho fatto notare allo sceriffo di valentine che non segue le leggi statali per e per quello ho dato un cuore al suo amico che fa al sindaco quindi magari anche quello credo stiano puntando più contro di me che non trovi da infatti io ho detto il sindaco mi ha chiesto mi dica qualche senso di scolpa sapete mi ha risposto che è facile prendersela con un uomo debole disarmato che prendersela con questo loro obiettivo che sono i deputi perché se io parlo con un deputileva dal deputino dal poveraccio qualsiasi credo seriamente che sia una faida tra me e loro insomma mi trattengo guardi hanno scelto la via più facile prendere un poveraccio e torturare e fare la voce grossa fare la voce grosse un chiaro e palese abuso quello che stanno facendo ma non sta a me deciderlo ne provarlo insomma non è spero che io sono qua appunto per non farlo passare a nessun altro poveraccio che passa nell'intorno di valentine ecco perché per quanto mi riguarda non ci rimetterò più piede a prescindere che mi abbiamo bandito se c'è la sua amata però non è giusto che lei non torni lì no ma l'inizio di conoscenza secondi penso un attimo velocemente ce n'è anche bisogno che faccia l'annuncio tutto il server ma tutto il cazzo ma porca puntata ma aveva rimanere magico ha sentito io però va bene che cazzo cosa detti comandante server che cos'è server la vostra nuova arma immaginavo che vedevo ti avevate intende intendeva quello mister avete sempre un coniglio sotto il cilindro dobbiamo essere belle con permesso bisogno dei miei uomini se io posso andare si può andare tanto mi fa pensato giusto se sì sì grazie della serata di avermi ascoltato arrivederci signori venite con me e vi do questa mister lavoro andiamo se venite 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 buzzurri che pensate entrate che assegnavo le lampade e la sottotitoli un segreto che forse non le piacere aspetti posso dirvi posso dirlo un segreto è sicuro volevo l'ascoltare ma fatto sta comandante che se lei si tiene questa lanterra nelle sue tasche io le sparò contro le esplode lei esplode lo stesso ok perlomeno funzionava con i fucili a punta no 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 ma mettilo giù mettilo giù bene metti dentro la lampada mette un libro sei pronto hai l'arma qui la sopra quella di ferro sì 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 ho quella posta ok un colpo non è esplodo non mi ha fatto niente ma com'è no ok non è a posta forse c'è un colpo c'è la pompa e dovevo provare per tutti la pompa e magari era parlando sulla boccezza ok va bene prova superata venite che do agli altri ahhh ahhh ma come è scusa ma che cosa faremo matati matati vado a fuoco dai venite qui vabbè mi ha bisogno di capire hai scusa che sta sparando che cazzo mannenza la pu*****a troia e che cazzo lo arreca p*****a e che cazzo e che cazzo o che cazzo o che cazzo che cazzo cazzo vuole è scusato è giocato cazzo come ho scusato My e sono persone ma non ho scusato ma non ho fatto ma non ho rimastato cazzo nocci tua era un testo, era un testo, era un'arma da... Ok, allora Mannaggia, un nuovo calibro Non vi preoccupare Lei ha detto c'è la lata lanterna Come faccio ad avviarla? Non me l'hai data ancora Eh, sto chiedendo Vieni Venga Posso chiedere a Ben se mi dà un binocolo E' una macchina fotografica E la torcia dove la mettiamo adesso? Eh, devo risponderle Capito dove cazzo me la metto Ma devo tenere addosso che parla No, le potete depositare nel deposito La macchina fotografica vuoi? Sì Ecco il comandante Dove l'ha fatto finire, aspetta un momento Venite qui che vi do le lanterne Comandante? Eh Comandante mi hanno appena detto che qui si vendono i binocoli Si vende Quindi che cosa vuole dirlo? Che cosa vuole dirlo? In che senso si vendono i binocoli? Ma è che l'avvocato ha detto che... Ma che cosa fa così si entra in centrale? Cerchiamo di comprare un binocolo Non si vendono qui in binocoli A meno che ero mi da 10.000 dollari No, 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 no Se volete le potete dare 2 dollari Quanti? 12 dollari ha detto? Li compro io? No, no, 10.000 dollari 10.000 Eh, potete vedere le comandante Quanti mila Ah, se mi dà la breadwin Le do un binocolo Beh, ci potrei pensare Ottimo Le farò sapere Questa è la nuova l'ecluta? Nuova l'ecluta? A lei stanno dicendo Vi faccio vedere chi è la recluta È vero, sono recluta Ah, è una recluta? Oh... Complimenti Dai, fuori ai cibi Ci sono scusate La tappa nella lanterna, muoviti in cammina Dove, 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 lanterna, lanterna, lanterna Dove si comprare l'antenna? Eh, no, binocolo Dalla recluta Posso dargli il cazzo di dimmi il binocolo? No, no, no Grazie Eh, no, vai farla dare via dei coglioni No, 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 no No, faccio così, fidati Lo vuole un bacino, comandante Anche uno di qua lo voglio comprare Io Comandante lo vuole un bacino Posso comprare? Ah, vieni... Ah, te lo do allora Ma che cazzo io non vuole nessuno Mi ha detto, vieni, ormai li ho dato Prima che la peste a botte Ah, la peste si, poi il domandante non si preoccupi Ha avuto la lanterna Sì, 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 grazie Mi sento come se mi ho fratello Se è ancora qui No, noi non abbiamo avuto la lanterna, signore Neanche io Eh, mi dispiace, signori Dovete attendere Ah, attendere Sono in fila in attesa Avete in fila? È brutto Ne abbiamo un sacco di sue foto Con animali in braccio, insomma Aggiunge altro Sì, sì, a catalogo di foto Sì, sì Poi le poso anche nudo, eh Addirittura Quale le poso? Perché le ha divino Le do alla signorina da coda Che cosa fa ancora qui? Noi siamo qui per comprare lanterne e binocolo Vorrei chiedere a tutti Quando si sfida le vostre lanterne Vorrei farvi vedere una cosa magica Gentilmente No, grazie Ci fa esplodere Eh, quasi No, grazie Eh, no, grazie Ma le esperienze esplosive non ce ne interessa No, andate via Perché io adesso sto andando a dormire Quindi Ecco Voglio vedere lei Voglio vedere lei Ma, eh, signor Ben Una curiosità Sì, mi dica Per quanto riguarda questa situazione Dove appunto è appurato Che non si vedeva e non si sentiva Ma fa calare bene Adesso parliamo con Lo sterif Vediamo di ritolvere Ok Ah, Ben Lei mi ha detto che domani c'è Giusto? Sì, tutto del tempo lo vuole Ok, domani facciamo un addestramento Grazie a Dio Con i volatili Quindi richiede la sua presenza Eh, mio Dio mi ha mandato la benedizione Ma stia in silenzio Ma Perché? Vado in cucina, donna E taccino Ma ci vorrei? No, no, un attimo Signorina Ellison Qui è una zona di persone con diritti Vabbè, mi ha andato a fanculo veramente Vabbè, comunque Ben ha capito, no? Cosa? Facciamo addestramento con i volatili per i ragazzi Così imparano un attimo Sì, con i volatili Sì, devono imparare Non abbiamo una ericone Non abbiamo Vedete se è arrabbiata Un casino Eh, cose che volano Come no? E gli uccelli? Che cazzo ci fa con il cello? Eh, gli spariamo Eh, gli spariamo Eh, li spariamo E vediamo se sono brave Possiamo anche mettere le bottiglie, eh Ah, c'è Domani ci organizziamo Eh, sì, guarda Faccio così, guarda Eh Whisky, no? Whisky No, questa è la cosa Ecco qua Bottiglia di gusto Ah, toccata Tutte per terra Quando mi vuole Piccata Eh, ma sono Come dire Sono Versali immobili Immobili volevo dire Non sono mobili A noi ci servono Versali immobili Ben Ah, no, non funzionano Eh, no Ah, attaccato Aspetta, aspetta Riproviamo Un po' di frutti Tutto bene? Oh, forza Ah, potremmo mettere anche quelli mobili Eh, quelli mobili servirebbero, diciamo Ha detto che ti serve un pistone? Sì Piccioni, aquile, queste robe qui, insomma Oh Come è l'aquila? Quelli che è riuscito ad addestrare, insomma, capisci? Io ho inciampato Non è oguardo Cioè, non è oguardo Non è oguardo Cioè, non è oguardo Non è oguardo Non è oguardo Non è oguardo Ecco, appunto Questa è mia Colpito Niente Ha fatto da sola Ha fatto da sola No, è sparito Grazie Ce l'abbete dentro Forza, abbiamo Dai, su, si alzi Oh, fa' colo Ah, eh, signor cinese Si può allontanare da qui Gentilmente una zona militare Grazie Ah, cazzo a sapere Vuoi continuare a sparare? Eh, non si preoccupi Dai, quando si spara qui Non è un problema Si allontanare Poi c'è stata una centrale Non è un problema Ecco Sparare la prima pizzella Ma te? Passato Che voglio sparare la prima pizzella Dov'è? Solo uno, solo uno C'è una sua pistola Ecco un po' di pipistelli Forza, colpite la prima pizzella Veda Già così Ti l'ha colpito? Non lo so Quindi Allenamento Non ho mai Ah Conqu' Io ho quel senso, no? Sì, c'è C'è un altro pacco Struzzo? Ma se direi che lei è quello che mi sta spingendo simpatico di tutti Ah, ringrazio È di più Dai, ringrazio Vado a dormire adesso Perché è arrivato alla mia urba Buona notte 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 Ho affumicato Dell'isombri Quando mai Lo salutato tu sì? No Penso di sì Buona notte All no che facciamo giro giro tondo casca il mondo oh ma tu lo sai che se io ti punto ti spinge si grazie al cazzo si non ho capito perché ha spinto lui e non terra non so sfinge tutti i trani beh sono inamovibile e grasso per grasso ancora cosa mannaggio alla puttana ma lo sai che da dietro fa malissimo porca troia dietro fanno male potuti a letto già fuori dalla centrale io l'ho preso io il pugno il momento che succede avendo un portato pariamo a gg per fare rendiamolo magro con tutti i buchi sono perfettamente vediamo che mi spara prima vado un attimo recuperare il mustang a rose ma come a rose perché quando dato questo il caro bene il mio basta che vado oh ma avete rotto il cazzo dai che sto schiattando non rompete i coglioni stai schiattando no non lo fare che devo spercare 4 dollari non rompere i coglioni sono deciso arrivo subito ha capito comandante ma ellison tu sei sicura che c'è ricordi vividi di ieri si scegliamo ma non servono i conti vividi capisci eh non lo so per intanto questa questione so io come andrà a finire ovvero e con quello impiccato a valet ma chi? ehm me che c'è ma va e noi che guarderemo il pativolo stando andato alla folla ma il povero cristiano ha fatto un cazzo vabbè ma ogni tanto qualcuno deve morire ho capito ma non per spizio eh che cazzo scusate ma non possiamo consegnargli il gg a sto punto appunto il gg per la vecchie dai ma avete rotto tre quartiere cazzo eh e niente si è incazzato no ma seriamente ma il cazzo vuol dire cioè no non finirai anche gli innocenti muoiono basta eh fino a una certa io gli sparo un faccio allo sheriff in quel caso e pure al sindaco che stanno facendo sto bordello no 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 si è informato quindi i sun si preferivano non informarmi fanculo fanculo si c'è c'è il nero ah credo di si allora lo vado a catturare oh porca puttana no 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 lo shire nero può essere catturato quindi se volete ordinarlo andate dal signorismo io mi prendo direttamente il puro sangue nessuno mi ha detto che ce ne vorrà tanto tanto tempo vabbè aspetterò ma col cazzo non ce li do 1300 dollari no lo shire costa 3,30 o 4,30 non mi ricordo 3,30 3,30 ma io dico ma perché cazzo mi fate spendere soldi quando dobbiamo cambiare cavallo ogni 14 minuti ma è stato lei a voler prendere il mustang ma vaffanculo ma non mi avete detto dello shire ancora io ti avevo detto aspetta aspetta è stato detto a parte dello shire è stato detto anche che dovevano essere unici i servizi vabbè lo puoi vendere tanto stai tranquillo qualche scimo da fregare lo trovo vedendo quelle due merde che mi hanno dato no quello di servizio servizio non lo può vendere quello bianco e nero la mucca esatto la mucca no lo vendono lo shirif no non può non può guadagnare soldi gratis da una roba che è stata data allo stato va bene ci muoviamo andiamo dove è per chi è andata con bianco a dove a prendere il cavallo dove dobbiamo andare comandante se perché è andato con bianco non lo so un attimo che mi prendo una benda due bende mannaggia alla madonna eh niente patasor io non ho capito un cazzo ora che torna mi sente ma chi? eh bene che è successo un attimo un attimo che devo segnare la roba nel vestito comandante mi da due secondi ok io mi sto senti male io sto per morire ma pensa io io devo morire domani alle 4 pensare che io invece di scrivere un'altra persona ho scritto a ben che cosa doveva scrivere ho scritto perché sei andata via insomma e meno a letto che il messaggio era femminile però è un grande grande bene il migliore c'è poco da fare e stiamo facendo di preciso i deputi si no nel senso una ronda un controllo oppure devo cercare del solo esatto dobbiamo cercare del solo abbiamo un obiettivo donna quanto io ne do quello quando convochiamo non ho così dito le mazzate no no queste cose quando è citato di queste cose lo deve andare a prendere comunque ha capito la situazione a valentine vogliono incularci vabbè ma sti cazzi di valentine e no vabbè però il culo un po rode poi ci andiamo di meno io ve l'ho detto essendo tra i migliori pistoleri diciamo in giro quando sarà che servirà aiuto si attaccano non si preoccupi comandante poi vedrà quando sarà che servirà aiuto ops sono di ronda valentine sand e nimi scusi guarda caso non posso egli sono uguale mannaggia due degli migliori braccia che non ci sono ma è il massimo che posso fargli e sparargli in faccia se proprio vogliono ma l'armadroio mi ha stupito il sindaculo nel caso mentre sparano perché uno di valentine bagno i 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 bagno le bagno i bagno i위 dl dottori non ci sono dambo a guido quando è andata via la dottoressa che dobbiamo poterlo c'è nessuno andeni solo qualche c'è più valentino lots se lo berriamo cazzo lo bello facciamo a gara chi impiccati prima dai ho capito noi abbiamo già fatto quanti due tre morti di più di più siamo a 5 6 allora il carboncino spencer e siamo a 2 l'altro tipo e siamo a 4 e gli altri 6 e non mi ricordo adesso a quello che abbiamo ammazzato in cella siamo a 4 gli altri due siamo a 6 siamo a 5 e ne manca un altro abbiamo già vinto tanto non c'è nessuno qua c'è sedi secondo me proviamo infatti non c'è invece manco buca fatto è questo che se poi vuoi parlare con gli altri di vede per forza banca due coglioni però così comunque ma infatti oggi ho fatto il cazzadone tra virgolette cazzadone o c'è chiesto informazioni mettiamola così allo sceriffo gli ho detto ma non era una città poco esclusiva cioè full esclusiva questa vedo cani porci perché il sindaco mi ha detto che era aperta a tutti perché jack organizzare scazzottate pubbliche e bla 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 dovrebbe avergli rotto il culo a quest'ora in teoria ma sono sicuro che andiamo da coda e compagna varia io me ne sbatto il cazzo non ci sto in me che obbligano noi ad andare lì capito ma mi scusi non ci andiamo ma non ci andiamo manco quando chiedono aiuto è quella la cosa non è che dici è difficile in questi tempi morti piuttosto davvero lavori forzati di pubblico utilizzo il cazzo che è come si chiama aiutiamo la nostra cittadina e va a fan culo c'è ma poi da cato tornarsi nel rancio suo c'è chi d'accordo l'ha mai vista nel suo ranch no e allora fino alle 8 di mattina le nuove le migliori che lavorano per lei ma c'è tutti i bavoni che lavorano per lei ma chissà perché non parlo quante lo sapete cosa ne pensi sappiamo che non ti vanno bene le lucidature di fucile ti giuro che adesso mi faccio crescere la figa e metto i uomini a lavorare il mio ranch non ci nascondiamo il cazzo tra le gambe io e te miller e ci prendiamo il ranch ciao io sono nebraska maria sarai alabama alabama e siamo siamo le sorelle gemelle comunque tu con quello ieri ci hai parlato non è parlato ci hai parlato proprio siamo sicuri tra me io sono i ricordi a nero io di fianco a te e tu gli rispondevi pure a quello è buono non me lo ricordo davvero si vabbè tranquillamente fuori di testa arrabbiato probabilmente sia per quello ma non me lo ricordo di certo non lo vado a dire davanti a vane infatti perché sono abbastanza sicuro di non averlo fatto ci abbiamo parlato io ci vede io sono appunto c'è di a lei come prima quasi facciamo prima così non ce l'ho più ma decidi ragazzi di uno sceriffo di un buco di culo fatemi capire sì ma sono un sindaco uno sceriffo che hanno dei trascorsi con noi trascorsi oddio sparavano le campane roze e mancavano pure prendevano la banca però se quello è un sindaco io sono il comandante del pianeta del ragazzo attenzione i banditi ma fanculo dai e poi ti metti a fare il sindaco lo sceriffo lo sceriffo lo sceriffo lo sceriffo il debito il cazzo che devi averci le palle vanno in giro cioè quello è quello rimane non hai le palle non fai un cazzo punto quando è abituato a rosare le donne abituato a rosare delle donne resterò gente senza onore senza palle quel lavoro di avere le palle se non ce l'hai della band intercura c'è una caccia di vista con te chi non ha le palle uovo la tua cugina andata a dormire anche quelli con la sorpresa lo so lo so ho sentito un'anticipazione di optimus frame comandante mi arriva un aumento di rango sta settimana chissà chissà non dipende perché io poi passo le promozioni a bene bene vuole andare molto lentamente sì lo so però già tanto che sono riuscito diciamo a reintegrare bianco nel suo ma come è andata a proposito che senso è comandato spiegati non c'è da spiegare comandata come rientrato come ha fatto semplicemente ho mandato una missiva poi da lì ha fatto tutto lui ma nel senso era lui è stato cioè è stato lui a chiederlo dopo ieri immagino che li ha rotto il cazzo mica l'erro tutto il calzo ha detto che gli andava bene contatto dei fili conosco il mio polletto in agrodolce guarda puretta come corre guarda miller do sai fare questo in equilibrio come i gatti sulla ferrovia e vabbè a fare in quello tuo i gatti vabbè i gatti mio zio li mangiava mi diceva sempre che sua zia cioè tua zia tua cugina che cazzo era mia cugina si incazzava sempre ogni volta che ne cacciava una chissà perché mannaggia marchetti dove cazzo è andato ho detto che non c'è più ma sono dovete capire anche che è un certo orario persone alle 4 10 alla faccia dell'ostra 4 10 alla faccia dell'ostra cazzo non accorto il dottore che cazzo si fa nel bosco va bene l'orso che ne so essere di quindi è tutto chiuso ragazzi a questo punto a quanto pare si vogliamo andare a trovare il sindaco vanelzi no se andiamo a fare un giretto in quella cittadina di fango e merda ma vedi che non ci sono tantissimi eh vabbè sti cazzi tanto tutti la stanno in ogni caso andiamo andiamo dal cacciatore di vampiri dobbiamo andare per forza ivan pietrini non i vampiri viene qui a caccia le pietre di san denis ma non sono un van pietrino cazzo legami un attimo e portami in braccio che devo fare una cosa io devo pensare una cosa sì ci si deve essere perché effetto che cosa che mi sveglierò un pochino più tardi vabbè non è un problema sono partito io stamattina che ero veramente distrutto non lo dica a me comanda minchiato fino ancora se con noi 10 no io no no tu tu io sono rimasto fino alle sette e mezzo sette e mezzo erano pensato un po più tardi no sette poi te l'avevo detto alle 10 mi devo svegliare perciò mezzo andato a bled è strano che fino ha fatto dovrebbe di solito mi saluto prima di andare però mese viene a me mi fa su pa su pa poi va via ma quindi andiamo nella cittadina di fango e merda eh sì vediamo un attimo chi è quello lì ah ma gente no no non hai notato adesso sembrava come se crei la nera mettimi giù buonanotte srellina vedere proprio quei cittadini di bifolchi e arretrati quando vedranno le nostre lanterne che cosa diranno come fanno aia come aia tol mollata pure piano ma devi fare piano perché potrà mollata piano ti ho poggiato cazzata appoggiata no mi sa che non c'è ma evelyn e bianco sono ad amoreggiare sono andata a prendere il cavallo credo eh si è da mezz'ora io farei qualcosa se fossi lei si stavo facendo un attimo i calcoli per armi no non è perché niente armi spianate come andate siamo davvero in pochi con te ho appena visto quattro 13 troppi troppi 13.000 5 6 7 siamo qua sono tutti i messicani praticamente sì sì io sei quintero saranno di sicuro vado proprio a fare il culo dove sono bianco e moglie erano a prendere il cavallo a rose come si chiama la persona sono a rose andiamo a vedere a rose secondo me non li troviamo si sentono un cavallo vado io non mi sento ah eccoli vai più vai più fino a valentine mannaggia la madonna perché non era rosso questo cosa di merda ma che cazzo fin a valentine l'ho recuperato a valentine c'era un tipo con un cazzo di ronzino che ci ha seguiti me ne sono andato emozionante devo dire hai trovato qualcuno a valentine non ho visto in realtà perché ero molto mi portava al cavallo ok ma mi sa che era vuota eh sì avevo visto prima 13.000 persone ma diazze eh no aspetta un attimo comandante vieni bah vado vado a selezionare il cavallo giusto che mi sono rotto le palle io mi sono rotto tre quarti ragazzo si comunque ti ho passato un fogliottino se lo leggi magari e a me eh sì a te non mi è arrivato eh no ti ho risposto tanto tranquillo sto rispondendo vabbè ah vabbè è Oh, che vuoi stai sanno? Ah, già sono Pugliesi Non c'ho sanno ma tanto a me viene E sono Ti va se mi ci usci le palle Che cosa deve succedo a me Ok Lo posso buttare nell'occhio Direi di no Allora niente Non me ne puoi giocciare C'è il fazzoletto viola Sì, sì Peccato, sto per fare una cosa C'è? Dobbiamo pestare qualcuno Sì, andiamo a pestare Victoria VanPen Ma non credo Che cazzo Lasciate stare il collega Lo lascio stare Allora, se no, le lo toglie No, non glielo tolgo ma che cazzo È ultra forzuto questo C'è il super cappello, ce l'ha attaccato alla testa Ma che cazzo L'ho preso io, guarda L'ho preso Eh beh ti voglio, io non ci riesco Ecco No, ce l'ha incollato Non riesco Gli è caduto di nuovo A posto 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 No, fate, fate, fate un disegnino Vi prego Fate un disegnino Questa cosa è stupenda Bravi Assistente e bellina Il preservativo comanda Assistente e bellina Il metano, ya Io mi sembro un quanto di Parigi Eh sì Io voglio il cappello della tipa Cancelliere Cancelliere Quali sono le orcanini No, non voglio Voglio Cancelliere e non rispondere Ma che cazzo Ti ha Non mi sento il cappellino Carino Ma chi è il cappellino? Adesso hai capelli rossi Ha visto vestire le cellule Ah no Non è anche Blade Ma c'è ancora Sembra che c'è una tartarughe in testa Cazzo Non posso dover c'era in pancia C'era in testa Questa è che faccio un book fotografico Sono brutto sti cappelli comunque Sembra che Siamo qui col comandante Sì ma mi hanno già detto che mi intervesteranno ragazzi Queste sono i prossimi giorni Davvero? Sì diventerò uno famoso Allora verrò a fare una figura di merda Così diventa eccessivamente No molto Devo anche trovare un mio motto Veniamo a questi cappelli La biscotto ma se piove si scioglie Gliel'ho trovato io Ma dovete mettere il cappotto blu per questo cappello E mi darei ordini Ho fatto cadere il guatto di Parigi Cazzo Ecco con la gioca Comandare Comandare Comunque vi dicevo di fare i seri Sapete perché Perché durante tutta la nostra vita Ok C'è sempre qualcuno che gira sopra di noi Ok E se noi facciamo le cose belle Possiamo finire per diventare famosi Non so se mi spiego No non si spiega Noi lo siamo già comandati A presente quando lei arriva in città No che c'è quel treno Eh Eh se diciamo anche noi facciamo cose fighe Potremmo finire così insomma No quello è un altro discorso comandare Ah è vero è vero è vero No no Questa cosa petta Coglione è vero Ecco è vero il coglione Praticamente No parlo di te comandante Che è vero quello che dici tu Eh lo so che è vero Eh dico le parole del coglione Eh sì è lui il coglione Eh appunto Praticamente Oh ribigliate tutte e due Quando dice coglione È GG Praticamente c'è una C'è uno spirito guida Che osserva le azioni di tutta la contea E in momenti più belli Più carini Come potrebbe essere tranquillamente Una camminata a cavallo In 18 persone Potrebbe essere che tu finisci lì Esatto Vabbè allora scusi Non solo lì insomma Lo farà adesso che abbiamo questi cappelli È infatti È fantastico Non credo Non credo Non credo Non credo Non credo Non credo Salute Con questo che è diventato Dei scotto Cadaveri in ciro Andiamo più chiari i carboncini Dietro la stalla Andare Andare Ordini Ordini Oh guarda stai cacciato Stai cacciato Oh guarda stai cacciato Aspetta aspetta Metto quello del carboncino Allora ti picchiare È sporchato Tu di far colore di carboncinen Affancolen Comandante Cancelliere Cancelliere Abbiamo fatto ordine Ma la lanterna Abba ragione Avete visto La lanterna Dove cazzo Essere L'hai proprio detto Il culo E questo è il problema Che diceva Bianco No Eh che cazzo Mi fai Ti fanno esplodere La lanterna Sì per questo io ero Cinese Adesso ci sono le mincellette Che cinese Non è più cinese Non sono mai stato cinese E sarà messi cani Mangia facciola Era tunicino Dove cazzo sono i carboncini Mannaggia Venire venire Mi dare fuoco Occultiamo il cadavere Non ho capito Ci incuriamo il cadavere? Occultiamo Occultiamo le prove Bene Tala Venire cancelliere E dimostrare la barbia Pulito Non ho capito Quindi se ti rende Lo sto preservativo Dalla testa Poi tu smetti Di parlare Stomodo qua Un simile Buoncine Merden Affan No Ti do Vare Non ammazzare E niente Che cazzo Ma no Un po' Tumage Sparato Un po' Tumage Erano in due contro uno Un po' Tumage Eh Sarò un po' Tumage E nia Sargent L'ho lì dietro L'ha detto Che lei è proprio Uno strozzo Se è Ha sentito I tanti Ci rimane La strana No 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 Oh Mi sono salvato Il caccio d'angolo Wow Che culo Ecco Vede Tornato a parlare Ho perso La facoltà Di parlare In te Esken No Come adesso Come cazzo Parlo Non mi sento più A mio agio Si dimmi Quindi se ti tagli i capelli Dove Ti nulla Se c'era qualche Crono Mi taglio Ma Stagli i capelli No No O che signore sta pulendo la sella Hai visto Io rompiamo il culo Io rompiamo Tu non stai pulendo la mia sella Stronzo pezzo di merda Che palle Mi dovete spostare Che dirò io Un cazzo No No Un po' Tumage Un po' Tumage Ho capito Non lo lancia Guarda come è morto È morto a pecorato E niente Vabbè Legge è stata fatta signori Certo Andiamo a fare De già Trove Lì Ok Legge è stata fatta Blade Andiamo a svolgere i nostri compiti altrove Occulto il cadavere No ma che occulto Lascia C'è proprio andare a valentine su su Mamma mia Ma perché da dietro Ma si scema Pagliaccio Allora Perché fa più male Quindi Non mi sarei costo Per spegnerti JJ Eh Non esiste Purtroppo Mi piacerebbe Comandante Cagliere Cagliarra non risponda Se le rispondo poi le devo prendere a calcio in culo Allora non risponda E allora è lei proprio un coglione Una sfida di box Cosa Vorrei vederla durante una sfida di box Collega No Dammi il cappello Grazie Cavate al cazzo No Andiamo a fare un giro Un attimo che prendono a benda È già tardissimo Allora non vale proprio la pia Signori Io vi do un bacino Levatevi dal servizio Io voglio rimanere in servizio Così mi pagate di più Levatevi dal servizio Levatevi dai coglioni E niente allora signora A questo punto Direi che la giornata è passata Per fortuna Non ho più avuto problemi col cervello Incredibile Ehi Wow Big step up Sì sì per fortuna Dove stavo preoccupando Perché Diciamo Non è periodo di cambiamento Diciamo Ci stanno sordi Eh esatto Come no 3500 dollari Eh sì Wow Di converter Facciamoli diventare Dobloni comandante Sì sì Magari Comandante 3500 dollari A me vanno bene anche 250 per il consiglio Comandante No ma non sono Tomenicino Ascoltate bene Lui ingrandisce Anche perché poi c'ho I stipendi Di quelli che sono in vacanza Lì Che stanno fermentando Peccato che non ci sono L'interesse Sai quando lasci Le somme E aumentano Ne vado in vacanza A chi allora Scuoto per lei Scusa Questa mia vacanza Così tanto lunga Dove sono i miei soldi 4000 dollari Signor Diez Deve dare lui a noi Sì sì Comunque Il pubblico di Nini Si ricordano di me Ma io non mi ricordo di loro Il comandante Deve leggere I commenti Dei ricordi Viviti Ma assistente Te ne riferisce Solo ora Ma mi scusi Madonna Madonna Lei ha meritato Un degrado Ma non ho capito Che vuole Gesine Io mi domando Che cosa ho fatto Di male Nella mia vita Per meditarmi Un dipendente Come lei Lei Mi vuole bene Io voglio bene A lei Comandante Quindi a posto Così Sì Sì Sottato che Dio Mi ha voluto dare una croce Quella croce È lei Proprio Mognagno Sì la croce nel culo Ci ha dato Esatto La prima volta Che la rapiranno Chiederò Mi fai stesso Di Farle lo scalpo So Guarda Se lo vuoi vivo Devi darci Mi sa fare Sensato Oltre al danno Pure la beffa Perché è morto C'è il suo zio Ciucian Se è andato Via dei colline C'è Capito Qual è il problema Bianco Gigi E guardi Quanto se mi ha insegnato Mio zio Ciucian Guardi qua Penso Penso alle Due 27 Alle 27 Alle 300 Navi Dovrebbe pensare Arrivate qui Durante Le navi Sono tutte lì Quando amore Un jj Ma nasce un altro Non vi preoccupate Nasce jjj Poi jj Jj Buonanotte No 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 ma sei un coglione Ti hai spezzato il collo Spostati Che aveva tratto male a lei Avevo detto di spostare Volevo controllare se fosse Vivo No Si sta ammazzando Stavate Lasciamo stare Niente Fate finta che Io lo dico io Se è vivo Aspetta No 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 niente Che cavo però di non quel cinghiale sa che ha visto ha visto dei piedi forse per questo mi sembri un personaggio una notte da leone vestito è un mandito ecco chi è rapito il dottor corte alzioni le mani il nome della lecce ragazzi l'inno americano gg canti canti anche lei mi manchi sicuramente fa silenzio senti questo quando deve cantare non canta ne posso cantare elvis presley se vuole comandate già io già saprò che un futuro ci sarà un elvis presley sarà un cantante per guardi quello che posso dire buonanotte a tutti ciò che posso dire girati in favore gigantoile tirati buonanotte a tutti mi sparo un colpo in testa vi dispiace no comandare ma com'era che si ma 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 il giusto o ma che che cazzo oh mio dio oh mio dio gg a fuoco bene morto signore arriverà ggg basta va bene signore datemi il tempo che saluto delle persone comandante comandante non può cadere il sanzutane cancelliere dare ordini cancelliere 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 fare dare ordini avere tutti uomini qui oh zitto no no non mi picchiare che ne sono fatta no 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 non mi accorgo da queste e al massimo le posso dare una pizza io è questo che vorrei dire buon ragazzo stacco buonanotte a tutti Grazie a tutti.